Ringrazio Manuela, Daniele, Leonardo e tutti i giornali che hanno lavorato per questo appuntamento. È un appuntamento che potrebbe essere uno dei tanti appuntamenti formativi o uno dei tanti appuntamenti di riflessione, io credo che però accade in un momento un po' particolare. Questa è una giornata dedicata a diritti particolari, però io vorrei confermarmi prima che facciamo una riflessione sui diritti delle persone perché credo ultimamente siano un po' messi in discussione e soprattutto credo che si stia prendendo rispetto tra di noi, tra le persone, tra gli amici, tra i collaboratori al lavoro. C'è veramente, cioè si sta passando un nuovo metodo di confronto che è preoccupante. Dice uno che ha anche sempre un metodo di abbastanza, no, diretti nel confronto, però sempre diretti ma sempre con rispetto dell'altra persona. Cioè magari hai messo in modo diverso, però ti dio mal rapido, ti dio male, però io ti rispetto. Io ho la sensazione oggi, rispetto alle persone che è andato un po' a scemare, vi riporto un tre secondi giù, l'episodio di stamattina, stavamo mettendo cartelli per qui, si affaccia uno, ci ha detto di tutto e di giù. Tutto e di giù solo perché mettiamo cartelli per indicare, visto che non è un posto troppo benissimo, se non si è affacciato, la parola più calda è detto, se avete detto, voi i vostri non vedi, ecco, il dono è, il giurgo, e questo è il modo, io, sono stato anche bravo, non ho neanche risposto, se l'abbia la Paulina mi ha detto, ho quattro, ma io, sono stato bravo, di solito, di solito prendo fuoco, mi senti per gli armeni, poi non ce la vivono, non ce la vivono. Le persone che vivono nella propria condizione personale, l'erosione dei propri diritti di cittadinanza, quanto il goglimento di diritti civili, come per esempio praticare dello sport, piuttosto che vivere in contesti sicuri, la propria socialità e le proprie opportunità di socializzazione, sono troppo spesso legate alla sensibilità, all'accoglienza, alla preparazione, all'accoglienza dei contesti della nostra interlocuzione civile, della nostra interlocuzione sociale. Quindi di cui passa la storia? La storia passa dalla possibilità che poter godere pienamente dei diritti di cittadinanza non sia in capo a sensibilità dei nostri interlocutori sociali, ma che sia in un orizzonte di quotidianità, perché di questo stiamo parlando, perché il tema dei diritti, lungi dall'essere e con naturalmente l'importanza che sia istituzionale, vasto, sistemico, poi estremamente quotidiano. Salusi dell'amministrazione universitaria di Siena, porto solo di rettore, mi associo agli interventi precedenti e parto da riferimento al titolo, cui ha fatto citato ora la scuola di Dolfi. I termini differenziamenti nel vocabolario dell'università non dovrebbero essere presenti nel nostro vocabolario, per come inteso il senso che viviamo in questo convegno. E ringrazio gli organizzatori per dare l'opportunità di approfondire la tematica. Un vocabolario, dicevo, dell'università, dove invece appaiono altri termini, come conoscenza, nella prima parte, come conoscenza, come ricerca, come cura. E si aggiunge una parcare attenzione a... Grazie e buongiorno. Io credo che queste giornate di riflessione e soprattutto, come ha detto il Presidente nazionale, lo popolo, di costruzioni, di percorsi che da un livello locale passano verso un livello nazionale, sia importantissima. Non vogliamo nasconderci che viviamo in un periodo di grande emergenza, un periodo in cui diritti che abbiamo conquistato con la lotta e che datano alla prima metà degli anni Ottanta, si rischia appunto di vederli completamente perduti. E questo è il problema. Per noi, perché legati a un momento politico che lega appunto il non, cioè lo stigmatizzare la differenza, il combattere la differenza, lo lega, diciamo, all'appartenenza a una certa parte politica. E questo è quello contro cui noi dobbiamo combattere. Dobbiamo recuperare fortemente quei luoghi della socialità, a partire dalla scuola, a partire dallo sport, che sono luoghi importantissimi, importantissimi perché sono i luoghi in cui si forma il cittadino, in cui si forma un percorso di consapevolezza di democrazia, li dobbiamo recuperare e dobbiamo vigilare su di essi proponendo azioni positive, appunto, che vadano verso il rispetto. Io provengo da un'università, l'Università Fistania di Siena, che è sempre stata un'università apertissima alla differenza. E abbiamo studiato, vedo qualcuno che ha lavorato con me, abbiamo studiato negli anni come si forma invece la non curiosità. E questo è paradossale, quello che abbiamo scoperto è paradossale. Anche la non curiosità rispetto a lingue e a culture diverse cresce rispetto al crescere del livello scolastico. E questo è drammatico, perché invece dovrebbe essere la scuola, dovrebbe essere i momenti in cui si forma il cittadino, che fanno capire invece quanto è importante apprezzare le differenze. Tutto è delle differenze. Per cui lui si schiera, si schiera pienamente e si è sempre schierato. Adesso le radici di questo impegno vengono da lontano, la carta delle donne del 1985, quindi è andata la carta europea delle donne, che è stata approvata anche qui in regione toscana, e quindi in una delle copie regioni, poi che l'ha approvata, che ha dato piena legistimità a questa cosa. Però noi siamo pienamente impegnati in Toscana su questi temi in modo forte. Perché fra le tre azioni che abbiamo chiesto all'assessore Saccardi per fare un protocollo d'accordo, c'è da una parte gli anziani che io penso che in questa fase siano pericolpiti, l'ambiente su cui c'è poca attenzione, che sta diventando, come abbiamo visto, un momento di forte riflessione, e il terzo la parità, la cultura delle differenze, la tolleranza, la solidarietà, contro l'omofobia, contro la violenza delle donne, contro il bullismo, cioè abbiamo fatto proprio un'azione principale che è questo. E non è che lo facciamo soltanto a parole, perché oltre che la partecipazione anche di Pride a Rezzo, dove siamo in prima fila, abbiamo organizzato il Via Reggio e la Torre El Cap, che sicuramente molti conoscano, che è questo dare un calcio all'omofobia, un campionato di calcio internazionale di dei a cinque, e che quindi abbiamo aiutato, abbiamo collaborato in questa direzione. E quindi nelle scuole stiamo facendo tutta un'azione verso il bullismo, insomma, in poche parole, su questi temi ci siamo impegnati non solo a parole, perché poi è facile dirlo, no? E noi Luispe schierano per... No, invece Luispe qui in Toscana si impegna su questo tema come priorità e si impegnerà anche in futuro. Del resto, per noi contano i valori, non contano i risultati, non contano i numeri, anche se siamo di 125 milioni toscani, quindi non è una cosa da non considerare, ma siamo impegnati su questi terreni, specialmente in questa fase in cui veramente bisogna impegnarsi tutti, perché i diritti e i valori siano affermati, contro tutti e contro tutti. Grazie. Gioco fuori casa perché appunto vengo da Napoli, lavoro all'università, sono una psicologa clinica, insegno psicologia clinica e psicopatologia dell'età evolutiva alla Federico II, ho l'onore e l'onere però di coordinare un gruppo di lavoro federiciano che è dentro il centro di Ateneo Sinapsi. Il centro di Ateneo Sinapsi è un centro di servizi nato dieci anni fa per promuovere l'inclusione e la partecipazione attiva degli studenti universitari. Quindi l'Ateneo Federiciano, oltre ai dipartimenti, ha un centro che si occupa di promuovere l'inclusione per tutti gli studenti che si possono trovare in una situazione di difficoltà o di disagio temporanea, definitiva, per aiutarli a fare una buona esperienza di studio. In realtà, grazie al suo ormai ex direttore perché è andato in pensione da due mesi, che è stato Paolo Valerio. In realtà il centro è diventato molto altro al punto tale che l'anno scorso nella valutazione, nell'ispezione dell'armi del Ministero la Federico II ha ricevuto un punto d'eccellenza proprio per il tipo di attività che portava Ateneo Sinapsi. Tra queste attività ci sono le attività della sezione antidiscriminazione e cultura delle differenze che appunto io ordino. Che cosa fa la sezione antidiscriminazione di Sinapsi? Promuove una valorizzazione delle differenze. In chi mi ha preceduto ho sentito spesso la parola differenza, diversità, a volte usata in un'accezione positiva tendere verso una valorizzazione delle differenze altre volte nel discorso di chi mi ha preceduto c'era una sottolineatura di una dimensione invece negativa differenza come diversità quindi come una di quelle aree su cui è ancora necessario intervenire. Chi è che prende il tempo? Perché io ho un problema, inizio a parlare è sempre io che ti distruttisco ok Manuela, allora siccome tu sai che io parlo fino a dopo domani anche oltre io ho un quarto d'ora, ti dico ok, va bene, un quarto d'ora non ce la farò mai lo sai benissimo ma c'è anche nel pomeriggio le qui mi ha fatto eh lo so, ho visto che proprio perché mi conosci mi avete messo un po' diciamo sta spaiata nella giornata però perché stavo, perché mi stavo presentando perché prima si è parlato di squadra in realtà io pensavo che forse questo è anche una specie di preparazione ad un viaggio quando si parte ci si prepara in qualche modo diceva Manuela che bisogna studiare sì è vero in realtà io come rappresentante dell'università fondamentalmente invito le persone a studiare provo a sostenere lo studio delle persone a partire dai miei studi però tutte queste occasioni formative non sono solo la possibilità di iniziare a studiare ma anche di pensare perché io credo che io è un po' che faccio formazione in giro per l'Italia Manuela lo sa e la ringrazio anche sempre per la fiducia che mi dà, che dà il centro sinapsi per cui diciamo sostiene sempre la nostra presenza anche in momenti formativi come questi però non basta studiare, la verità è questa perché basta anche pensare al pregiudizio omogenitoriale la scienza da un po' di tempo dice delle cose molto precise e diffonde i risultati dei propri studi eppure questo non basta è di pochissimi giorni che siamo ritornati alla dizione madre e padre attribuendo la funzione genitoriale materna e paterna al sesso mentre noi psicologi lo sappiamo ma non lo sappiamo soltanto noi non so in questa stanza quanti genitori ci sono un po' ci sono e allora sapete bene che essere madre, essere padre è una funzione io sono qui oggi con voi vengo da Napoli questo significa che la persona con cui ho avuto i miei due figli è a casa anche per me e che ricoprerà quella che ha ricoperto quella che stereotipicamente è una funzione che avrei dovuto ricoprire io stereotipicamente questa questione dello stereotipo è una questione importante perché allora mi avete dato il compito di fare un'introduzione non so chi me l'ha dato Daniele, Emanuela e grazie diciamo per la fiducia allora io diciamo qui mi vorrei tagliare bene su questa slide perché sono dieci anni non ne posso più mi viene il vomito non la voglio guardare perché davvero non ne posso più ogni volta che vado in un posto diciamo così a parlare negli anni ho cambiato partivo dalle 30-40 slide adesso provo a ridurle con la speranza di arrivare la mia ultima slide rarissimamente ci riesco perché perché su questa slide ci sono un quarto d'ora ma all'incirca quattro ore e mezza e forse poco più insomma quando poi a un certo punto mi tolgono la parola perché perché per me ormai è un discorso ridondante vorrei andare oltre anche perché so bene che per promuovere una cultura di valorizzazione delle differenze o per promuovere diritti io come psicologa preferisco dire fare in modo che le persone stiano bene promuovere benessere promuovere benessere psicosociale promuovere benessere relazionale aiutare le persone a sentire che possono essere se stesse ed esprimersi senza aver paura in qualcuno dei saluti si parlava della possibilità di amare liberamente che è una cosa molto importante che riguarda una pallina una sfera di questa slide ma in realtà intorno alla questione di chi ognuno di noi ama c'è un universo discriminatorio infinito e riguarda come ciascuno di noi può parlare delle persone che ama della persona che ama della persona con cui dorme con cui va a letto con cui condivide un progetto d'amore la persona destinataria dei propri desideri affettivi sentimentali fantasmatici e come ognuno di noi al mondo non dipende soltanto dalla nostra identità noi psicologi lo sapete andiamo a complessificare e quindi pensiamo che la nostra identità sia un costrutto complesso multidimensionale che abbia diverse diversi punti di contatto con il contesto nel quale ognuno di noi vive come abbiamo interiorizzato come ognuno di noi introietta interiorizza le proprie esperienze e le proprie relazioni e quindi pensiamo che l'identità è un costrutto complesso perché non riguarda soltanto come ognuno di noi si pensa ma anche come il contesto nel quale ognuno di noi è nato e vive permette di pensarci e quindi l'intersezione tra dimensione assolutamente individuale intersoggettiva specifica entra in relazione ed è influenzata da come gli altri ci pensano ci desiderano ci vedono e l'intersezione l'intreccio tra intersoggettivo soggettivo sociale interrelazionale e ci sono alcune questioni della nostra identità che sono complicate una su tutte chiaramente l'identità sessuale che è un'identità complicata perché è formata da diverse dimensioni dimensioni che queste dimensioni non si sovrappongono sono differenziate no? le sfere che girano no? non si toccano tra di loro quindi immediatamente vediamo che quando parliamo delle quattro dimensioni che vanno a costituire la nostra identità sessuale che è assolutamente unica a me piace anche pensare che sia speciale è formata da queste quattro dimensioni che a loro volta sono assolutamente uniche e specifiche tutti gli interventi ho visto nel programma che seguireanno andranno in qualche modo ad approfondire una di queste dimensioni adesso io in realtà vi dirò alcune cose poi ho scelto di approfondire come il contesto influenza alcune di queste dimensioni il sesso biologico il sesso biologico sono quelle caratteristiche sessuali primarie secondarie con cui ognuno di noi è venuto al mondo e e queste caratteristiche sessuali non sempre sono immediatamente definibili come maschili e femminili mi sembra nel pomeriggio ci sono a oggi perdonatemi insomma so che c'è un collega che approfondirà tutta la questione dell'intersexualità che è importante e io vorrei sottolineare perché già rispetto alla dimensione sesso biologico che è un dato come dire oggettivo gli studiosi potrebbero dire oggettivo perché lo vediamo lo tocchiamo sono appunto quelle caratteristiche sessuali per cui quando il bambino nasce o ancora prima il medico il ginecologo dice ah signora aspetterà nascerà un bel maschietto una bella femminuccia quindi sono quelle caratteristiche sessuali definite chiaramente e che permettono al dottore di fare un'attribuzione precisa e specifica è continuo io non no vedevo dei movimenti non sapevo e vabbè lo approfondirete perché appunto non non è così esiste una percentuale anche abbastanza elevata in genere quando parlo con i ragazzi nelle scuole per aiutarli a capire dico pensate che nascono più bambini intersessuali che bambini con i capelli rossi perché intersessualità si pensa che sia rara assolutamente rara un'eccezione così come quando parlo con i ragazzi dico non tutti anche un po' per spaventarli perché a volte funziona creare un po' diciamo di suspense non per tutti si scopre alla nascita io racconto perché a volte insomma raccontare aiuta una mia cara amica ad esempio l'ha scoperto in adolescenza perché non arrivava il menarca e quindi i genitori hanno iniziato a fare una serie di indagini e hanno scoperto che la sua era una situazione di intersessualità che non era stata scoperta alla nascita chiaramente andiamo all'esatto opposto l'identità di genere che cosa è l'identità di genere? è la percezione che ognuno di noi ha di appartenere a l'universo maschile o femminile ed è una dimensione che non fitta non coincide non si sovrappone alle caratteristiche sessuali biologiche con cui siamo nati qualcuno prima di me diceva i bambini e non vuole essere diciamo una critica i bambini sono più aperti di noi adulti in realtà i bambini già dall'età di due anni e mezzo o tre anni sono in grado di definire la propria identità di genere quindi hanno già una percezione una consapevolezza sulla propria identità di genere già dai due anni e mezzo o tre anni così come vedremo quando parleremo del ruolo di genere già dai due anni e mezzo o tre anni sono in grado di dire tu sei maschio comportati da maschio io sono femmina e faccio la femmina utilizzando questo linguaggio si parlava di linguaggio condivido il nostro linguaggio importantissimo io ho preparato delle slide anche rispetto alle microaggressioni perché in realtà noi pensiamo che la lotta ai diritti sia una lotta per le minoranze sessuali o per le donne e le persone LGBT l'acronimo LGBT lo dico perdonatemi se magari dico una cosa assolutamente scontata sta per lesbiche gay bisessuali e trans è un acronimo diciamo un po' più ampio su cui diciamo varrebbe la pena continuare diciamo ad approfondire ma il linguaggio è importante i bambini già ai due anni e mezzo tre anni utilizzano un linguaggio sessista eteronormativo e genderista no ti prego Manuela sono ancora alla prima slide perché alla seconda l'ho soltato la prima è un quarto d'ora che parte vabbè salto? che faccio? vabbè quindi l'identità di genere è come io mi percepisco andiamo saltando di pala in frasca a ruolo di genere che invece è l'insieme di quei comportamenti di quegli atteggiamenti che interiorizziamo precocissimamente che sono appunto perché il genere è performato dalla cultura la Butler dice che il nostro contesto performa il nostro genere perché ognuno di noi quando è venuto al mondo anzi ancora prima di nascere ad ognuno di noi sono state attribuite delle caratteristiche stereotipate in base alle caratteristiche sessuali la prima cosa in genere che fa una signora quando sta per avere un bambino e sa che è un maschietto è comprare un po' di tutine azzurre e un po' di tutine rosa se nascerà una bambina come se il celeste e il rosa fossero dei colori che dei colori come dire celeste maschio rosa femmina e immediatamente prende corpo nella mente dei genitori prendono corpo una serie di fantasie maschietto mi piacereà il calcio femminuccia amerà ballare e ovviamente sono stereotipi anche come dire un po' greggi un po' troppo semplici maschietto sarà forte virile sarà assertivo intraprendente femminuccia sarà dolce accondiscendente ubbidiente affettuosa immediatamente ancora prima di nascere i nostri genitori ci hanno immaginato in un certo modo quel certo modo è una rappresentazione stereotipata con cui noi faremo i conti precocissimamente tra le slide che avevo preparato appunto se sei una giovane donna devi fare i conti con una serie di modelli normativi che sono estetici relazionali socioculturali questo è immediatamente facciamo i conti immediatamente con questo quando siamo ancora in fasce immediatamente il celeste nasce il bimbo c'è un fiocco celeste c'è qualcosa di celeste perché abbiamo così tanto bisogno noi adulti di fare in modo che quel bambino sia immediatamente identificato come maschio e quel maschio si tira dietro una serie di fantasie una serie di rappresentazioni perché? perché questo è rassicurante stereotipo o pregiudizio sembrano essere delle brutte parole in realtà sono delle sovrastrutture cognitive che ci aiutano orientarci nel mondo ed è importante per questo io diciamo ho una noia quando parlo di tutto questo perché io anche se vi ho detto guardate che l'identità sessuale è un costrutto complesso l'orientamento sessuale non non si sovrappone all'identità di genere quindi quando parliamo di persone trans non stiamo parlando di no anche se vi sto dicendo tutto questo e magari ve l'ho detto anche in una maniera più meno chiara saperlo non aiuta veramente a contrastare le discriminazioni non aiuta perché non aiuta? perché noi viviamo in un contesto che è l'Italia e non lo dico io e il mio non è assolutamente un intervento politico perché io sono una docente sono una ricercatrice e anche se so bene che il grosso delle cose che noi facciamo va sulla scia dei diritti io penso che il nostro compito principale non è fare attivismo perché le NGO le associazioni hanno questo compito però insieme dobbiamo portare avanti la battaglia della promozione del benessere perché tutto questo non riguarda soltanto l'orientamento sessuale non riguarda soltanto se io amo una persona del mio stesso sesso non riguarda questo riguarda come io sono nel mondo e il bullismo io preferisco parlare di bullismo legato allo stigma sessuale di genere anche se poi utilizzo la dizione bullismo omobitransfobico ma perché preferisco parlare di bullismo legato allo stigma sessuale di genere perché il linguaggio importante è quando si parla di bullismo omobitransfobico immediatamente gli adulti e a volte anche i ragazzi pensano che questo riguarda soltanto i ragazzi gay le ragazze lesbiche o bisessuali non è così il bullismo legato allo stigma sessuale di genere riguarda non soltanto la popolazione LGBT ma anche i loro familiari i loro amici e riguarda tutti coloro che non si conformano agli stereotipi sessuali di genere presenti nel proprio contesto di vita e siccome ognuno di noi trascorre buona parte della propria esistenza dentro i contesti di lavoro e i contesti di lavoro scuola azienda organizzazioni sportive associazioni culturali associazioni ricreative sono dentro un contesto un macro contesto e chiudo che funziona secondo i sistemi ideologici etero normativi sessisti e genderisti inevitabilmente io posso essere la persona più liberale del mondo ma tenderò a conformarmi ai dettami di quei sistemi ideologici inevitabilmente l'omofobia o omonegatività è sociale è è relazionale ed è soprattutto istituzionale non soltanto perché in Italia siamo messi un po' male sulla questione delle leggi perché inevitabilmente quello che si è provato a fare non nasce da un bisogno interno ma è un tentativo di rispondere alle sanzioni che le Nazioni Unite e la Comunità Europea da anni ci dà quindi non è solo una questione di assenza di leggi che sono importanti ma noi viviamo in un contesto sociale etero normativa assistisse e genderista faccio solo due esempi un po' per riagganciarmi alla questione dello sport io ho una bambina che un paio d'anni fa faceva il moto e che era molto portata per il moto in un contesto sportivo anche abbastanza buono dal punto di vista diciamo delle relazioni eppure durante una gara così un allenamento una gara di nuoto di tuffi mia figlia fa un tuffo particolarmente buono si dice? perdonatemi per cui l'allenatore che cosa fa? dice ah brava Giulia si chiama così mia figlia hai fatto un tuffo meglio di un maschio forse potremmo anche dire che tutto sommato a mia figlia poi essendo purtroppo mia figlia lei non l'ha vissuto come un complimento per cui è rientrata diciamo nello spogliatoio con un muso lunghissimo e la lacrimuccia che stava per uscire io già pensavo che chissà che cosa fosse successo che è per cui diciamo quando a me ci ha messo due giorni per raccontarmela però non è tanto questa la questione la questione è che dentro questa piscina in cui c'era questo allenatore sensibile che è insomma è una persona più sensibile e molto attenta gli è scappato perché gli è scappato un commento sessista beh a Giulia tutto sommato questo commento voleva essere un complimento il punto qual è? che il suo compagno di squadra di vasca maschietto lui hai fatto un tuffo peggio di una femminuccia perché maschio e femmina devono essere utilizzati per dare un valore alla performance sportiva che c'entra tutto questo? altro esempio e poi veramente che taccio Manuela lo sa io in genere come i carabinieri viaggio con un mio collega sono chiaramente un'università verticistica quindi io sono la coordinatrice quindi sarei in qualche modo il capo lui è viene dopo di me diciamo sempre ogni volta che entriamo in qualsiasi struttura dalla cassa circondare alla scuola del quartiere di San Giovanni all'ufficio dei servizi sociali eccetera eccetera il comune lui prego dottore io prego signora perché lui e dottore io signora perché perché utilizziamo queste parole si parlava di linguaggio è proprio questa la questione la lotta parte dal linguaggio perché in realtà il linguaggio veicola le nostre rappresentazioni stereotipate che abbiamo interiorizzato nei nostri processi di socializzazione primaria e secondaria la vera prevenzione deve essere una prevenzione primaria precocissima poi certo anche alle scuole superiori qualcosa si può fare ma vi assicuro molto poco la vera prevenzione deve partire se di scuole parliamo di scuole dell'infanzia e le famiglie i genitori perché è lì che il seme delle di questi sistemi ideologici si insedia e i margini perdonatemi la deriva forse un po' pessimista di lavoro sono sono pochissimi possiamo fare per ben poco nella mente di noi adulti qualcosa si può fare ma pochino possiamo lavorare per fare in modo che anziché travasare in una maniera assolutamente inconsapevole ai nostri figli ai nostri studenti ai nostri ai nostri ragazzi magari ci pensiamo un attimino e magari prima di dire brava Giure hai fatto il tuffo meglio di un maschio e a lui Giuseppe che schifezza hai fatto il tuffo peggio di una femmina magari ci mozzichiamo un attimo la lingua lo dite voi qui assieme a Napoli per dire ho il pizzico sulla pancia come dite morsicarsi un attimo la lingua e in quel morsicarsi capire che stiamo utilizzando un linguaggio appunto sessista generista ed eteronormativo che tanto bene a noi e agli altri della nostra società non fa applausi questa è diciamo una domanda facilitata perché ce l'ha scritto sulla pettorina quindi non era particolarmente difficile la risposta ma perché proprio lei in questo momento lei ha vinto nel 2009 il loro ai mondiali di Berlino era molto giovane un'atleta sudafricana correndo gli 800 metri piani io di atletica non ci capisco molto già lo dico quindi se sbaglio qualche termine perdonatemi poi vedete c'ha un gap dal 2009 al 2011 dove poi partecipa ai mondiali di questo posto che non so dove sia servono gli 800 metri poi vince il loro olimpico nel 2012 arriva il semifinale mondiale nel 2015 a Pechino partecipa ai giochi olimpici di Rio del 2016 ed è qui la famosa foto che ha passato un po' tutti i giornali dove c'è lei che tenta di abbracciare la seconda e la terza classificata mentre si abbracciano e lei invece viene più o meno messa da parte questo perché perché dopo l'oro del 2009 è stata messa in discussione la sua sessualità quindi con una denuncia ai comitati garanti in questo caso lo IAF che è l'International Association of the Federation viene messa in dubbio appunto proprio la sua la sua femminilità e lei è costretta dal 2009 al 2011 a fare tutta una serie di test in Svizzera per avere il certificato di femminilità non c'è mai stata chiarezza su quale sia poi la sua identità di genere perché non è stata mai svelata logicamente perché questo non deve essere importante soprattutto nella disputa di una gara quindi come ha fatto vedere prima noi abbiamo utilizzato ho fregato questo da Cristina che sentirete dopo abbiamo utilizzato lo ricordo anche per una sorta di affezione verso la squadra quindi noi siamo adesso stiamo parlando di sesso biologico il sesso biologico è una componente della nostra identità sessuale è quella che ci viene biologicamente regalata che però io vi invito a immaginare questa cosa cioè immaginatevi una retta su cui possiamo stendere tutte le infinite possibilità degli orientamenti di cui la M del maschile e la F del femminile sono solamente due punti dove quindi le persone intersessuali si possono connotare all'interno o all'esterno di questa retta quindi se parliamo solamente di maschio e femmina siamo un po' ristretti anche perché facciamo questa divisione parliamo di corpo che è la nostra struttura fisica come voi per esempio state vedendo e percependo me in questo momento con il mio aspetto che in termini medichesi si chiamerebbe fenotipo mentre il sesso biologico è quello più strettamente cromosomico quindi è quello che diciamo mi viene regalato dal 46esimo cromosoma appunto XX o XY ma le condizioni possono essere delle più varie da delle condizioni in cui i nostri cromosomi possono essere in maniera aggiuntiva quindi XXY o XXX quindi c'è un cromosoma in più o un cromosoma in meno ma questo è semplicemente la descrizione del mio sesso biologico che può non corrispondere al mio sesso fenotipico ossia a quello che è bio l'inter sessualità appunto è un inter sessuale è una persona che sviluppa naturalmente caratteristiche sessuali appartenenti a entrambi i sessi che coinvolgono i genitali esterni gli organi riproduttivi interni i cromosomi sessuali e o gli ormoni sessuali molto spesso la diciamo le varie sfumature dell'inter sessualità si sviluppano soprattutto sugli ormoni questo ve lo ripeto perché poi è importante per quello che dirò dopo soprattutto riprendendo un po' il discorso della dell'atleta sudamericana cioè sudafricana scusate molti bambini questo mi dispiace sottolinearlo perché nel 2009 lo trovo un po' atroce vengono che sono visibilmente intersessuali vengono operati alla nascita ossia la nascita viene definito senza un reale diciamo una reale necessità clinica ossia senza che questo comporti un problema effettivamente fisico e medico vengono operati e gli viene attribuito un sesso che logicamente loro non stanno scegliendo ci sono 15 forme di intersessualità riconosciute ci sono altre 60 diciamo gli ultimi aggiornamenti soprattutto nella letteratura parla di 75 varianti di intersessualità e come diceva prima per farvi un esempio l'incidenza parlando sempre in medichesa comunque la proporzione delle persone intersessuali è quella delle persone con i capelli rossi quindi non sono proprio non stiamo parlando veramente della cosa così rara aspettate che è partito in inglese allora questo è un video della è un video di una di un'associazione appunto di un'associazione di intersessuali che potrà descrivervi meglio di quanto possa fare io la loro comunità con i giovani il con i giovani che sia che con i giovani che intersessuali sono intersessuali non è un'associazione che è anche se è se qualità la sua identità, la sua biologica è una caratteristica. Often, intersex people get surgeries that they don't want and transitive people have to fight for surgeries that they don't want. I gave my mom the excuse that the internal tests were cancerous, that I would develop cancer. I didn't come up with an excuse basically in terms of the health reason is that I just said it was about the appearance. A lot of doctors are very uncomfortable with the idea that I have testes and they're still trying to get them removed, but I'm perfectly healthy and there's nothing wrong with them. I did a surgery tool and test me and told my parents to take me home and just raise me as a girl and I didn't find out about it myself until I was 12. There aren't a lot of options or medical providers going for other options. My mom would put me in dresses and she would be like, oh, you're so cute and you're so pretty. And I was like, yeah, I'm just a girl. I was put on hormonal treatment, which consisted of estrogen and testosterone. I just wanted to belong. I wanted to fit in. I didn't want to be different. So even though I knew something felt amiss, I could warm. He was very condescending. He was like, you intersex activists don't know what you're talking about. It's difficult for intersex people to find each other because from an early age we're told not to talk about our bodies. I didn't feel like I was the only one. My doctors always told me there was nobody else like me. And so it just perpetuates a vicious cycle of shame and stigma that we can't break out of. I would tell another intersex person that you are worthy. You are lovable. Your body is beautiful. You're beautiful. Intersex people don't need to be fixed. There's nothing wrong with them. I know you feel like you might not be able to get through this. I know you might have really dark thoughts. But I want you to know that meeting other intersex people and finding a community or a support group can be one of the most important aspects in your healing process. We're out there. We're out here. We're here. And I just hope you can find us. But you could find us. You're here. And you. And you. And you. You're here. I have issues with technology. You're here. You're here. But... I agree. Should I talk about intersex people. You do. You're here. You're here. intersessuale è una causa di abbandono dalle pratiche sportive perché ci sono vari studi e soprattutto c'è una bella campagna della comunità intersex australiana che parla proprio delle motivazioni per cui la comunità si allontana dallo sport e sono sostanzialmente questi i body shaming, l'idea di un corpo troppo o troppo maschile o troppo femminile rispetto all'idea che gli altri hanno del nostro corpo quindi da mostrare, quindi tutte le problematiche legate non solo al giocare, al praticare uno sport ma anche all'approcciarsi ad una vita di spogliatorio che poi anche quella è fondamentale nelle squadre, negli sport. L'impossibilità delle competizioni perché comunque ad oggi per le persone intersessuali è quasi impossibile e poi il nuovo regolamento dell'International Association of Athletics Federation per citare solamente l'atletica e rimanere sull'esempio iniziale perché le nuove regole riconoscono l'esistenza dell'intersessualità e di questo ne rendiamo merito ma i corpi delle donne intersessuali che rifiutano la medicalizzazione verranno assegnate durante una competizione alle classificazioni uomo-donna indipendentemente dal loro status legale. Questa è una parte molto dura perché chi non si riconosce nel sesso, nella sessualità che gli hanno dovuto appiccicare sicuramente non si approccerà allo sport. Castor Semenia, l'atleta sudafricana, ha denunciato questa regola nel 2018. A tuttora è in corso il riesame di tutta la documentazione ma ad oggi ci sono ancora ricerche che sono state portate avanti proprio per questo motivo per verificare l'ipotesi che i livelli di testosterone influiscano sulle prestazioni sportive sulle donne perché le donne intersessuali soprattutto nello sport subiscono una doppia discriminazione, quelle di essere intersessuali e quello di essere donne perché devono dimostrare di essere più donne di una donna. Al momento logicamente nessuno studio ha dimostrato l'ipotesi che i livelli di testosterone possano influire sulle prestazioni sportive di una donna. La IAF comunque nel 2019 continua ad eseguire il test per il certificato di femminilità necessario per la partecipazione alle gare sportive soprattutto nazionali ed internazionali delle donne a cui viene attribuito un probabile problema sul proprio sesso biologico. Grazie. La mia vita oltre a, guardi di questo, essere un attivista per i diritti LGBT sono anche un tecnico FIR della Federazione Italiana Rugby e mi occupo appunto di rugby nella mia quotidianità. Parliamo di tendità di genere, abbiamo già affrontato diversi temi, quello che andiamo a vedere adesso è proprio quello che una volta viene chiamato il sesso psicologico, ovvero chi mi sento. Come potete vedere ci sono tantissime sfumature, l'ha detto prima anche Daniele. La cosa importante che dobbiamo cercare di focalizzare parlando di identità di genere è che dovrebbe essere autodeterminata, nel senso che sono io che mi relaziono al mondo e di conseguenza sono io che posso dire se il mio corpo collima con la mia psiche o viceversa. La parola transessuale è nata negli anni 40, adesso non facciamo troppo lunga ma negli anni 40 la cosa che veniva richiesta sono i certificati di femminilità, però adesso abbiamo sentito che Daniele diceva che è l'IAF, tuttora lo richiedono. anni 40, 2019. Prima degli anni 70 in Italia soprattutto magari sentivate parlare di travestito non di transessuale perché la parola transessuale appunto veniva soprattutto utilizzata all'interno di ambienti medici. La parola travestito a livello sociale veniva utilizzata per connotare le persone transessuali. Negli anni 70 dove l'attenzione era molto mirata all'aspetto medico, medicalizzato e medicalizzante, si è arrivato in ambito sportivo alle indagini genitali e alla mappatura cromosomica. Quindi ok mi devi far vedere che tipo di situazione tu hai per poter accedere a delle competizioni sportive. Questo soprattutto per quanto riguarda le donne transessuali, poi andremo a vedere la specifica. Ho cercato di fare un intervento che andava molto a darvi degli attrezzi perché siete tutte persone che comunque hanno a che fare con lo sport e quindi mi interessava cercare di mettere tutti e tutte sullo stesso campo, scusate se utilizzo sempre i termini affini a quello che facciamo. E quindi la parola transessuale in Italia è utilizzata, all'estero non è molto utilizzata e soprattutto viene vista in maniera dispregiativa. Quindi magari se vi trovate fuori dall'Italia non utilizziamo la parola transessuale perché potrebbe essere presa soprattutto alle persone trans in maniera non troppo positiva. Spesso trovate delle definizioni F2M, M2F. Per farvi comprendere F2M F2M, F2M, quindi chi fa un passaggio dalla condizione femminile alla condizione maschile. Il contrario M2F. Prima vi ho detto della parola transessuale che in Italia comunque viene utilizzata, ha un significato anche politico che non stiamo qui adesso ad affrontare. Se utilizzare transgender non sbagliate, quindi comunque è un termine ombrello che vi permette di mettere sotto appunto a questo ombrello diverse situazioni. Situazioni appunto che non sono offensive e che quindi possono trovarci tutti e tutte concordi. Situazioni che magari non conosciamo e quindi situazioni di variabili di genere piuttosto che di genere non conforme. Questo sempre perché facciamo riferimento al discorso binario. Se parlo di genere non conforme vuol dire che è un genere che non collima con l'idea in società che abbiamo dei generi, quindi maschile e femminile. Quindi chi si trova in questo continuum, in questo comunque prima Daniel ha detto giustamente la barra, se mettiamo il maschile da una parte e il femminile dall'altra, tutto quello che sta dentro, che cos'è? Io magari posso buttarvi lì chi sono, perché comunque si parla di persone, perché molto spesso poi quando si va a portare determinati temi perdiamo un pochino il senso di quello che era il nostro focus, che siamo noi, siamo tutti e tutte noi. Lo sport, se siamo d'accordo su questo possiamo continuare il nostro intervento, nel senso che per sport cosa intendiamo? Qualsiasi forma di attività fisica che mediante la forma organizzata o meno, la partita sotto casa, pallone, è sport, che abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, il benessere a cui si faceva riferimento al primo intervento stamattina, lo sviluppo di relazioni sociali o il conseguimento dei risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli. Si parla di sport, abbiamo precedentemente visto il top perché parliamo degli 800 metri mondiali, tra l'altro la semenia, per farvi un attimo contezza, era prima a mondo, record mondiale dopo la terapia ormonale che l'hanno obbligata a fare 160esima. Quindi se pensiamo che questo sia lo sport andiamo a vedere cosa è stato fatto per cercare di mettere insieme le due cose, ovvero individuale persona, cosa vuole la persona fare, cosa porta di se stessa e cosa fa una struttura come per esempio il Comitato Olimpico Internazionale per ovviare a questa necessità. Nel 2003 prima regolamentazione, vado molto veloce perché tanto alla fine sono piccolezze però voglio farvi capire da dove veniamo e quello che attualmente riusciamo a mettere in campo. Nel 2003 dovevi aver effettuato l'intervento demolitivo, parliamo di sterilizzazione, siamo tutte persone adulte e di quello si parla, quindi devi essere sterile e devi fare la terapia ormonale da almeno due anni. Questo perché mi devi convincere che comunque il tuo range ormonale non è di forme a quello che io penso che tu dovresti avere. Nel 2016 capiscono che mettere insieme un atleta dell'Arabia Saudita, mettere insieme un atleta degli Stati Uniti del Nord piuttosto che dell'Italia era un pochino difficile perché a livello legislativo non abbiamo tutti quanti la stessa legislazione che ci permette di effettuare il cambio. Le persone transessuali comunque afferiscono a quelle che sono le leggi all'interno del proprio Stato di domicilio, di residenza. Nel 2016 se ne rendono conto e dicono va bene, facciamo così, la sterilizzazione la evitiamo, non diamo come obbligo la necessità di aver effettuato l'intervento chirurgico. Oggi che succede? Attualmente per le atlete M2F, poi dopo Natascia ci parlerà del linguaggio quanto è importante ma più volte è tornato già stamattina, le atlete M2F, una persona che è male to female, qual è l'arrivo? L'ultima, sempre la seconda, non si sbaglia mai, quindi è una donna transessuale, di conseguenza l'articolo che viene dato è al femminile perché io non sono nessuno per attribuire un post-it a una persona ma comprendo quello che la persona mi sta dichiarando e mi relaziono a quello, nella comunicazione insomma tra persone. Che succede? Cosa sono obbligato a fare? Sono obbligato a dire che per 4 anni non ci ripensano, come se uno si alzasse la mattina e dici te sei che c'è oggi? Transiziono, ok? Così, insieme al calzino a PUA, mi metto il papillon a PUA, scusate ma vengo da Perugia, è stato un periodo particolare, e insieme al papillon a PUA transiziono. Devo attestare che cosa? Che i miei livelli, ok? Di testosterone per litro siano in un certo range, ok? Quindi che comunque io abbia una carica del testosterone che sia nel range dichiarato femminile, ok? Che quindi rientro lì dentro. Soprattutto nel, calcolate che, perché i 4 anni? Sia per le Olimpiadi, nel senso che dopo che fai, inizi, poi tutti quanti i trials, no? Tutte quante le varie fasi che una persona deve superare per arrivare a fare l'iscrizione alle Olimpiadi, l'iscrizione a partecipare al comitato alle Olimpiadi, durano 4 anni, quindi comunque devi mantenere in quel range di 4 anni la stessa condizione, affinché io posso valutare che tu realmente puoi stare lì dentro, che tu hai blocchi di partenza, stai con altre donne, ripeto parlo al femminile, perché per gli atleti F2M non esistono imitazioni, nel senso che io sono una persona transessuale, giocavo prima al rugby nella femminile, nella maschile posso giocare, nessuno mi dirà mai niente, ok? Mentre per quanto riguarda le donne si, perché si riallaccia al discorso che ha fatto stamattina, ovvero le donne vivono un doppio stigma, quindi ok, se ti senti donna, va bene, però non ti operi, un po' meno, però devi averci il testo solo perché altrimenti sei troppo forte, soprattutto su una cosa che non è biologicamente stabilita come nel caso delle persone intersex, ma è una cosa che mi dici tu di essere, ok? Stiamo a livello veramente degli unicorni, nel senso che le persone che non hanno a che fare quotidianamente con questo tipo di realtà pensano che noi persone transessuali o siamo invisibili, come gli uomini transessuali, o sono talmente visibili che sono dei casi e quindi di conseguenza vi pare che magari anche queste persone si pensano di poter fare sport? Beh lo sport è benessere, abbiamo detto prima, no? E quindi dovrebbe essere veramente una situazione accessibile a tutte e a tutti per poter migliorare cosa? Non solo lo stato della persona, ma lo stato della società, perché una società che sta bene è una società che si autoalimenta, è una società che comunque riesce a stabilire anche dei collegamenti che ti permettono di affrontare le varie dinamiche della vita. Cosa viene fatto? Tanto, però quello che viene fatto, i risultati ne dà pochi. Queste sono le narrazioni famose che si hanno, che si ha delle persone transessuali. È un inganno, vi leggo soltanto quelle tre sotto, non sono dette dalla stessa persona. Nota, come viene dichiarato sui giornali, nota lesbica attivista, vi pare? Se lo dice lei, allora vuol dire che è vero, no? Perché una persona lesbica, allora vuol dire che ha il timbro dell'attivista dell'anno e quindi può dire quello che vuole. La Martina Navratilova, che tra l'altro nel suo staff anni e anni fa aveva una persona transgender, si vede che non andavano tanto d'accordo e gli è rimasta questa cosa, però comunque è la Martina Navratilova. Cosa possiamo fare? Cassetta degli attrezzi, scusate la velocità, ma mi hanno chiesto di fare una prestazione e la sto portando avanti alla grande, da sportivo. Alias, chiedere WISP lo sa e grazie alla collaborazione che avete messo in campo. Adesso per esempio per l'associazione WISP posso andare e posso chiedere di avere, di desserarmi, di accedere comunque a tutte quelle che sono una serie di strutture, anche assicurative, anche di zona confortevole, che non è proprio l'ultima cosa del mondo, cioè attraverso associazioni che contemplano al loro interno, mi contemplano al loro interno, io magari sono più portato a fare un'attività sportiva. Linguaggio, abbiamo detto prima, importantissimo. Maschietto, femminuccia, non si fa, è da maschio, io vengo dal rugby, figuratevi. Fortunatamente nel nostro sport, lo dico sempre, fino a 12 anni gioca insieme maschi e femmine. Molti dicono, ah no, ma i ragazzi, io sono fermamente convinto che in una squadra di ragazzi, una squadra di ragazzi divisa e con lo stesso percorso sportivo, nel mio sport, ok, avrebbero dei risultati nettamente differenti, ma non perché sono donne e perché sono uomini, non perché sono bambine e sono bambini, ma semplicemente perché molto spesso alle ragazze non è previsto l'accesso all'interno del campo. Molto spesso quello che penso che sia una, come dire, una limitazione, non è essere o non essere, non è avere o non avere, ma è semplicemente avere o non avere, in questo caso però possibilità, non centimetri, non pesi, non fattezze differenti, ma avere delle possibilità e le possibilità ce le le diamo noi, come tecnici, come dirigenti, come responsabili di tutti quanti gli impianti formativi che andiamo poi a sviluppare, a mettere in atto, è importantissimo far passare il meccanismo per il quale vuoi fare sport? La porta aperta. Vuoi fare sport? La palestra è aperta. Vuoi fare sport? Hai problemi per quanto riguarda, e qua vado sugli spazi, dici come faccio però? Spogliatoio è unico, c'è tutto quanto il salone con le cipolle, come faccio al bambino o la bambina che magari vedo che è in difficoltà? Per questo è importante la rete. Oh ma tu ma come hai fatto? Non ti è mai capitato? Non ti è mai capitato? Cioè mettersi in relazione con gli altri che magari già hanno avuto delle esperienze può veramente darci, dire quel famoso mano sulla fronte e non ci avevo pensato. Perché magari invece il mio collega, la mia collega che allenano nella città vicina, ma io sì, io ho fatto così. Io... Assolutamente, ce ne sono tantissimi, sia a livello logistico, a livello temporale, organizzare delle... io molto spesso c'ho ragazzi che faccio fermare al campo per fare della tecnica individuale o altre cose, li faccio venire prima. Si trova il modo, cioè non facendo, no, lui se lui o lei si devono fare il bagno, cioè la doccia da soli. Però si riesce sicuramente a trovare una modalità. E poi gli spazi, ecco, sappiamo tutti, soprattutto per chi fa sport minori, sono difficili però ci si riesce un pochino ad organizzare. Stereotipi positivi. Siamo noi i primi che limitiamo la possibilità dei bambini e delle bambini. Ma questo, vabbè, per te no. Nel rugby c'è il contatto fisico. Il fatto che devi abbracciare, no? Io c'ho due ragazzine che non giocano insieme purtroppo, nel senso che giocano in due campionati differenti perché c'ha Under 14, c'ho quelli 12-13 anni, sono divisi i campionati, però gli allenamenti li facciamo insieme. Quindi c'ho due ragazzine che ancora tengono e si allenano con i ragazzi. Molto spesso, capito, magari le prime volte che vengono dicono, ah beh, abbracciano i bambini più che altro, dico, ah, devo abbracciare all'altezza del seno, è un placaggio. Quando si capisce quello poi i problemi passano, però è come noi facciamo passare queste... Ieri c'era questo, Berlino 36, vinto, record mondiale, salto in alto, tornato a casa, prigione e medaglie, via. Oggi c'è questo, ci proviamo, situazione in alto, coppia di ragazze che fanno atletica, i 100 e 200 piani, a destra c'è una pallavolista che gioca fortunatamente ancora qua in Italia e in fondo abbiamo un astista, un atleta della Germania. Non siamo invisibili, non è facile, però è importante secondo me la visibilità, il corpo è politico e lo sport si pratica tantissimo con il corpo, la nostra visibilità ci dà anche la possibilità di creare questo, nel senso sono i miei ragazzi, sono io in campo con i miei ragazzi, però le differenze sono tante, io non vedo persone uguali, per fortuna, altrimenti non farei sto sport. Grazie a prestazione, la fortuna di aver ereditato da Luciano Lopopolo che è stato responsabile formazione di Archie Gay fino all'altro ieri e che ora è il presidente della nostra associazione e che avete visto fin qui parlare, Daniele e Giuliano fanno parte del nostro team di formazione, io adesso mi occupo di questa delega così strategica all'interno della nostra grande casa, della nostra famiglia e delle gale politiche di genere. Mi è stato chiesto di fare un quadro degli orientamenti sessuali e affettivi e poi di parlare un linguaggio inclusivo per educare appunto alle differenze e alla molteplicità. Quindi il mio intervento, che nella vita mi occupo anche di comunicazione, sono una giornalista, sarà proprio diviso in due parti. Alcune delle cose che dirò le accennate Antonella, giusto, Anna Lisa, prima di me e quindi ci vado molto veloce su queste cose. Insomma, parto dall'identità, questa è la domanda più potente del mondo, chi sono? Rispondere a questa domanda non è semplice perché ovviamente la risposta a che fare con l'identità personale, cioè ciò che ci caratterizza, usato l'immagine dell'impronta digitale non è a caso, ciò che ci rende unici e riconoscibili, l'insieme di quelle caratteristiche e poi c'è un'identità sociale, che voi conoscete bene perché abitate l'ambiente sportivo, che ha a che fare invece col gruppo, col identificarsi anche con i valori del gruppo, con le caratteristiche di un gruppo. Giocando un po' ho provato a costruire la mia identità. Ognuno di voi se fa questo gioco poi secondo me si diverte a scoprire che ci sono delle componenti che poi possiamo in qualche modo ricollocare nel nostro discorso sugli orientamenti e appunto sulle identità. Io mi sono un po' descritta così, alcune parole spero vi siano chiare, tipo femmina, donna, cisgender è una parola che poi esploreremo, bianca, italiana, casettana perché sono le mie origini, lesbica e mi piace indossare la cravatta. Perché faccio questo gioco? Perché l'identità è l'insieme di tutte le caratteristiche che ci rendono uniche, unici e differenti dagli altri, ma sono caratteristiche non statiche, non immobili, che si trasformano e sono in continuo cambiamento. L'identità sessuale, erotica, affettiva e amorosa è una delle componenti della nostra identità e come diceva bene Annalisa è una componente strategica perché dell'identità sessuale fanno parte tanti aspetti, è come un puzzle che si compone, il corpo, il sesso biologico, l'identità di genere, l'espressione di genere, il ruolo di genere, l'orientamento, i comportamenti e le emozioni. Mamma mia queste persone LGBT, quanto si complicano la vita con tutte queste differenze, però sono importanti. Noi abbiamo un po' giocato con il fiore dell'identità provando a farvele visualizzare queste componenti. Abbiamo immaginato un fiore con al centro le emozioni che sono particolarmente importanti poi per armonizzare tutte le altre componenti della nostra identità. E quali sono gli aspetti che un po' avevamo analizzato prima e che vado a spiegarvi in maniera molto più sintetica perché li abbiamo un po' stiorati. Il corpo, che è il nostro soma, è come siamo fatti, è la struttura che ci accompagna e il sesso biologico è uno dei elementi del nostro corpo. È stato già detto molto chiaramente prima di me che il sesso non è biologico, assegnato tale dalla nascita, non è un dogma, non è una roba che deve essere catalogato come maschio o femmina oppure non ha nessun tipo di altra accezione. E poi vedremo meglio perché le persone intersessuali per esempio non hanno appunto, come ha detto bene Daniele, un sesso biologico che potremmo ascrivere esclusivamente la categoria del maschile o femminile. L'identità di genere invece ha a che fare con, lo dicevamo prima, con la percezione che abbiamo di noi stessi. Il cosiddetto sesso psicologico, questa è un'espressione comune, cioè come io sento di essere indipendentemente diciamo dal mio sesso biologico. Posso nascere donna e sentirmi un uomo, posso nascere uomo e sentirmi una donna. Quindi questo allineamento non lo dobbiamo dare per scontato ed è la condizione delle persone trans, come diceva bene Giuliano. L'orientamento sesso affettivo, quanti orientamenti conosciamo. Quello maggioritario, diciamo, è l'orientamento eterosessuale, l'attrazione erotica, emotiva, sentimentale, sessuale nei confronti della persona di sesso diverso dal nostro. Non mi piace parlare di sessi opposti, ragionando sempre in un'ottica non necessariamente diciamo binaria e di contrapposizione. Di sesso diverso dal nostro. C'è l'orientamento omosessuale, che è l'orientamento dei gay e delle lesbiche, quindi l'orientamento delle persone attratte o che si innamorano di persone dello stesso sesso, del proprio stesso sesso. E poi c'è la condizione delle persone bisessuali, che è una condizione molto, come dire, soggetta alla lente, all'attenzione della nostra società. Le persone bisessuali subiscono tante discriminazioni perché si pensa di loro che siano confuse, siano in una fase, che non sappiano bene quello che vogliono, oppure dove cogliono, cogliono, insomma, lo fanno per una questione di opportunità, hanno il doppio delle possibilità, cose di questo tipo. E invece le persone bisessuali sono persone che hanno un orientamento stabile, quindi non una tendenza, non uno stile di vita, proprio un orientamento stabile, che è bisessuale. Cioè, per loro non è rilevante, non è importante il sesso, no? Della persona di cui si innamorano, da cui si sentono attratte, però non vivono, questo lo dico per fugare ogni dubbio, situazioni di contemporaneità nelle relazioni, cioè non è una forma di, appunto, tradimento, come dire, legalizzato allo sesso. L'ammesso che la condizione poliamolosa possa essere stigmatizzata, io, come dire, la colgo come tanta, come una forma di relazione come tante altre. Però ecco, c'è questo pregiudizio sulle persone bisessuali, mi fermo un po' su questo perché veramente, per esempio, anche all'interno dello sport, cioè già è faticoso dire sono gay, figuriamoci, sono bisessuale, diventa veramente, si apre un mondo, insomma, perché si pensa malissimo delle persone bisessuali, si pensa anche che abbiano relazioni spesso in contemporanea, invece non è così, insomma, non accade. Mi fermo un po' su un'altra cosa, su un aspetto molto importante, quindi vado velocemente sull'identità di genere e volevo solo precisare una cosa, che appunto intorno al terzo anno d'età, perché abbiate entro proprio la fase del linguaggio, si stabilisce appunto l'identità di genere normalmente. E un'altra cosa che volevo dirvi, proprio perché in qualche modo abbiamo attenzionato il linguaggio, è che in questo momento abbiamo già fatto un passo avanti nel non parlare di disturbo dell'identità e parliamo di disturbo di genere, però anche nel linguaggio, come vedete c'è una tendenza a patologizzare la condizione delle persone trans, delle persone che non sentono allineato il loro sesso e la loro identità di genere e questo è un compito che avete voi, quello di rimuovere, come dire, questi ostacoli alla comprensione e alla conoscenza reciproca, partendo da non percepire le persone trans, le persone appunto malate, appunto disforiche, nel senso della patologia e questo è assolutamente importante. E veniamo al ruolo di genere. Il ruolo di genere mi sta particolarmente a cuore, lo volevo esplorare con voi in modo anche un po' divertente dopo, perché ci condiziona continuamente l'aspettativa sociale che si ha sull'essere donne-uomini, quindi è l'insieme di tutto quello che ci viene richiesto, non so come altro sintetizzarlo, cosa ci si aspetta dalle donne che facciano, che provino, che pensino, cosa ci si aspetta dai uomini che facciano, che pensino e che provino. Quindi nascono anche stereotipizzazioni che si accompagnano a stigmatizzazioni, del tipo che alcune professioni o alcuni sport non sono adatti alle donne o agli uomini per queste ragioni. Nascere e sentirsi donne non è esattamente socialmente percepito rispetto a quello che dicevamo, il ruolo, nello stesso modo dalla nostra società. E le cose si complicano ancora di più quando aggiungiamo questo tassello alla nostra identità sessuale e più genericamente alla nostra identità di persone. Di espressioni di genere avete mai sentito parlare? Perché questo è un aspetto, diciamo, una componente poco esplorata, diciamo, nella identità. Perché si tratta per scontato che io debba interpretare il mio genere, proprio performare il mio genere esattamente come ci si aspetta da me. E invece, questo richiama la slide sulla mia identità, io indosso spesso la cravatta, ma non mi sento un uomo. La mia espressione di genere la declino, la mia femminilità, il mio essere donna la declino in un modo non conforme, non canonico, non ritenuto socialmente in linea con i parametri che abbiamo, ecco, tra mille virgolette. Quindi, invece, noi crediamo che l'espressione di genere sia uno degli aspetti da liberare, sostanzialmente. E questo lo dico perché anche in ambito sportivo non c'è un solo modo di abitare il corpo e anche di abitare, per quanto nello sport si usano delle divise, si usano, come dire, non c'è un solo modo di portare le cose addosso, no? Gli abiti dicono delle cose di noi e quindi ci raccontano e su questo dobbiamo essere in grado di far sentire le persone libere. Sugli orientamenti possiamo andare tranquillamente avanti a questo punto perché siamo andati... L'unico aspetto dell'orientamento che non abbiamo esaminato è la sessualità e la pansessualità. Entriamo in una cosa molto complessa, però dovete sapere che in un mondo sessuato ed ossessionato dalla sessualità, io dico che è sessofobico e sessocentrico il nostro mondo, le persone sessuali sono molto discriminate. Quindi, ecco, livello di difficoltà 100. Sono gay, lo dico all'interno dello spogliatoio, all'interno della squadra, sono bisessuale, aiuto, sono asessuale, è meglio che mi sto zitto perché penseranno che se sono una donna sono figida, se sono un uomo sono impotente. Ok? Cioè questa è la percezione delle persone che dichiarano di non provare attrazione sessuale nei confronti delle altre persone, di non aver bisogno del sesso nella loro vita per essere felici, non che non lo facciano, non che non abbiano relazioni sentimentali, amorose, magari mettono su famiglia e magari fanno anche figli, quindi di fatto non hanno nessun malfunzionamento fisico, lo dico perché siamo costituzionalmente esterni di solito e considerati anche in questo caso completamente asessuati, invece no, gli asessuali non dichiarano che non è centrale nella loro vita e sono felici così. Noi siamo il movimento pansessuale, la pansessualità è la condizione delle persone che si innamorano o sono attratte dalle persone indipendentemente dal loro orientamento e dalla loro identità di genere, quindi io mi posso innamorare di una persona trans così come posso innamorare di una persona del mio stesso sesso o del sesso diverso dal mio. Abbiamo inserito anche questi altri due aspetti che sono centrali per chi fa come voi, chi si occupa come voi di sport. Pratiche sessuali e relazioni non vanno date per scontato perché sono una componente fondamentale in luoghi di socializzazione come i vostri per attenzionare possibili discriminazioni, possibili violenze, possibili atti di bullismo. Le pratiche sessuali stanno sul piano, le relazioni su un altro, quindi anche su questo dobbiamo avere un approccio alla cultura sessuale che è aperto, che è open veramente. Non dobbiamo pensare che ci sono delle pratiche sessuali stabilite, codificate, sono adatte agli uomini, sono adatte alle donne, sono adatte ai gay, i gay lo fanno in questo modo, le lesbiche vanno in questo altro modo. E un'altra cosa molto importante che voglio sottolineare è che a volte le persone rivendicano la libertà e il diritto di separare la relazione che implica il legame, l'aspetto affettivo e l'innamoramento dalla pratica, cioè dal diritto al piacere, che non saprei come altro definire. Le emozioni sono al centro di questo fiore dell'identità perché appunto sono ciò che attivate dall'esterno o dall'interno ci permettono di codificare, classificare le esperienze che facciamo, compreso quelle erotiche e affettive. Per noi le emozioni sono una componente fondamentale dell'identità sessuale e amorosa e sono quelle che dovete attenzionare in condizioni di vita di gruppo all'interno dello sport. Veniamo al linguaggio. Queste sono le lettere che abbiamo un po' esplorato prima, sistematizzate in questa bussola, tra virgolette, per farvele vedere. Mi diverte molto dire che le persone intersessuali sono più comuni, sono tra noi più di quanto possiamo immaginare, sono l'equivalente le persone con i capelli rossi. Quindi vi direte il sacco dire questa cosa. Le persone queer sarebbe troppo complesso spiegarvelo, però insomma sono persone che non si definiscono, e voglio dire solo questo per completezza, che non si definiscono in base all'orientamento, in base all'identità, sfuggono ogni tipo di classificazione, di schema, sono persone non binarie e non comprensionali conformi, che quindi rivendicano il loro diritto di stare fuori da qualunque tipo di classificazione. E ora dove ci mettiamo con le lettere che abbiamo detto prima, che avevano a che fare anche con la mia identità, più o meno così. Gli orientamenti sono quelli che abbiamo esplorato prima, lesbiche, gay, sessuali, sessuali, etrosessuali, quindi quando parliamo di queste cose parliamo di orientamenti. Quando parliamo di persone cisgender, parliamo di persone allineate rispetto al sesso e identità di genere. Quando parliamo di persone trans, invece parliamo di persone non allineate da questo punto di vista, ma che sono felici anche così, insomma, e che non nascono nel corpo sbagliato, semmai nascono in una società sbagliata, il corpo e il sesso biologico, lì collochiamola lì, le persone intersexo, e nel ruolo di genere, nelle relazioni e nelle pratiche ovviamente rientrano tutte le persone che abbiamo analizzato. Quanto tempo ho ancora? 5 minuti, bene. Abbiamo la parentesi del linguaggio? Abbiamo un problema con il linguaggio, cioè un modo per esistere è nominarsi, quindi le parole sono importanti perché creano immaginari, creano significati e quindi un modo per allenarsi alle differenze è cominciare ad usare la parola lesbica, che non è un insulto, ma riusciamo a non pronunciarla, riusciamo a immaginare un campionario di parole per dire gay, molte delle quali come avete visto non sono parole felici, ma con le donne lesbiche non riusciamo nemmeno a dire la parola lesbica. Questo progetto fotografico mi è molto piaciuto perché appunto ha sottolineato che l'esbica non è un insulto e queste donne hanno scritto sul loro corpo alcuni degli stereotipi più frequenti legati al mondo delle donne lesbiche, chi delle due fa il maschio, non so se l'avete sentito spesso dire, oppure anche un pregiudizio rispetto al fatto che le donne lesbiche hanno un odio nei confronti degli uomini, cosa che non è vera. Ma la parola lesbica è ancora difficile da pronunciare oggi, Michela Pascali che è una nostra amica che è entrata nella segreteria nazionale del sindacato di polizia, di uno dei più importanti, forse il più popoloso sindacato di polizia CGL, è stata raccontata così dai media, cioè soltanto l'ultimo sito che vedete in fondo a destra ha detto poliziotta lesbica perché altrimenti la parola omosessuale, anche appiccicata sulle donne, passa meglio socialmente. Invece è importante dirlo con orgoglio, questa è una campagna dell'anno scorso di Archie Gay, così come è importante riuscire ad utilizzare le parole nel modo giusto. Vi salto a pieppare perché abbiamo pochissimo tempo, la parte sui discorsi d'odio, vi basti sapere che in questo momento non essendoci una legge contro l'omobitransfobia, anche i discorsi d'odio non vengono sanzionati in nessuna maniera, quindi non c'è modo di punirli, esiste un osservatorio UNAR che attenziona soprattutto i social che vi lascio immaginare e il web che cosa possono essere, però io mi sono, volevo diciamo proporvi, forse questo no, forse questo è partito, non ci abbiamo tempo, comunque il discorso d'odio, l'hai visto tu questo? Allora lo vediamo, ma due minuti lo proviamo a guardare. Oggi a Talermo Pride, gay con LG e sinistra shopper, praticamente mancava solo l'ISIS e poi tutta la spazio della mondiale era concentrata nell'unico posto. Ora, prima di vedere l'omofob a qualcuno, voi conoscete una single con un chihuahua che ami la fattorezza, dispengendo che sei una lesbica, trans, queer, autistica, poliamorosa? Sono fenomeni da baraccone che fanno schifo. Contimenti, un curriculum di tutto rispetto, quello che non si riesce a capire perché non organizzano un bel gay pride a terapia. E poi dicono che la lobby omosessuale non esiste, trasformeranno i nostri figli, scimpanzei, chiuderemo il cerchio della parentela per uscire. Beh, questa è la campagna che abbiamo fatto proprio per attenzionare i discorsi d'odio perché ci sono un sacco di caratteristiche che non mi sto ad elencare, che sostanziano i nostri discorsi d'odio. E succede anche a Siena, questo è un esempio recentissimo, raccontato dal Corriere di Siena. Di qua vedete il mio commento ai miei colleghi giornalisti, a cui chiedo a cosa serviva, cosa aggiungeva alla notizia il fatto che si trattasse di due persone gay che si trovavano in questa situazione di vissa. E questo è quello che è successo dopo il mio commento, è stato modificato l'articolo e quindi la parola gay è scomparsa dal titolo. Questo perché ve lo dico? Perché avete un ruolo importante in questa cosa, quando sentite dei discorsi d'odio non giratevi dall'altra parte, cioè potete denunciarli e potete fare la differenza. Non c'è tempo per dirvi tutto quello che volevo dirvi, volevo concludere però dicendo che, portandovi questa storia che mi ha molto colpito sul modo in cui si parla per esempio delle donne sportive, come ne parlano i media in particolare, che sono state lì in osservatorio. Il Corriere della Sera scrive di questa arbitra polacca che ha tutta una serie di caratteristiche che non aggiungono niente alla notizia, ma che servono a sottolineare, cioè servono a incuriosire lo sguardo maschile, mi viene da pensare, a incuriosire gli uomini su tutta una serie di dettagli che non hanno a che fare né col suo lavoro né con le sue competenze sostanzialmente. Tant'è vero che lei ha bisogno di ricordare a tutti che la partita la sta guidando un arbitro, non una donna vestita da arbitro. GQ Italia addirittura ha sottolineato tutta una serie di cose, un viso da bambola, un fisico bel scolpito, poi tra le varie cose studia legge, l'università fa la modetta, tra le varie cose. Questo serviva per farvi capire, sarebbe stato necessario avere più tempo per esplorarlo, che c'è anche rispetto al mondo sportivo una narrazione delle donne che non ha a che fare con le loro competenze, le loro capacità, con il loro modo di stare in campo, in relazione con i loro compagni e compagne, ma ha molto a che fare con la loro estetica, con il loro essere desiderabili o meno, o non esserlo, affatto, o con la loro parentela più o meno immediata, con l'uomo di riferimento, come in questo caso, è la sorella di, è la fidanzata di, non so quante volte l'avete sentito dire. Chiudiamo con una specie di manuale su quello che invece si può fare in un'ottica di linguaggio di genere, cioè adottando delle espressioni che danno visibilità alle donne, indipendentemente anche dal loro orientamento stesso obiettivo, rispetto ai ruoli che occupano in campo o fuori dal campo, e usiamole queste parole, cioè mi viene da dire, e chiudo così il mio intervento, che le parole sono davvero importanti, perché non sono neutre, cioè hanno la capacità di organizzare il nostro pensiero, hanno la capacità di orientare la nostra azione, e quindi sostanzialmente le dobbiamo scegliere con attenzione. Quanto sia importante scegliere con attenzione lo dimostra questo, se dico ragazzo effemminato, a cosa pensate? Pensate a un gay o pensate a una persona etero istintivamente? Eppure dico solo è un ragazzo effemminato. Se dico segretario a cosa pensiamo? Pensiamo probabilmente al segretario generale di una grande organizzazione, se diciamo segretaria pensiamo alla dattilografa o all'assistente di un manager, se sono una professoressa dove insegno, mi ha molto divertito questa cosa, nella maggior parte dei casi è una maestra delle scuole, non è una docente universitaria, se sono una direttrice cosa dirigo? Quasi sempre qualcosa che ha a che fare con i beni culturali, non sono certamente un direttore d'orchestra o il direttore di un giornale, importante. Se sono una collaboratrice a cosa penso? Penso a una corfa e invece se sono un collaboratore penso a un consulente e a un socio. Chiudo davvero per dire che le parole sono importanti. Nei vostri contesti vi troverete di fronte ragazzine e ragazzini che per la stessa ragione, ragazzini gay che vengono percepite come femminucce o donne, ragazzine che appunto in quanto donne e poi magari in quanto lesbiche, oppure in quanto donne trans o bisessuali, a queste cose sono abituate, hanno fatto il callo un po', e invece voi avete la responsabilità di reagire a tutto questo, di portare altre narrazioni dentro i contesti dello sport, a partire da un linguaggio che rende visibile ciò che non lo è e rispetta tutte le identità e tutti gli orientamenti. Per quello che può servire noi siamo qui a disposizione per approfondire. Io vi ringrazio per l'attenzione e per aver avuto pazienza per la trattamento di una scelta. È la prima volta che in segreteria nazionale c'è una persona che ha una delega specifica allo sport e questo sta proprio a rappresentare come Archie Gay nei prossimi anni, nei prossimi quattro anni, vuole avere un processo di costruzione delle buone pratiche costruttive su tutto il territorio. Questo perché Archie Gay dal punto di vista storico si è sempre occupato dello sport insieme a determinati soggetti che sono sul territorio, soprattutto la WISP che ringraziamo e ovviamente anche il CONI, ma era più diciamo dei picchi delle eccellenze dei progetti territoriali, quindi di Archie Gay territoriali che potevano meglio essere prese come buone prassi ma in più delle volte non c'era una struttura organizzata o comunque la capacità di trasportare delle buone prassi e farle rendere ovviamente operative su tutto il territorio italiano. Ovviamente il nostro lavoro è stato importante perché nel corso del tempo, appunto, grazie alla collaborazione con la WISP, siamo riusciti a fare tantissime operazioni che già prima sono state un po' indicate. Abbiamo fatto tantissimi progetti, tra cui quello di Napoli, per quanto riguarda anche la collaborazione con l'università, quindi il famoso libro Terzo Sport Fair Play, dove finalmente in ambito accademico, che non c'era, si hanno dei documenti in ambito sportivo sull'omofobia e sulla transfobia, quindi finalmente entriamo nelle università, perché le università sportive a oggi, se uno va a ricercare, difficilmente trova del materiale di analisi su questa determinata tematica. Dall'altra parte, ovviamente ci sono stati dei progetti l'anno scorso per quanto riguarda Pesaro Urbino, che è partito il progetto Pesaro in campo contro l'omofobia, e tra l'altro il 18 aprile ci sarà sempre una presentazione del libro Giochiamo anche con noi, sempre grazie appunto anche alla WISP e alla sua collaborazione. Nel corso del tempo Archie Gay è anche molto interfacciato con il CONI, e il 4 maggio 2016, con la risoluzione 2044, il Consiglio Nazionale del CONI è riuscito a inserire nel proprio statuto una norma che specificava in maniera verticale la lotta all'omofobia e alla transfobia all'interno dello sport. Questo è molto importante perché alcuni non lo percepiscono, ma inserire una normativa in maniera specifica permette poi al giudice o comunque l'azione a essere mirata. Per farmi capire meglio, è paragonabile alla legge sullo stalking alla donna. Prima della legge allo stalking sulla donna è ovvio che se veniva fatta violenza sulla donna poteva essere punita, ma siccome non c'era una legge in verticale per quello specifico reato, molte volte questo non veniva punito. Ed è per questo che noi anche con Archie Gay chiediamo sempre l'importanza di una legge contro l'omofobia e la transfobia perché è un reato in verticale e questo reato si presenta anche in ambito sportivo. Il CONI ovviamente nel 2016 quindi ha recepito questa normativa, si era impegnato ovviamente a far recepire tutte le federazioni, attualmente nessuna federazione l'ha recepito nei propri statuti. Quindi questa è un'azione che porteremo avanti e io personalmente tenterò di chiedere alle varie federazioni di inserire dentro nei propri statuti questa normativa specifica perché questi statuti delle federazioni hanno ovviamente nella loro vision, nella loro mission ovviamente la lotta alle discriminazioni, quindi ce l'hanno intensamente ma il problema riguarda dopo quando si presentano questi fenomeni giuridicamente bisogna agire e più delle volte non essendoci una norma specifica sta all'interprezzazione del giudice che molte volte può appunto sanzionare in maniera pesante e altre volte si può anche non sanzionare. Tra l'altro questa questione la sto portando avanti anche da un po' soprattutto sul territorio bergamasco in ambito anche delle multe che vengono date le sosta sportive perché due anni fa è successo una cosa un po' strana, c'era una partita di serie di maschile arbitrava una donna, ovviamente l'arbitro aveva dato un fallo e quindi c'erano dei tiri liberi e un signore dalle tribune era sceso e aveva iniziato a dire l'espica di merda, vai a casa. Ovviamente il giorno dopo la società sportiva che ospitava la partita ha preso la multa, quella società è una società che da subito aveva partecipato a Bergamo in Capo contro l'orofobia quindi passava quasi come che la società fosse contro o a favore delle discriminazioni quando in realtà il soggetto era singolo. Ovviamente il presidente della società ha allontanato immediatamente dalla persona e mi ha assicurato che non entrerà mai più all'interno del loro palazzetto. Però anche questa è una disfunzione cioè viene punita la società che tra l'altro la società era a favore cioè nel senso ha partecipato a Bergamo in Capo contro l'orofobia e quindi era proprio lei che aveva iniziato un processo di formazione contro le discriminazioni per l'orientamento sessuale. Oggi infatti vi ho portato alcuni esempi di come il progetto Bergamo in Capo contro l'orofobia si è sviluppato è un progetto che abbiamo portato avanti da Bergamo è partito nella stagione del campionato 2016-2017 poi è stata riproposta anche nel 2017-2018 qual era il focus di questa idea mia? Era quello di interagire immediatamente mettendo in interazione tutti i soggetti che in realtà interagiscono nell'ambito sportivo quindi non solo i giocatori ma le società sportive i sindaci che in chiudere volte incidono sulle strutture per tutte le palestre, per i servizi, per i spogliatoi questi tre elementi dovevano essere interconnessi l'uno con l'altro e soprattutto iniziarsi a dialogare quindi io ho iniziato andando a chiedere non tanto ai giocatori delle linee perché a me dei giocatori non mi interessa e nemmeno dei giocatori che fanno coming out a me mi interessa la società sportiva perché? Perché un giocatore può iniziare a giocare può smettere di giocare, può essere comprato da un'altra squadra quindi in realtà il giocatore si sposta cosa rimane stabile nel tempo? la società sportiva la società sportiva ha i suoi valori è quello che lei riesce a trasmettere la società sportiva assume e licenza l'allenatore la società sportiva assume licenze ai collaboratori sportivi i preparatori tecnici quindi è la società sportiva che decide strategicamente come posizionarsi per i diritti civili e la risposta che ho avuto è stata veramente positiva mi fa piacere nella prima edizione abbiamo avuto 30 squadre andavamo dalla Caglione Agnelli quindi da due di pallavolo fino al CSI quindi avevamo tutte le 8 squadre della serie B di basket maschile e oltre a quello avevamo avuto 16 patrocini dei comuni più il patrocino della provincia più il patrocino della commissione di parioportunità di questi 16 comuni 5 erano del centrodestra uno era anche della Lega questo per dire come lo sport secondo me è distinto e distante dalla politica la politica non deve entrare all'interno dello sport ma allo stesso tempo i tre soggetti come dicevo prima quindi gli sportivi, le società e la parte politica devono parlarsi e interagire per combattere l'omofobia per combattere tutte le discriminazioni all'interno del mondo e dello sport l'iniziativa era molto semplice io portavo il laccetti rainbow alla squadra chiedevo appunto alla squadra di fare le foto con i laccetti e di farle indossare o dal capitano o dall'allenatore durante tutto il campionato io poi come un pazzo giravo a vedere tutte le partite a fare le foto e i video e il 17 maggio tra l'evento finale per la giornata internazionale contro l'omofobia presentavo lo sport contro l'omofobia quindi questa è la prima immagine che per me è importantissima perché sia la BB14 che è la squadra di basket che gioca in A2 di Bergamo quando avevamo fatto l'iniziativa avevano dedicato anche una pagina interna ai loro librettini che distribuiscono quindi di solito fanno tipo 3.000-4.000 coppie tanto per dare un'idea dei palazzetti l'avevano dedicato a noi e per me questo era veramente importante perché significa che la società sportiva prendeva posizione politica e dava nel suo organo ufficiale di distribuzione informazioni che loro erano a favore dei diritti civili e prendevano questo posizionamento è una cosa molto particolare tra l'altro la BB14 all'epoca due anni fa giocava anche per la Coppa Italia aveva i quarti di finale a Bologna quindi i lacetti contro l'omofobia erano entrati anche in una partita di Coppa Italia di basket che comunque era una novità da un certo punto di vista nella giornata finale tra l'altro posso andare avanti grazie ero riuscito ad avere tutti i sindaci che erano 20 chi non riusciva aveva portato ovviamente l'assessore allo sport per me questo era importante avevo deciso di farlo tra l'altro al Palanotta che è il palazzetto di Bergamo fregandomi altamente di quelli che mi dicono c'è il problema del vuoto perché ovviamente il palazzetto tiene 3.000 persone e io mi sono detto no il tempio dello sport a Bergamo al palazzetto si fa lì punto e stop perché per me era importante dare un segnale forte era riuscito anche a venirci a trovare l'onorevole Monica Cirinna che era venuta a trovarci per quell'evento e in quell'evento una cosa che a me mi interessava maggiormente era la tagga che noi davamo ai vari giocatori o più che altro le società sportive che avevano al diritto perché per me l'importante era proprio la società sportiva era lei che trasmetteva i valori durante tra l'altro l'edizione 2016-17 ci sono stati due coming out di un giocatore e di un dirigente sportivo quindi mi ha fatto piacere ma non era quello l'obiettivo cioè non volevo avere per forza dei coming out però mi faceva molto piacere quello e ovviamente anche tra virgolette dei contatti non so come dirlo trasversali con alcuni giocatori che appunto ci ringraziavano per l'iniziativa ma che non avrebbero potuto fare comunque coming out perché erano in fase di magari trattativa con altre società sportive e quindi ancora c'è questa idea che se io mi dichiaro perdo valore commerciale cioè non vengo considerato per le mie capacità fisiche per la mia capacità di portare un altro valore all'interno della squadra da vista tecnico ma posso subire discriminazione per fortuna l'anno scorso abbiamo avuto il coming out delle GOMU la prima giocatrice di livello che fa coming out ovviamente sempre dopo ha permesso una medaglia d'attento perché prima non puoi fare niente però la cosa principale è che al giorno d'oggi la giocatrice è più richiesta ci sono cinque società top player che stanno mettendo sul tavolo non so quante mucchio di soldi per poterla avere quando sono andato a vederla al verovole a Monza perché c'era una partita quando ovviamente i giocatrice vengono chiamati quando c'è stato il suo nome tutto il palazzetto è esploso a salutarla e questo è un segnale finalmente di cambiamento molto piccolo però iniziamo almeno da quello queste sono le foto che vi ho voluto portare ancora per ribadire il concetto che noi volevamo dare cioè avevamo i giocatori i dirigenti delle squadre e i sindaci quindi per me questi tre elementi dovevano essere presenti quel giorno dove noi appunto andavamo a ricordare andavamo tutti lo scudetto come aver vinto comunque il campionato 2016-17 per quanto riguarda la lotta all'omofobia anche qui in questo caso si vede proprio come c'erano giocatori di due squadre che fanno sempre il derby tra l'altro e ovviamente l'allenatore della squadra in questo caso abbiamo anche recuperato i cartelli della campagna è ora di essere civili per quanto riguarda l'unione civile perché secondo me è ora di essere civili nel mondo dello sport è ora siamo aiutati l'altra immagine ancora che mi piace perché qua abbiamo l'insieme quindi avevamo l'assessore allo sport di Scanzo Rociate il dirigente sportivo di Scanzo e i giocatori di Scanzo che adesso giocano in serie B quello invece era Calvezano ovviamente questo assessore del PP questo invece di Forza Italia il sindaco Fabio Ferra quindi ancora per ribadire come nello sport bisogna lavorare a 360 gradi mentre qui invece mi piaceva tantissimo perché non solo il dirigente era insieme all'allenatore ma aveva portato anche la figlia e la moglie quindi la capacità di diffondere le informazioni quindi di entrare realmente nelle case anche perché credo profondamente che lo sport insieme alla scuola e alle famiglie sono i tre ruoli sociali dove una persona viene formata non solo al rispetto della diversità ma al valore della diversità e per me questo è essenziale il secondo anno ho detto cambiamo basta l'accetto e la biancafaccia allora mi sono fatto un bel cartellone con lo stopomocobie dello sport e ho chiesto a tutte le squadre di fare una foto indivisa semplicemente la società con il cartellone anche in questo caso sono sempre andato durante gli allenamenti a farmi foto e tutto e a fine campionato il 17 maggio sempre a presentare il nuovo sport di Bergamo in campo contro l'omofobia ovviamente anche in questo caso abbiamo avuto 15 patrocini più quelli della provincia quindi diciamo che siamo riusciti a ottenere un buon risultato inoltre ve l'ho portato per se qualcuno vuole tutte le foto abbiamo deciso di fare il calendario dei diritti civili allora ogni mese ovviamente aveva tre squadre dove venivano segnate ed è un calendario teoricamente infinito per il semplice motivo che nel mese venivano segnati non tanto le feste che ormai quelle siamo tutti ma le date in cui nel corso del tempo si sono votati in Italia o le Nazioni Unite o comunque le date più importanti per quanto riguarda la votazione delle leggi sui diritti civili ecco perché è un calendario infinito perché il 2 luglio indipendentemente che sia lunedì martedì mercoledì è successo quella cosa nel 1964 quindi chi li vuole poi ovviamente a vostra disposizione gratuitamente questo è un progetto che adesso si sta un attimo ristrutturando nel senso che è preso come esempio in altre situazioni come a Pesaro a Cuneo a Caserta quindi stiamo iniziando a svilupparlo mentre per quanto riguarda invece come Archigay azionale abbiamo finalmente aperto un nuovo sito che è archigaysport.it dove abbiamo iniziato a fare la mappatura delle squadre LGBT in Italia anche perché qui è molto particolare ci sono delle squadre che sono legate all'Archigay territoriale perché l'Archigay ha dato diciamo un fiero per far partire in altre situazioni come possono essere il gruppo Pesce a Milano che sono dei mutatori è nato indipendentemente dall'Archigay di Milano che deve essere messo per fortuna che deve essere messo in interconnessione l'uno con l'altro quindi questa è un po' l'iniziativa che abbiamo iniziato subito a mettere in campo cioè quello di mappare per capire esattamente anche quale sono le realtà e soprattutto fare da elemento di connettore perché più delle volte dopo aver aperto anche la pagina Instagram di Archigay Sport mi scrivevano tipo ciao ho un lavoro di Napoli ma non c'è una squadra ciao io faccio sci a Cuneo ma non c'è una squadra quindi si capisce che la domanda è alta il più delle volte c'è sempre questo un attimo staccamento tra l'argomento dei diritti civili e lo sport perché il più delle volte non venivano mai messi tanti in correlazione e dall'altra parte c'è tutto un mondo dove noi vogliamo iniziare a interagire a essere presenti e sicuramente tra l'altro saremo presenti a Luglio a Napoli per le universiadi e stiamo appunto valutando come essere presenti con un'azione anche lì abbastanza importante io vorrei lasciare anche due o tre minuti alle domande se ci sono perché vorrei non solo una lezione frontale ma mi piaceva appunto anche avere un'interazione con delle domande perché è stato un progetto che era adesso purtroppo poco tempo ma mi ha colpito molto perché ho visto che si sono aperte tante porte basta pensare alla squadra di rugby femminile under 15 di Orio dove nella seconda edizione una ragazza si era dichiarata lesbica nello spogliatoio e nessuno aveva detto ah perché già nel mondo del rugby è completamente diverso però il giorno dopo aveva ritrattato quindi i genitori spaventati da questa cosa ci avevano chiamato per fare una pizzata dopo l'allenamento dove c'erano le ragazze e tutti i genitori in fondo praticamente mi sono trovato a fare più lezioni ai genitori che alle ragazze stesse però mi faceva piacere questa cosa quest'anno la Olimpia e la 2 ha lanciato l'abbonamento per le famiglie e ci hanno chiamato subito ciao Marco mi raccomando ricordati che l'abbonamento familiare è anche per le mie amici quindi se c'è una coppia che viene e vuole seguire di fare l'Olimpia Volley c'è lo scotto famiglia non sono stato io a chiamarli mi hanno chiamato subito e lì tra l'altro io avevo rigiocato gli faccio sì a Bergamo abbiamo già tre famiglie che hanno avuto anche dei bambini con la GBA ho visto che ci sono anche degli scotti per i bambini valgono anche per noi assolutamente sì risposta ufficiale della società per me questo vuol dire tanto perché vuol dire che il lavoro che è stato fatto è passato con gli ambiti che è importante certo mi fa molto piacere questa esperienza tra l'altro come dire esperienze ce ne sono diverse da mio tipo nel mondo sportivo devo dire che organizziamo diverse attività anche per come diceva stamattina anche il presidente regionale a luglio mi pare abbiamo questo appuntamento con anche i ragazzi del Toretto organizzano un torneo di calcio e quant'altro sicuramente interesse per la palla a gol e così via la sfida è anche altro cioè il fatto che io penso ai Bucks da Bologna sono all'interno di un campionato della Wisp ma così come ci sono esperienze in Italia del CSI cioè quello con la loro storia faccia esperienza e quando Paolo Tragatti ci dice cosa si dice nel spogliatoio ah si stasera andiamo a giocare con i gusoni che è il termine che viene usato appunto un po' bolognese e quant'altro e poi dopo quando ci ritroviamo che appunto i gusoni vincono perché è una cosa che è quella tu giochi bene sei bravo sei e alla fine come dire questo è diventato anche un modo per così appunto è una va benissimo proteggere delle situazioni protette ed è importante perché la prima richiesta è questa per me diventa anche importante capire come io mondo sportivo rendo più accogliente quel campionato quel torneo e dare quel tipo di continuità questo deve essere una cosa che comunque è importante poi ci vuole del tempo ci sono i ragazzi del box qualche altra esperienza io credo che l'obiettivo come mondo sportivo che dobbiamo porci è proprio questo quindi partiamo dai tornei partiamo dal momento di sensibilizzazione partiamo anche da momenti di incontro di conoscenza all'interno dei nostri campionati finali di calcio di pallavolo che altro possiamo avere un momento in cui come dire cerchiamo in qualche modo di contaminare passiamo questa termine le variette insomma esperienze credo che questa sia una delle sfide appunto anche da vedere magari nei campionati nelle finali delle nostre discipline cioè la WISP organizza come dire tutte le discipline nel momento in cui facciamo un campionato siamo di pallavolo di calcio abbiamo migliaia di persone e quindi la sfida è questa e quindi questo credo che sia davvero un terreno di lavoro per me importante ecco quindi assolutamente infatti la ad esempio la Cimes Valley Bergamo che è nata su questo due anni fa fa il campionato del CSI perché io ho detto subito la squadra deve fare un campionato ufficiale quindi siamo affiliati all'SD3 tra l'altra società che ci ha permesso di dare affiliazione senza alcun problema facciamo un campionato e le prime partite si sentiva dalle altre parti ok oggi giochiamo contro la squadra dei gay perché poi ero ovviamente in realtà avevamo anche un etero per il primo anno quindi in realtà quello non è però diciamo che passava un po' questa idea mentre il giorno d'oggi ci chiamano anche dopo le partite ufficiali per fare degli allenamenti e delle amichevoli quello che mi ha fatto più piacere è stata due settimane fa che la squadra di pallavolo della Guardia di Finanza perché a Bergamo c'è l'Accademia ci ha chiamato quindi siamo entrati nella Guardia di Finanza a fare un amichevole sembrano poche cose però in realtà si muove e soprattutto ci chiamano come squadra e questo mi ha fatto molto piacere ovviamente io vado sempre perché lì non ho detto scusate ma a ogni partita io mi stampavo in un bel volantino con l'elenco delle squadre e i nomi dei dirigenti che avevano aderito e le distribuivo su tutte le tribune possibili immaginabili e vedevo delle reazioni belle comunque perché credevano il foglio lo leggevano sì ogni tanto lo guardavano strano però poi lo riguardavano lo chiudevano e lo portavano via solo due volte ho trovato dai ragazzi che lo strappavano però in realtà la risposta non era negativa quindi quindi grazie 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 un tema io ho un'altra estrazione giuridica mi occupo di altri campi ma sono abbastanza simili mi occupo di diritto del lavoro e di diritto dell'immigrazione intanto sicuramente il tema e come dicevo nella pausa di bullismo e cyberbullismo me ne occupo nell'ambito universitario quando facciamo orientamento nelle scuole orientamenti in entrata nelle scuole superiori spesso ci viene chiesto anche di affrontare questa tematica perché nelle scuole è un profilo molto molto importante non a caso e colgo l'occasione per dirlo sapete che nel 2017 è stata emanata anche la legge 71 proprio per di prevenzione e di tutela dei minori e contrasto al cyberbullismo allora il tema che mi è stato dato è interessante e si con catena interrelazione in modo abbastanza evidente se vogliamo non in prima battuta perché uno pensa che possono essere due fenomeni distinti e separati legati ai cambiamenti che nel tempo la società ci ha portato e ci ha abituato ad avere ma che nella realtà più passa il tempo e più ci accorgiamo invece che camminano spesso di cari passo anzi per usare una metafora che Moro a suo tempo disse e sconvolse il mondo sono delle convergenze parallele perché allora i due fenomeni chiaramente vivono alquanto meno sotto il profilo dell'individuazione giuridica del termine dei riflessi che ne conseguono vivono di vita propria il bullismo è uno dei tanti tantissimi fenomeni che sono dentro questo grande contenitore che chiamiamo mobbing e spesso utilizziamo il termine mobbing in modo errato ma il mobbing nella realtà è un contenitore di fenomeni fra i quali c'è anche il bullying tipica espressione di un modo di vessare di prevaricare il soggetto più debole nell'ambito delle organizzazioni diciamo quelle più non lavoristiche ma organizzazioni dove ruotano tanti soggetti il mobbing e il bullying è l'evoluzione se vogliamo del nonnismo delle caserme del nonnismo dei collegi e quant'altro non ha nulla a che vedere anche se i tratti di tutte le particolarità dei vari profili delle varie accezioni che è il mobbing che è chiaro hanno tratti comuni che siano molestie sui luoghi di lavoro che siano vessazioni sui luoghi di lavoro che siano altre tipologie in altri ambienti il tratto comune è sempre quello c'è il soggetto prevalente che nelle accezioni appunto di bullying e quant'altro è spesso è un soggetto di gruppo è un gruppo di soggetti che assume la figura del mobber per così dire e ecco che allora il bullying visto in questi termini si inizia a correlarsi in modo più chiaro si fa più chiaro il collegamento fra bullismo e omofobia mentre il bullismo ha sì tratti come dire che rappresentano e si dipanano anche a macchia d'olio nell'ambito della società l'omofobia invece è trasversale ha una trasversalità molto particolare perché è qualsiasi atteggiamento non necessariamente di gruppo ma solo qualche volta anche per ignoranza ora passatevi il termine non voglio difendere l'omofobo ma spesso abbiamo sentito stamattina io ho ascoltato con molta attenzione sono state interessantissime le relazioni perché spesso ci sono dei luoghi comuni e delle parole che vengono dette senza consapevolezza ora ho apprezzato anche quel meccanismo dei numeri legati ai soggetti con i capelli rossi e permettetemi una frase che io da romano sentivo dire spesso nella mia adolescenza e quant'altro tanto sono stati usati toni abbastanza forti stamattina lo posso anche dire uno degli elementi per marcare parlo degli anni 60 e 70 per marcare la differenza sui soggetti con i capelli rossi era Aroscio ripassa domani che oggi è Moscio poi si è persa questa questa però io me lo ricordo come un non come un sogno ma come una verità non erano tantissimi questi ragazzi con i capelli rossi però già erano era più diciamo come dire più istrionico e quant'altro però insomma quel poro ragazzo io ce ne avevo un paio a scuola sentirselo dire un giorno sì e un altro no al di là della battuta e del sorriso non era una cosa molto molto piacevole però sono sopravvissuti e quant'altro probabilmente poi l'attenzione morbosa si è spostata ad altre figure minoritarie di genere e allora dicevo questa correlazione questo questo aggancio diventa automatico perché dove ci sono forme forti incisive ormai quasi consolidate di atteggiamenti vessatori in particolar modo di gruppo è molto più facile che il soggetto destinatario di questi atteggiamenti come nel caso dell'omofobia sia più facilmente aggredibile da parte del gruppo a maggior ragione se ragioniamo e qui mi riaggancio alla legge del 71 del 2017 a maggior ragione se come attualmente è le nuove tecnologie questo socializzare con strumenti mediatici che oggigiorno ci aiutano nella vita ma ce la condizionano anche ecco che allora questa correlazione fra il bullismo e il e l'omofobia diventa una miscela esplosiva micidiale è un po' come unire la nitro e la glicerina che di per sé potrebbero dare problemi vanno come dire per usare un termine poliziesco vanno attenzionate però messe vicino o fatte anche incidentalmente convergere il rischio è molto 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 forte come 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 provare in un certo qual modo a vedere se questa correlazione da esplosiva possa diventare non esplosiva beh chiaramente la domanda è retorica e la risposta è quasi impossibile darla perché sono due fenomeni che andrebbero combattuti in modo e contrastati in modo autonomo perché contrastare l'uno automaticamente e in buona misura quantomeno in quell'ambiente dove è più sviluppato il bullismo presuppone che venga sia ridotta anche l'approccio e così l'invasione l'incidenza negativa sul meccanismo dell'omofobia la particolarità e la difficoltà di superare questo aspetto è data dal fatto che queste due componenti trovano dei tratti comuni e delle facilitazioni nel modo di realizzare i comportamenti molto molto forti è chiaro è normale ma dico normale dal punto di vista patologico ma dal punto di vista logico è normale che il il bullo o comunque il il giovane quando si parla di bullismo si parla normalmente di giovani si parla spesso di minorenni si parla spesso di ambienti appunto come la scuola lo sport o altre aggregazioni di vita fuori della famiglia caratterizzano questi comportamenti il gruppo che nel bullismo normalmente c'è il gruppo che ha un leader uno più leader normalmente uno con i suoi con i suoi attendenti le prime quasi una gerarchia militare se vogliamo e c'è l'adesione incondizionata da parte del gruppo della base del gruppo a questi personaggi nel leader vede l'espressione di raggiungimento di obiettivi pertanto la sua adesione il suo comportamento è non solo attuativo delle direttive delle regole ma è emulativo anzi spesso è anche più che emulativo il giovane all'interno del gruppo ha degli atteggiamenti si propone in modo ancora più forte evidente proprio per attirare l'attenzione del leader e non tanto per salire la scala gerarchica del gruppo ma per porsi in una situazione di considerazione da parte del leader se allora noi ragioniamo in questi termini e lo vediamo sotto il profilo di questo aspetto così diciamo sociologico anche psicologico del gruppo gioco forza diventa più facile aggredire e vessare il soggetto in una posizione di debolezza normalmente se mettiamo un attimo da parte l'aggressione omofobica il bullo il bullismo verso chi si rivolge nei atteggiamenti verso il compagno più debole la compagna più grassa la il compagno più timido il compagno meno il secchione il non fidanzato o la non fidanzata e sfrutta questa questa debolezza questa situazione che non necessariamente è una debolezza ma lo diventa in questa idea di accerchiamento perché tanto è un fenomeno di mobbing pertanto come ci hanno insegnato gli etologi che hanno studiato per primo il fenomeno è un accerchiamento tomob accerchiare e allora a maggior ragione se la mia il mio soggetto a cui do queste mie attenzioni morbose vessatorie ha ulteriori profili di debolezza perché si discosta da quello stereotipo che riteniamo a torto a ragione più a torto a ragione la normalità gioco forza l'omofobia diventa uno sparring partner passatevi il termine molto forte di questo binomio proprio per la particolarità della vittima il mobbizzato nel rapporto bullismo omofobo ha tratti caratteristici personali o correlati perché è figlio di una coppia gay perché è il terzo figlio di un terzo rapporto parentale nato con questo meccanismo delle famiglie allargate perché è stato adottato perché è di colore perché ha un fratello omosessuale perché frequenta omosessuali perché frequenta ambienti particolari in alcune situazioni di bullismo viene aggredito il giovane che magari ha frequentazioni completamente diverse dal gruppo e che sono minoranza all'interno di un gruppo più allargato è degli scout frequenta l'azione cattolica va in parrocchia diventa una prega più facilmente aggredibile e in questo meccanismo i sociologi ci dicono che in un certo qual modo il mobber il bullo è agevolato perché il mobizzante gruppo singolo che sia anche se il bullismo normalmente è quasi sempre un fenomeno di gruppo abbiamo detto capeggiato veicolato fortemente personalizzato dalla personalità del leader del gruppo ma è comunque un fenomeno di gruppo anzi spesso i leader si divertono anche a testare l'affidabilità dei partecipanti al gruppo dandogli proprio delle indicazioni un po' come avviene nei collegi inglesi in quei gruppi in cui c'è il rito d'iniziazione fammi vedere se sei io ricordo sempre col sorriso sulle labbra perché poi ero uno spaccato di vita gli anni 50 se vi ricordate gris gris c'era il gruppo delle pink lady delle donne c'era il gruppo dei maschi poi lì era tutto era alcun musical pertanto ruotava tutto un po' sull'aspetto ironico e istrionico del meccanismo però ero nei collegi anglosassoni inglesi americani già negli anni 50 c'era questo questo meccanismo con forti ridi di iniziazione spesso quasi votati al al sacrificio estremo pertanto in questo meccanismo di gruppo l'omofobia diventa un tratto portante e un tratto spesso anche unico delle azioni di bullismo perché essendo molto trasversale abbracciando come abbiamo visto stamattina un un panorama un ventaglio ampio quasi infinito di possibili differenziazioni di genere e non solo di genere o comunque di genere anche correlato ad altre situazioni è chiaro che i bulli il gruppo di bulli trova terreno molto molto fertile e vi dicevo che di tutto questo i mobber i mobber bulli ne traggono un ulteriore vantaggio perché sfruttano una sorta di di utilizzo indiretto la sofferenza interiore la somatizzazione che il mobizzato soggetto aggredito in quanto in quest'idea di omofobia ne trae nella sua vita privata più il soggetto è debole più reagisce in modo debole più somatizza quell'aggressione e più il mobber ne trae vantaggio anche questo è un aspetto che abbiamo visto essere trasversale nell'ambito di tutte le tipologie di mobbing uno dei tanti tra l'altro luoghi comuni che spesso capita e tanto in questi termini è la reazione in generale che ha la collettività si aprono dibattiti c'è il fenomeno il caso si aprono dibattiti la tavola rotonda gli esperti si aprono su un luogo su un'idea che sembrerebbe secondo questa loro interpretazione la panacea di tutti i mali bisogna ripartire dalla scuola bisogna ripartire bisogna parlarne bisogna che sia la scuola come se ce ne sono chiaro la scuola abbiamo detto è un punto fondamentale nella crescita nell'ambito della società dopo la famiglia viene la scuola poi i gruppi sportivi le aggregazioni della società ma la scuola è il secondo pilastro della società è normale che il bene il male definiamolo così di una società passi anche per la scuola e non può non vedere la scuola attore protagonista di questo meccanismo ma non è che può essere solo la scuola il veicolo portante di questo aspetto tanto che dal giurista non posso non dirlo il profilo in particolar modo del minore il minore mobber in un modo o nell'altro si trascina dietro in maniera chiara ed evidente l'irresponsabilità della famiglia l'articolo 2087 2048 del codice civile è molto chiaro e c'è una recente sentenza della Cassazione che ha condannato i genitori di un minore che aveva avuto dei comportamenti eccessivamente vessatori nei confronti di un altro tanto da regargli un danno ma questa è della Cassazione ma c'erano tantissimi anche dei giudici di merito dei giudici di merito tra l'altro visto che essendo materia trasversale se ne occupano tutti cosa di questi giorni eh gli psicologi l'ordine nazionale degli psicologi ha avuto un'audizione recentemente alla camera alla commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nell'ambito dell'indagine ricognitiva su bullismo questo è il bullismo ebbene i sociologi scusate i psicologi hanno detto che è maggiore il rischio di bullismo se i bambini vanno al mito molto piccolo dicono psicologi e l'hanno detto alla commissione secondo loro andare troppo precocemente in un'aggregazione chiamiamola scolastica per capirci ma non è scolastica il nido secondo loro eh aumenta il rischio che crescendo diventeranno i bulli o quantomeno non saranno insensibili alla possibilità di entrare nel meccanismo del bullismo ora probabilmente se l'hanno detto l'hanno detto a ragionveduta perché immagino che avranno fatto uno studio su questo o quantomeno avranno dei riscontri che li ha portati a ragionare in questi termini così in modo per fare un po' l'avvocato del diavolo potrei dire che ci potrebbe essere un fondo di verità l'unico fondo di verità fra virgolette che potrei intravedere è il fatto che andare al nido troppo presto vuol dire uscire troppo presto dalla famiglia avere questo disagio nel rispetto alle nostre generazioni magari sono cresciuti un po' più nella famiglia una famiglia un po' meno meno presa e meno frenerica di quella attuale pertanto vivere probabilmente una situazione che dovrebbe essere di utilità trasversale utilità per il bambino per crescere utilità per la famiglia di avere una collocazione idonea mentre non possono dedicare per ovvie ragioni del tempo a questi bambini probabilmente questo studio partirà è un'ipotesi tutta mia è una costruzione tutta mia non ne trovo altre partirà dal presupposto che essendo nel nido entrano troppo presto in un contesto organizzato entrare troppo presto in un contesto organizzato dove comunque ci sono chiamiamole delle regole dove comunque c'è un tipo di vita quotidiana o parzialmente quotidiana non più calibrata sulla famiglia e nel rapporto con il genitore con il nonno e quanta calibrata anche su altri soggetti della stessa età o vicini porta probabilmente a questa che definisco una competizione antelitteram e automaticamente siccome è vero che fino a una certa fascia di età i bambini sono lo specchio della verità e della trasparenza però sono anche tremendi i bambini a quell'età la loro genuinità e spontaneità gli fa dire cose o gli fa prendere sono delle spugne ci insegnano a quell'età i bambini pertanto probabilmente le differenze fra di loro differenze anche di genere o di attitudini o di comportamenti di vita anche anche i bambini di 3-4 anni riconosceranno che un loro coedaneo è più timido è più debole un po' più grassetto e pertanto penso che sia quella la chiave di volta di questo ragionamento degli psicologi che già a quell'età andando al mito probabilmente anticipano questi profili queste situazioni che diversamente una volta iniziavano probabilmente in età più avanzata io credo che sia capitato a tutti noi già al mito e all'asilo forse no ma a qualcuno forse sì ma già dalle elementari spesso per gioco prendevamo in giro il soggetto più debole io quando ho fatto le scuole superiori con Tiberio Claudio e però ho un'estrazione particolare pur essendo diventato un giurista ho fatto un istituto tecnico in cui in tutte e cinque le classi per tutto il periodo c'erano solo due donne tutto l'istituto solo due donne che erano il bersaglio sistematico ma non perché erano donne perché erano la minoranza e in un istituto tecnico ora ce ne sono molto di più un istituto tecnico chiaramente questo meccanismo comportava un po' di goliardia ecco qual è il confine la linea di demarcazione fra la goliardia e il bullismo qual è la linea di confine fra l'ironia la satira e l'aggressione questo è un qualcosa che anche qui si fa male a rispondere perché è ugualmente trasversale lo possiamo applicare in tutte le situazioni basti pensare ultimamente come vengono stigmatizzate anche stamattina è stato detto stringo finisco una notizia sulla stampa se ne parlava l'altro giorno in dipartimento per altre ragioni allora acceso dalla gelosia non mi ricordo che un colombiano uccide un algerino perché il colombiano e l'algerino perché dare l'etichettatura di un genere di una situazione a un caso che giustamente deve andare alla cronaca per la sua efferratezza però perché sembra quasi quell'associazione assurda che poi trascina il pensiero delle persone comuni che a quell'indicazione di genere gay omosessuale magrebino slavo nigeriano nero e quant'altro vada associata alla tipologia del reato del comportamento ecco questa è un'altra cosa all'opposto da un'altra angolazione che secondo me è ugualmente la possiamo definire non omofobica ma la possiamo definire sicuramente come approccio non corretto in particolar modo fatto dagli organi di stampa un'ultima cosa proprio per chiudere il cerchio di questo parallelismo fra bullismo e omofobia è chiaro che le statistiche qui sociologici dicono che è molto diffuso l'Italia è molto diffuso in Italia e i principali punti di diffusione sono appunto la scuola lo sport l'associazionismo tutte quelle aggregazioni dove in un modo o nell'altro anche partendo solo dal gioco dal farsi bello perché poi nel gruppo dei bulli chi è il soggetto che agisce materialmente è il più debole del gruppo che a sua volta sembra strano ma è uno mobizzato perché questo vivere di luce riflessa questo tentativo di apparire il più bravo per far vedere e entrare nelle grazie dei livelli superiori di quell'organizzazione sicuramente manifesta un ulteriore elemento ugualmente di debolezza pertanto a mio modo di vedere è un bullismo interno indiretto che non fa altro che peggiorare poi l'economia complessiva in queste dinamiche grazie mettere bene a fuoco quello di cui stiamo parlando bullismo cyberbullying sono delle parole molto usate ci sono delle parole di moda si io faccio come se stessi a casa mia Emanuela perdonami cioè bullismo cyberbullying inclusione a certo punto stamattina si è parlato anche di inclusione ci sono queste parole che sono di gran moda però è veramente molto importante capire quando usiamo un termine se lo stiamo usando in maniera appropriata questo magari può essere come dire argomento di un altro corso perché per parlare di bullismo è importante che ci siano alcune situazioni alcune condizioni altrimenti non è bullismo ed è disturbo del comportamento aggressività violenza e altro ma non è bullismo è un rischio mettere dentro questa parola fenomeni che hanno altre caratteristiche quindi avendo altre caratteristiche implicano poi delle strategie di intervento e di prevenzione specifiche cioè io penso che come psicologa la cosa importante è capire noi che cosa su cosa vogliamo agire di che cosa ci stiamo occupando quindi che cos'è quello di cui stiamo parlando e anche cosa non è quello di cui stiamo parlando però questo è il collega diciamo ascoltato alla camera mentre avvolgo il nastro per ritornare dove eravamo prima della pausa pranzo e io diciamo quello che ho proposto a Manuela ma anche agli altri colleghi insomma sento che poi abbiamo fatto pur non avendolo condiviso abbiamo fatto un lavoro che aveva la sua continuità cioè veramente ho molto apprezzato che siamo riusciti diciamo a non presentare interventi scissi ma che approfondivano aspetti specifici e quindi se siete d'accordo guardo i colleghi che mi hanno preceduto in mattinata vorrei riprendere da lì e utilizzare questo tempo che ho a disposizione un po' per provare a mettere a fuoco perché poi di tutto questo ce ne dobbiamo occupare dentro i contesti sportivi e poi veramente provo a prendere non più di dieci minuti e poi veramente lasciare un po' la parola a voi nel senso che penso che vi abbiamo cioè no la prima cosa in genere che insegnano è che dopo venti minuti la curva dell'attenzione è scesa in maniera catastrofica ed è difficile riprenderlo per quanto abbiamo tutti utilizzato delle modalità un po' da da jolly da trattore però effettivamente credo che non ne potete più disentirci però vorrei fermare la vostra attenzione su questo per poi lanciarvi una domanda vorrei lanciarvela insieme ai miei colleghi della mattina diciamo allora in realtà penso che quello che ci siamo detti lo possiamo sintetizzare in questo modo e cioè che il mondo sportivo che non sta sulla luna su Marte o sul cucuzzolo della montagna e se la canta e se la suona da solo in realtà non è esente da queste logiche di cui abbiamo tutti un po' parlato e che riguardano appunto il pregiudizio genderista sessista eteronormativo e omofobico transfobico e che questo succede perché lo sport è un contesto situato è un contesto relazionale situato perché chiaramente influenza ed è influenzato dalle norme esplicite e implicite della società questi famosi sistemi ideologici di cui stiamo parlando è relazionale perché è basato sulle interazioni tra gli attori sociali è formativo e questo penso che è uno di quegli obiettivi che vi tenete stretti e vi dovete tenere come dire stretto proprio difendere con con tutte voi stessi collabora il riconoscimento identitario del soggetto questo è qualcosa di molto importante che è avvenuto negli ultimi anni cioè che mentre prima la scuola deteneva il primato della formazione identitaria dei nostri ragazzi bambini eccetera eccetera adesso in realtà si inizia a parlare e si riconosce si riconosce con testi sportivi l'importanza di essere protagonisti della costruzione e del sostegno dei processi identitari dei nostri ragazzi io vorrei anche aggiungere una piccola parentesi questo riguarda i nostri ragazzi i bambini i ragazzi ma fondamentalmente riguarda anche noi perché io penso che quando parliamo di tutto questo ci dobbiamo anche dire che poi ci siamo anche noi dentro queste relazioni e anche un commento una battuta che non è mai una battuta quel video bellissimo di Archie che ci ha fatto vedere tu in fondo ci dice proprio questo non fa ridere non è uno scherzo no non ci vuole quando parlo di bullismo nelle scuole dico è scherzo quando io prendo in giro sé tu prendi in giro me né io né te abbiamo una coltellata un punto come dire un pizzico sul fianco per cui emotivamente ne risentiamo se ci stiamo veramente divertendo e nessuno di noi sente un pizzicottino allora quello è scherzo ma se magari quella battuta omofoba che stiamo facendo non riguarda nemmeno te perdonami se ti utilizzo però io ho la mia migliore amica mia sorella mia cugina che sono in un momento delicato perché hanno difficoltà a fare coming out perché hanno subito una discriminazione quello non è più scherzo è una delle cose che ho imparato negli anni che quando parliamo di tutto questo alle persone noi stiamo anche toccando le loro storie Manuela si ricorderà che l'anno scorso durante un'esperienza di formazione in un comune della provincia di Napoli stavamo parlando di bullismo legato allo stigma sessuale di genere c'erano diverse persone molte persone presenti a un certo punto mentre io stavo parlando una persona si alza e scappa via scappa via in una maniera tale che io e tutti quelli noi presenti avevamo sentito che io con le mie parole avevo toccato qualcosa la volta successiva quel signore raccontò appunto insomma che era lì perché rappresentante di un'associazione sportiva del comune di quel territorio e che questa associazione lui in realtà l'aveva fondata in memoria del figlio che si era suicidato a 17 anni perché vittima di bullismo omofobico nel suo istituto cioè caspita una coltellata nella pancia no allora io penso che noi dobbiamo essere coscienti che che quando parliamo stiamo da qualche parte toccando la storia delle persone sempre magari è una storia lontana magari è una storia che hanno soltanto sentito però però li stiamo toccando e quindi dobbiamo essere cauti da una parte dall'altra invece sostenere l'impegno di noi adulti per questo puntino qua che c'è un obiettivo formativo perché abbiamo un ruolo come adulti come educatori come insegnanti come docenti a volte anche solo come genitori e dobbiamo stare attenti non abbassare mai la guardia perché una cosa è vera del bullismo che in genere non è manco tanto vero ma in genere non avviene sotto gli occhi di un adulto a volte avviene anche sotto gli occhi di un adulto perché l'adulto non è capace di riconoscere e pensa è uno scherzo ha fatto una battuta che c'è di male si stanno un po' punzecchiando no e non è così non è mai così quello che però è grave che di tutti i dati tutte le ricerche sul bullismo di qualsiasi tipo dicono che difficilmente viene chiesto aiuto ad un adulto significativo rarissimamente perché perché noi adulti è difficile che riconosciamo e diamo credito a quello che i nostri ragazzi ci dicono tendiamo a giustificare tendiamo a minimizzare molto spesso questo è legato come psicologi noi direi in moio direi è legato al fatto che poi sappiamo che abbiamo un ruolo e quindi in qualche modo c'è un tentativo di disimpegnare la propria condotta morale però questo magari riguarda sempre un'altra puntata andiamo avanti sport quindi è un contesto situato relazionale e formativo voi questo già lo sapevate oggi però sappiamo un'altra cosa che è un contesto fortemente sessualizzato cioè lo sapevate già oggi lo sappiamo perché ce lo siamo detto abbiamo no negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto prima si parlava di corpi no corpi toccarsi lo spogliatoio la doccia c'è il contatto fisico tutto questo è chiaro che crea delle turbulenze emotive delle dimensioni emotive che vanno tenute sotto controllo lo sport i contesti sportivi dall'inizio della nostra storia hanno affrontato tutto questo tenendo separati i maschi dalle femmine lo diceva bene l'istruttore di rugby stamattina perdonatemi è andato via però ricordo diceva bene insomma come ci mi devi toccare abbracciare no insomma oggi noi sappiamo perché ce lo siamo detti che lo sport è un contesto eteronormativo e in quanto ambiente fortemente sessualizzato con le turbulenze da tenere sotto controllo si fa da garante di questa separazione tra il maschile e il femminile ovviamente i contesti sportivi non stando sulla luna su marte si conformano a i sistemi ideologici attivi nel macro contesto e quindi utilizzando un termine della battler potremmo dire che anche lo sport quindi performa il genere eh? eh sì che ci piaccia o meno è così e allora che cosa succede? come fa per formare il genere nonostante le sue buone intenzioni attraverso il fatto che l'atleta è maschio è maschio ma ha alcune caratteristiche è forte competitivo aggressivo assertivo se è una donna un'atleta iniziano a esserci un po' di dubbi no? ma questo lo capiamo bene anche anche nelle aziende un manager una direttrice assertiva forte insomma ma c'ha qualche caratteristica che forse è un po' mascolina no? noi a Napoli diciamo è un'umascolona non so voi come dite per dire che se c'è una donna che è troppo autoritaria troppo insomma non è abbastanza femminile e quindi no sì c'è il dubbio e e quindi c'è questa frase ormai storica di Conner che dice l'istituzione sport storicamente costruisce la maschilità come superiorità del corpo maschile su quello femminile e sulle maschilità non atletiche su cui potremmo stare tre mesi più o meno credo no? eh? eh? sulle maschilità non atletiche eh? no? ovviamente so che sono parole dense su cui dovremmo stare molto però veramente io vorrei insomma sentire voi e come fa tutto questo a performarlo lo sport con la costruzione il mantenimento degli sport tipizzati su maschile e femminile e in questo modo perpetuando il modello egemonico maschile quindi se è così allora come si fa a combattere tutto questo una delle cose che mi è stato chiesto di dire è come facciamo a combattere quindi l'omofobia la transfobia gli stereotipi sessuali legati allo stigma sessuale di genere nello sport ovviamente strutturando azioni che possano contrastare la messa in atto delle discriminazioni tra le slide che non vi ho presentato ma vi ho fatto vedere prima c'è molto la questione delle microaggressioni a cui io tengo moltissimo che però ha attraversato le relazioni dei colleghi che mi hanno preceduto perché in realtà noi non possiamo pensare che la discriminazione sia soltanto che noi prendiamo a paccari l'arrassmento la violenza agita fisica o forme di cyberbullying eccetera non è solo quello le microaggressioni sono sono continue permeano tutte le nostre relazioni anche noi che siamo mosse da tutte le più buone intenzioni molto spesso le mettiamo in atto inconsapevolmente ed è necessario che l'ambiente sportivo si configuri come uno strumento di socializzazione sano ed inclusivo di tutte le differenze di valorizzazione delle differenze due frasi bellissime ma come si fa a fare tutto questo come possiamo fare e vorrei provare a sentirvi vi abbiamo molto sollecitato stamattina veramente stiamo parlando dalle nove e un quarto togliendo l'ora e mezza tra coffee break e pausa pranzo cioè che pensate che vi è venuto in mente domande suggerimenti osservazioni contestazioni perplessità vi è venuto vi sono venute in mente delle storie vi siete rivisti in qualcosa di quello che di cui abbiamo parlato posso fare una domanda sì a me ci sta ci sta la domanda è il relatore di quel momento no io provo a fare un po' basta incontrarlo a conto perché lo sport abbiamo detto gli ambienti sportivi sono ambienti aggregati dove per tutta una serie di ragioni dovrebbero rimanere fuori dalla porta le diversità e l'impatto però mi chiedo e chiedo ma gli ambienti sportivi non sono nient'altro che micro o macro riproduzione di ambienti di vita assolutamente il problema nello sport si è sempre posto parallelamente magari lì è arrivato dopo immaginiamo nelle forze armate in Italia che le uniche donne armate erano le poliziotte ma poliziotte che sono diventate poliziotte quando la polizia è stata salivitalizzata perché non era previsto l'accesso alle forze armate delle donne e lì si è posto il problema che altri paesi dove l'accesso della donna alle forze armate era molto più vecchio che avevano cercato di contenere ma neanche più di lato perché i fenomeni di molestie dell'esercito degli eserciti statunitensi e inglesi è all'ordine del giorno e voglio dire e qui faccio una volata di piano gioco forza perché sarà anche uno stereotipo nella vita quotidiana la differenza di genere e di senso uomo maschio femmina ce la trasciniamo da un punto di vista biologico e di crescita è sempre stato così la divisione abitudini diverse modalità diverse e questo se è un bene può diventare negativo nel momento io in cui ho difficoltà in un contesto di cui non ero abituato ad avere la stessa percezione nel momento in cui provo a utilizzare strumenti che lo contrastano e ecco la mia domanda sì bellissime tutte quelle frasi che riempiono la bocca e che belle ideali ma come le realizziamo se non siamo stati capaci di creare nemmeno un micro ambiente per l'ingresso delle donne e quant'altro da lavorista posso dire che quando nel 1956 con il DPR che ha che strutturò quella che all'epoca si chiamava igiene del lavoro che ora si chiama salute del lavoro c'era una norma che diceva che negli ambienti di lavoro che avevano più di 10 dipendenti il datore di lavoro doveva separare i bagni del sesso doveva creare fino a 10 dipendenti che è tuttora così non occorre la separazione del bagno un'anzia che fino a 10 dipendenti può avere un bagno unico dove vanno due uomini e due donne dovrà solo avere la cura e l'attenzione che sia in un certo qual modo come dire tenuto un po' che non crei un problema se in quei 10 sono 8 uomini e due donne ma lo stesso problema potrebbe essere se sono 8 donne e due uomini e viceversa sopra i 10 quindi ha scelto il legislatore c'è una netta separazione non possono essere ambienti non può essere lo stesso ambiente è diviso lì è una norma che già mi fa un senso logico in genere ma mi fa una selezione mi differenzia allora immaginiamo una caserma in un impianto sportivo che faccio io a diversamente segretare ma io condivido che sia innanzitutto sono tante belle parole perché da qui a mettere in atto tutto questo c'è l'oceano e mezzo quindi sono tutte belle parole uno lo condivido ed è il motivo per cui noi non ci stanchiamo mai di promuovere momenti formativi mai perché non è mai abbastanza la verità è questa che non è mai abbastanza che io so bene che anche quando ho fatto un seminario interessante utile sono stata particolarmente brava come formatrice il margine di cambiamento è proprio residuale è minimo per tutto quello che abbiamo detto da stamattina ad adesso la mia speranza è sempre solo quella che uscendo dal momento formativo alle persone prima o poi gli si possa accendere una lampadina avere un dubbio e dire oh ma che ha detto quella ma che fammi andare a vedere oppure mentre si sta facendo l'allenamento improvvisamente come un fantasma possa ritornare io nella mente come un dubbio cioè la mia speranza è che le persone che partecipano ai momenti formativi abbiano nel corso della loro vita un momento di sospensione dell'azione non di combattere le discriminazioni combattere le discriminazioni promuovere una cultura di valorizzazione delle differenze non di appiattimento delle differenze questi sono i nostri obiettivi ma da qui a realizzarli cioè quel video che ha fatto vedere lei di fanpage bellissimo e che si conclude dicendo ci vorranno cent'anni prima che le donne abbiano le stesse condizioni lavorative bla 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 cioè in fondo quella scritta quella cosa che cosa vuole dire che per fare in modo che cambi qualcosa nella quotidianità delle persone quindi permettere che una giovane donna tra cent'anni abbia le stesse opportunità di adesso devo lavorare su quattro generazioni stamattina io dicevo in chiusura poi ti vedo lì quindi penso che vuoi dire qualcosa dicevo in chiusura noi lavoriamo nelle scuole superiori lavoriamo all'università ve lo dicevo lavoriamo con gli adulti lavoriamo con le forze di sicurezza tra le più belle esperienze folli che ho fatto nella mia vita quando nel 2000 sono entrate le donne in accademia aeronautica di Pozzoli c'era una convenzione tra il dipartimento di neuroscienza e l'accademia e io e una collega allora non c'erano ufficiali donne dell'aeronautica andiamo a fare questa esperienza bellissima folle ma bellissima per uno psicologo clinico potete immaginare dentro l'esperienza di tirocino quando arrivarono le prime donne questo per tre anni nell'accademia aeronautica bellissimo stupendo cioè folle ma bellissima tra le esperienze più folli che mi ha fatto fare Paolo Valerio quindi lo capisco molto bene ma e lavoriamo con gli adulti ma la vera prevenzione cioè se noi vogliamo sperare coltivare il sogno perché diciamolo in fondo noi siamo tutti mossi da un sogno no? cioè penso che chi fa questo tipo di lavoro ha un sogno ha un ideale di come il mondo dovrebbe funzionare e diciamoci pure che questo sogno ce l'abbiamo perché chi più chi meno nella nostra vita abbiamo sperimentato che cosa significa essere toccati nella pancia essere discriminati essere guardati in una maniera strana essere guardati in una maniera violenta essere guardati in una maniera pericolosa perché sempre nel video di fanpage c'è una cosa molto importante che c'è una differenza tra donne e uomini che noi sappiamo che cosa significa camminare andare in stazione e avere paura lo sentiamo qui non so come dire dietro lo sentiamo proprio sulla cute però sullo strato più superficiale della nostra pelle non dentro ma per cambiare qualcosa come dicevo bisogna andare alla scuola dell'infanzia prendere quelli che il collega autorino dice al nido non li mandiamo al nido boh non lo so cioè questa è un'altra storia riguarda altro ma noi là dobbiamo iniziare a lavorare perché io e qualcun altro dicevamo stamattina a due anni e mezzo i giochi sono fatti sono fatti io ho due figli un maschio e una femmina ovviamente potete immaginare che ho crescido spero di aver educato e crescere i miei figli in una maniera attenta e sensibile ma io ricordo bene che c'è stato un momento dell'infanzia dei miei bambini che si dividono pochissimo tempo il primo è maschio e siccome la seconda perdonatemi il termine ma abbiamo detto di tutto e di più è una cacacazza esagerata che mi rompe le valle continuamente quando lui non ne poteva più ed era piccolino mi diceva basta sei una femmina finiscila cioè che a me mi si drizzavano i capelli ho detto non ce l'ho fatta nonostante tutti i miei sforzi cioè non ce l'ho fatta eppure lì cioè allora quella è la questione noi ci mettiamo quattro generazioni non ci possiamo fermare non possiamo pensare ehi quattro generazioni mamma mia no no perché nel frattempo esiste il bullismo esiste il cyberbullying esiste chi studia il bullismo molti i più grandi studiosi nazionali di bullismo geni bacchini menesini no chi scrive chi ha fatto la storia del bullismo in italia dello studio del bullismo in italia non ama il termine cyberbullying perché perché un termine di moda è fondamentalmente esposta l'attenzione del pubblico su altro e anche fa credere che non esiste più il bullismo vis-à-vis allora è vero che esistono tutta una serie di forme di cyberbullying però i nostri ragazzi stanno almeno minimo 5-6 ore a scuola e in quelle 5-6 ore i nostri ragazzi alcuni nostri ragazzi passano l'inferno ma lo passano veramente l'anno scorso al servizio perché abbiamo anche diciamo uno sportello una mail a cui diciamo le persone possono scrivere eccetera mi colpi molto una mamma che ci scrisse raccontando chiedendo aiuto mi aveva sentito in diversi seminari che avevo fatto in una scuola perché è insegnante e mi aveva scritto raccontandomi questa storia cioè un gentile professoressa le scrive le scrivo perché sono molto preoccupata mio figlio ha iniziato la prima media da due giorni è fondamentalmente emotivamente forse un po' più piccolo va a scuola con il suo compagno con il suo amico del cuore e nel passaggio dalla scuola elementare alla scuola media entra in questa grande scuola mano nella mano con il suo amico del cuore e lei dice io so che questo non significa niente perché lei me l'ha insegnato mi ha parlato dell'orientamento sessuale dell'identità omosessuale però io sono molto preoccupata perché so anche che mio figlio stringe la mano del suo compagno perché così si sente più sicuro e può affrontare questo momento di cambiamento ma a me quello che preoccupano sono gli sguardi degli altri compagni qualcuno sa potrebbe mettere in giro una voce sul suo conto questo è bullismo omofobico stiamo parlando di un ragazzino di 10-11 anni la cui identità sessuale è l'evoluzione no? la mamma ce lo presenta ancora come un mimbetto che ancora deve affrontare la questione dell'amore e delle caratteristiche dell'oggetto amato eppure questo è bullismo volgarmente omofobico o meglio legato allo stigma sessuale di genere sei un maschio tu vai tutto ringalluzzito non puoi andare mano nella mano con un altro compagno perché questo vieni visto come uno fragile se sei fragile non sei abbastanza maschio anche se lo accompagnava la madre anche se lo accompagnava la madre certo ma i genitori adesso possono stare fuori no? il cancello attraversare questo spazio io quando entro nelle scuole ho delle fisse uno le scritte sui bagni per cui cerco sempre di andare nei bagni non dei docenti ma degli studenti per vedere che cosa c'è scritto no? attualmente lo dicevo a lei stiamo facendo delle osservazioni etnografiche in alcune scuole nelle quali realizzeremo un intervento l'anno prossimo a settembre sono in tutte e tre le scuole tre osservatrici donne ho fatto una richiesta di autorizzazione alla dirigente perché possano andare nel bagno dei maschi perché a me non mi interessa solo che c'è scritto dietro le porte dei bagni delle femmine voglio vedere anche che c'è scritto lì perché lì che guardiamo la cultura organizzativa del contesto come facciamo a saperlo dobbiamo leggere le scritte quando entriamo in un contesto come è fatto che succede cioè allora tutti questi dati renderanno raccogliere tutti questi dati pensarli Manuela stamattina diceva studiare sì è molto importante il mondo sarà migliore noi lo speriamo no forse sì e forse no perché perché nessuno di noi è onnipotente è onnisciente ci dobbiamo provare per i nostri nipoti di terza generazione ormai i giochi dei nostri giovani sono già fatti ce lo dobbiamo dire sì io sono una di quelle che lavora sulle prime generazioni cioè se ci vuotono quattro generazioni io sto lavorando sulla prima perché lavoro i primi di due e tre anni allora noi e noi altri ci siamo sempre state molto informate su questo sì quindi adesso c'è molta attenzione sui libri che leggiamo sì la letteratura per il fatto c'è una grandissima attenzione una grande scelta insomma cose che prima dieci anni fa non ci la pedagogia è molto molto attenta è uno dei settori alle avanguardie è successo nello punto dei libri che leggiamo avanti insomma dei stereotipi di genere sono una cosa a cui facciamo molta attenzione le cose sono state cambiando io credo che i bambini ai bambini intorno a tre anni avete detto benissimo l'identità di genere che sono perfettamente in grado a due anni e mezzo di riconoscere maschi e femmina sono ancora molto piccoli per capire individuare ciò che ci sta nel mezzo a queste due categorie però lo sanno fare loro non hanno pregiudizi loro non si accorgono se un bambino è male o è grasso sono ancora troppo piccoli a tre anni lo fanno successivamente ancora vanno tutti nello stesso bagno e non mettono in difficoltà nessuno lavorare con i bambini non è un problema da questo punto di vista sono reattivi reagiscono l'unica cosa che negli ultimi tempi è cambiata per quanto mi riguarda è che se prima i bambini un bambino e una bambina si picchiavano io dicevo non si picchiano i bambini adesso comunque sta succedendo che mi sento di aggiungere se è un maschio che picchiano i fenni quando una donna ti dice no deve essere no questo mi sento di aggiungerlo negli ultimi tempi cosa che prima non facevo qual è la difficoltà sono i genitori si perché se io faccio l'attività con i bambini e decido di mettergli il grembiule per non farli sporcare io non guardo se ne metto il grembiule rosa o celeste è vero che qualche bambino mi dice io sono un maschio voglio quello celeste ma io rispondo vabbè te ti metti il primo che capita se è rosa te lo metti rosa e non discuto ma i genitori vedono le fotografie il bimbo del grembiule rosa me li chiamano io lo devo giustificare al genitore che ho messo il maschio al maschio il grembiule rosa e poi la grossa difficoltà è il livello politico perché se io faccio giocare se io fino a due tre anni fa facevo giocare i bambini con l'acqua anche i nudi adesso non lo posso più fare se io fino a due anni fa facevo giocare i bambini d'estate con la schiuma cosa che è successa due anni fa al comune di Siena il giorno dopo ci hanno messo in uno striscione gli esponenti di Casa Pound davanti alla scuola dell'infanzia dove c'era scritto la chiamano perver educazione è solo perversione i bambini avevano giocato con la schiuma da barba in usanza questa è la difficoltà cioè chi opera in questi settori come me non ha difficoltà sa quali strutture quali azioni mettere in atto per prevenire certe discriminazioni perché uno dei libri che io leggo più volentieri è il trattore della nonna dove rovescia dei stereotipi dove la nonna è un po' il sattore e il nonno fa il dolce i bambini piacciono non ci mettono una rete di strano che il nonno fa il dolce noi lo facciamo è che quello che ci sta intorno adesso non ci aiuta e il difficile è lavorare con i genitori questo è vi racconto una storia che non è inventata ma è vera è una delle cose che ce l'ho qua in fronte perché penso che vedete io presento sinapsi come wow ma è una di quelle cose su cui noi abbiamo fallito non ce l'abbiamo fatta un po' di anni fa un sette otto anni fa iniziamo un lavoro in una scuola dell'infanzia un laboratorio sulla destrutturazione degli stereotipi di genere noi in genere lavoriamo molto con gli adulti e quindi lavoravamo con queste maestre e poi facciamo solo dei piccoli laboratori con i bambini in genere il grosso lo facciamo fare sempre agli educatori durante diciamo gli incontri e le discussioni con queste maestre venne fuori che in questa classe poi all'inizio i colleghi diciamo quando io portavo ai convegni diciamo i resoconti delle nostre esperienze otto anni fa dieci anni fa mi prendevano in giro e dicevano ecco arrivi tu escono tutti i bambini gender variant li becchi tutti tu no il punto è che quando tu vai in un contesto e inizi a lavorare con gli adulti e dai loro degli strumenti per decodificare quello che accade tu permetti agli altri di dare un nome allora non è che arrivavo io con il mio staff e quindi nasceva il fungo del bambino gender variant e che in qualche modo attraverso il lavoro che noi facevamo gli adulti le maestre in particolare capivano quel comportamento che significato aveva e soprattutto mettevano in atto delle pratiche tali per cui il bambino non veniva inibito ma sostenuto nel suo processo evolutivo perché apro e chiudo quello che ci dice la scienza un protocollo olandese dal protocollo olandese in poi è che con un bambino cosiddetto gender variant se tu lo costringi a mettere in atto un comportamento assumere un comportamento stereotipato maschietto vuole fare giochi cosiddetti da femminuccia se tu lo costringi a fare giochi da maschietto stai sicuro che qualcosa gli accadrà in termini di salute mentale per non parlare appunto insomma mentre se tu lo aiuti lo sostieni nell'esplorazione c'è una percentuale che dice bla 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 questo sembra un'altra puntata a un certo punto qualcuno ha parlato di disforia di genere ed è importante anche su questo dovremmo parlare a lungo anche del cambio di nome insomma queste maestre riconobbero questo bambino felice si chiama che era un bambino che durante l'ora del momento del gioco libero amava fare un gioco prendeva il foulard delle maestre le sciarpe e giocava facendo dei balletti coinvolgendo le sue amichette mentre tutti gli altri amichetti che si scatenavano ad arrampicarsi ad essere a manca giochi di lotta a lui non gli piacevano per cui preferiva stare con le bambine questi comportamenti a un certo punto si erano molto accentuate appunto tale che quando aveva compiuto quattro anni e aveva festeggiato il compleanno soltanto due amichetti della classe erano andati alla festa quindi questi comportamenti a un certo punto l'avevano messo in una situazione tale per cui le bambine alcune bambine avevano piacere a stare con lui mentre altre iniziavano a sentire il pressing dello stigma ai maschietti non se ne parla proprio per cui iniziava ad essere identificato come un bambino a rischio attraverso tutto un lavoro fatto con le maestre il clima è cambiato per cui quando invece ha festeggiato cinque anni tutta la classe è andata alla sua a festeggiare anche alcuni per esempio Giannore lui era un appassionato di Winx all'epoca c'erano queste Winx gli avevano regalato delle Winx altri bambini avevano regalato delle magliette non con Ben 10 come si chiamava allora mi ricordo diciamo questo personaggio maschile eccetera e quindi tutto sembrava andare per il meglio che cosa però accade che a scuola lui era in un contesto potremmo dire buono significativo i genitori però la madre lo sosteneva e il padre invece non amava le richieste che faceva questo bambino a punto tale che stiamo in prossimità dell'estate quindi le vacanze estive questo signore la madre aveva una lavanderia a proposito di stereotipi non sto inventando eh cioè ve lo giuro e il padre aveva un'impresa edile questo papà pensò bene che forse felice assumeva questi comportamenti che erano più adatti ad una bambina anziché ad un bambino perché trascorreva troppo tempo con le femmine per cui che tesce pensò bene approfittando delle vacanze estive di portarsi il figlio sui cantieri quali imprinting maggiore di un muratore scusate per assumere un'identità maschile cioè no per cui questo povero bimbo veniva preso tutte le mattine alle sei svegliato e tra sé fino alle cinque del pomeriggio girovagava dentro questi cantieri nei quali lavoravano pazzi ci fa sorridere ma pensate a questo bambino un dramma primo giorno di scuola le maestre ovviamente di tutto questo non sapevano nulla organizzano un gioco danno ad ogni bambino un palloncino un foglietto dove dovevano disegnare una faccia che indicasse l'emozione provata durante l'estate ovviamente nell'idea delle maestre c'era vacanze wow bello mare sole gioco piscine ecc bello si immaginava uno smile sorridente ecc beh Felice è stato l'unico bambino che ha fatto uno smile grande con un faccione le labbra in giù e le lacrime che scendevano dagli occhi e ha detto maestra io non vedevo l'ora di ritornare a scuola perché sono stato tutto il tempo con papà e con i suoi muratori e ho sofferto tanto io piangevo tutte le mattine che non ci volevo andare ora questo bambino abbiamo provato a fare un lavoro con le maestre rispetto a questo ovviamente il papà è stato duro non ne ha voluto sapere noi sappiamo che questo bambino ha sviluppato un disturbo del comportamento il papà lo picchiava pesantemente tutte le volte che faceva delle richieste che secondo lui non erano adeguate è una storia rara non è tanto rara perché invece è frequente ma questo è frequente per tutto questo ed è vero noi abbiamo bisogno di lavorare con gli adulti noi abbiamo bisogno di trovare dei modi per ingaggiare gli adulti che stanno aumentando tante la situazione nello sport soprattutto dei bambini dove sono i genitori non a insultare ma a spostare l'attenzione da una pratica normale sportiva a un livello quasi di odio di battere l'avversario cioè non è più una ma la performance è legata a questo è una cosa bravissima tra l'altro hanno fatto un esperimento con delle curve di calcio dove hanno detto via per un mese mettiamo sulle scuole calcio che i bambini portano l'amore per lo sport e quindi difano la squadra non sono lì a urlare contro invece si è visto che non cambiava il risultato perché erano i bambini stessi sapevano già i cori cioè i cori erano ripetiti quindi in realtà c'era sempre l'otto dell'avversario però noi abbiamo bisogno di normative le sanzioni che sono qualcosa diciamo su cui andrebbe fatto una riflessione però sono importanti delle regole e come adulti ci sono delle cose che noi non dobbiamo consentire ma non lo dobbiamo proprio consentire perché siamo innanzitutto degli educatori siamo dei testimoni ma a me questa cosa piace assai bene io vi ringrazio in bocca al lupo spero che la vostra la vostra nottata le vostre nottate siano quiete in bocca al lupo da tempo evidenzia una cosa le grandi responsabilità che appunto come mondo sportivo abbiamo noi possiamo fare molte cose basta anche ragionare appunto su come lo sport viene proposto abbiamo sempre il vincitore devi essere più forte devi essere il numero uno devi essere il primo devi essere eccetera eccetera non solo lavoriamo con i bambini e con le bambine però come dire è la famiglia il nostro punto di riferimento a quei bordi appunto dei campi come dicevamo prima ci sono genitori con cui dobbiamo capire come lavorare altra cosa ci sono buone pratiche buone esperienze che molto spesso non sono conosciute il fatto che magari nelle scuole in alcune scuole del calcio si fa calcio ma guarda caso fanno anche danza che sono molto spesso un po' di estremi e magari anche portare avanti l'idea del gioco e dello sport che qualcuno vuole come dire una volta afforchiamo i bambini a fare sport che è quello che vogliamo noi non quello che vogliono loro da presidente di un comitato penso di averne viste di tutte e di più da genitori che mi portavano un bambino di 4 anni perché era già un grande nuotatore e non lo mettevamo nella vasca grande a proposito di esperienze di piscina e lo mettevamo perché sai gioca nell'acqua no no doveva già fare la 25 metri perché era un grande nuotatore oppure di quelli che appunto ti portano la bambina a fare danza che non ne voleva sapere trascinata piangente perché doveva andare in campo e fare una gara e quant'altro come dire questo è sicuramente un lavoro da fare quindi come dire delle buone pratiche ci sono bisogna capire come valorizzarle farle conoscere e magari mettere in un contenitore che in un qualche modo possiamo esplorare conoscere condividere eccetera altra cosa la consapevolezza che non ce la facciamo da soli questa consapevolezza che come associazione abbiamo e quindi si tratta anche di vedere che tipo di confronti alleanze reti eccetera mettiamo in pratica quindi questo è una cosa secondo me importante parliamo di sport quando io ragiono di sport cerco sempre di fare anche riflettere sui numeri su quell'idea di sport che stamattina qualcuno presentava quindi l'idea appunto non solo la competizione ma quell'idea appunto europea che il Consiglio d'Europa ci dice quindi di fare movimento di essere inclusivi di parlare di pari opportunità di lotta di discriminazioni e quant'altro e quindi di anche di numeri questo è un po' il quadro di quello che ci dice l'ISTAT di come ci percepiamo che è una cosa ovviamente particolare mi soffermo su un dato che per noi come mondo sportivo resta sempre un grande tema che è il tema della sedentarietà questo è il paese dove siamo più sedentari che sportivi dove appunto siamo sportivi perché sappiamo o pensiamo di sapere una serie di cose poi appunto la pratica non c'è altro aspetto se ragioniamo di sedentarietà dovremo parlare di sport ma anche di vita attiva perché non basta una delle più grandi discriminazioni lo sapete meglio di me adesso è il fatto dei bambini obesi grassi che sono grassi e grasse che sono molto spesso messe ai margini perché proprio non rispondono a determinate canone linee idea e quant'altro altra cosa delle sedentari sono soprattutto donne poi se andiamo a perdere i dati in giro che appunto che trovate qua in giro per le nostre regioni ci raccordiamo che ovviamente il sud ha situazioni molto particolari un'idea di sport che è molto sulla competizione come dicevamo è cambiata sta cambiando l'idea di sport anche questo è vero le donne sono entrate in maniera molto forte io lo dicevo anche prima in qualche battuta io credo che la grande rivoluzione del cambiamento lo dobbiamo fare nel momento in cui appunto abbiamo più donne in determinati ruoli e non è una battaglia delle donne è una battaglia dell'intera società quindi questo e per questo credo che soprattutto un'associazione è una realtà che è molto maschile lo sport resta molto maschile questa è la grande sfida che come mondo sportivo dobbiamo lanciare le donne fanno più attività magari appunto per stare bene il tema del benessere per sentirsi in forma e quant'altro anche se in realtà ci sono le competizioni poi dopo vediamo un attimo anche i numeri altra cosa se stiamo alla fascia dei più giovani dei piccoli guarda caso che sono quasi tutti lì perché li portiamo a fare sport più bambine che bambini poi abbiamo il grande problema dell'abbandono che anche questo appunto è un tema delicatissimo che tocca tutto il mondo sportivo non riusciamo ad avere proposte adeguate per quella fascia di adolescenti per tenerli nello sport ci abbandonano e poi li ritroviamo molto spesso anche qui la scelta qual è? quella di avere appunto il concetto che un po' è lo stereotipo che dicevamo noi nei nostri corsi di formazione molto spesso chiediamo se c'è uno sport da donne c'è uno sport da uomini c'è uno sport per femmine e ci accorgiamo che i nostri tecnici e le nostre tecniche dicono sì ok c'è la colonna delle femmine quindi ci sono quegli sport quindi anche noi eh ma che ripeto noi facciamo formazione fortunatamente come gruppo dirigente nazionale abbiamo scelto di fare quello che noi chiamiamo unità di base sono obbligatorie per tutti i nostri tecnici educatori e alcuni aspetti sono da portare avanti quindi la parte delle politiche di genere è una delle scelte che sicuramente dobbiamo implementare sempre di più appunto nei momenti di formazione anche i nostri tecnici sono quello del calcio dei maschietti e appunto la ginnastica artistica e per le femmine altra cosa si diceva prima delle forze armate il fatto che appunto ci sia un grande incremento della pratica sportiva altra cosa ormai non ci sono più discipline preclusa le donne se ci fosse qui appunto Malagò ci direbbe anzi presidente del coin nazionale ci direbbe che adesso ci sono sempre due discipline olympiche che sono fatte dalle donne non dagli uomini la ginnastica ritmica e il nuoto sincronizzato a squadre vi segnalo che la UISP fa questo e nei nostri campionati nazionali di ginnastica c'è la ginnastica ritmica maschile e ci sono non solamente delle esperienze di attività mista nel nuoto sincronizzato ma abbiamo anche squadre non solo il gruppo pesce ma abbiamo anche squadre di nuoto sincronizzato maschile cioè siamo arrivati a una situazione in cui come dire dobbiamo portare anche determinate di civile come sempre di più anche in maniera mista attenzione lo sport misto nella falla a volo lo sapete benissimo ma è un altro modo per giocare per essere inclusivi per conoscersi che è un aspetto molto utile e interessante e credo che appunto dobbiamo continuare questo tra l'altro la UISPA è sempre stata una un po' in avanguardia gli enti di promozione sportiva hanno sempre fatto questo quello di essere un po' avanguardia quindi di portare il rugby che si parlava di rugby è stato riconosciuto per le donne all'inizio degli anni 90 prima non si poteva andare in quel campo del CUS a fare i raduni delle ragazze già negli anni 70-80 tutti i maschietti ci prendevano in giro perché quel campo non poteva essere calpestato dalle donne a proposito ma lo possiamo dire anche del calcio adesso c'è una grande attenzione del calcio femminile fino a poco tempo fa non era così la finale di Coppa Italia di qualche anno fa femminile è stata giocata in un campo di periferia non era segnato l'erba non era stata tagliata non c'era nessun inno e come dire non c'era neanche nelle nostre finali di calcio dell'auvismo non c'era neanche la bandiera c'era un tavolino con le coppe che dovevano essere consegnate se vi ricordate uno dei gesti interessanti è stato che rifiutarono le vicitricce di essere premiate dal responsabile della Lega Nazionale Direttante in quel caso ma si premiavano tra di loro perché appunto videro questa cosa in maniera come dire offensiva adesso qualche cambiamento c'è come sapete finalmente c'è un certo tipo anche di anzi la partita Juventus-Fiorentina femminile è stata molto partecipata è stato veramente quello stadio anche come dire erano quasi 40.000 persone a vedere quell'incontro del nostro campionato di Serbia femminile però se parliamo sempre di numeri di donne e quant'altro nello sport non possiamo dimenticarci questo non abbiamo nessuna donna a livello nazionale presidente di una federazione per poco tempo c'è stata nella federazione di sport e quest per pochissimi mesi qualche anno fa ma neanche nessun ente di promozione esplotiva e siamo 15 c'è una donna presidente non l'abbiamo abbiamo nel Codi se stiamo al Codi c'è una donna nel Trentino Alto Adige responsabile della CONI negli organismi attualmente in carica del CONI e delle federazioni sono poco più del 10% le donne presenti negli organismi dirigenti sta cambiando qualche cosa attualmente abbiamo una vicepresidente del CONI che è Alessandra Sensini alcune federazioni penso alla FIDER eccetera hanno vicepresidenti donna però insomma alcune cose anche in prospettiva possono cambiare secondo una delibera del CONI nelle prossime elezioni di consigli federali saranno tenuti ad esserci almeno un terzo di donne presenti negli organismi dirigenti apro una piccola parentesi nelle elezioni della Federazione Italiana Gioco Calcio che sono svolte non tanto tempo fa questa percentuale non è stata rispettata per un motivo perché vengono nominate i componenti del Consiglio Nazionale della Federazione da la Lega di Serie A Lega Serie B e Lega Serie C che hanno presentato solo e esclusivamente uomini senza rispettare questo tipo di indicazioni le donne presenti attualmente nella Federazione Italiana Gioco Calcio sono ricordi sull'u4 e sono indicate dagli atleti quindi dai calciatori i calciatrici e dai tecnici quindi anche questa è una cosa a tenere presente nonostante appunto le grandi medaglie lo sapete perché abbiamo più donne è vero che finalmente raggiungono determinati risultati nelle competizioni le cose che mi dicevano prima perché avere aperto alle donne la carriera militare ha permesso che ci siano le atlete che ci portano a casa medaglie quindi sul tema del lavoro e soprattutto anche del lavoro sportivo a quei livelli è vero che c'è il professionismo che riguarda attualmente pochissime discipline sono 4 adesso il motociclismo non è più una disciplina professionistica è sempre di meno quindi questo è ma c'è un tema che riguarda proprio come fare per quelle figure se non ci sono i corpi armati dove vanno come fanno ad allenarsi e quindi questo è un tema in altri paesi ci sono forme di contratto di tutela eccetera quindi non c'è il professionismo ovunque ma ci sono forme appunto di tutela quindi ci portano a casa medaglie più donne proprio anche per quel tipo di situazione che sono i corpi militari che portano a casa le medaglie questa legge appunto il 91 del 1981 nel professionismo non riconoscere donne per un fatto è il coni le federazioni che decidono cos'è professionismo e che cosa non è professionismo per quello che si riduce sempre perché alla fine vuol dire chiedere più soldi spendere più soldi nelle società per questa cosa quindi io credo che la battaglia debba essere molto 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 ampia sia nel mondo amatoriale di base come il nostro appunto anche per una discriminazione davvero molto ampia i riconoscimenti economici sono diversi e questo l'abbiamo visto spessissimo quindi anche questo altra cosa non si parla di tutele non si parla anche del tema della maternità è stato istituito un fondo della maternità nel 2018 anzi le prime due atlete ne hanno finalmente usufruito ma adesso abbiamo ottenuto questa cosa quindi a proposito delle discriminazioni l'impegno della WISP perché lavorare sul tema come dicevo prima più donne nel mondo sportivo che porta sicuramente cambiamenti la WISP ha iniziato dal 48 quando è nata ed è nata come associazione mista non divisa come successo anche per altre associazioni ha promosso fin da subito attività per le donne il ciclismo gli incontri di primavera atletica pallavolo altra cosa è stata in un qualche modo quella che ha riconosciuto le discipline e poi ha portato i cambiamenti nella federazione nell'85 viene pubblicata la carta dei diritti delle donne nello sport a cura della WISP che diventerà nell'87 un patrimonio dell'assemblea legislativa europea quindi la WISP ha fatto quel lavoro con un percorso tra l'altro molto bello vedendo tutti gli statuti di allora lavorando con le atlete per portare questo primo grande insomma elemento altra cosa il nostro lavoro va dalle fasce più piccole anzi dalle attività per le mamme in attesa fino alla grande età quindi con una grande attenzione a tutte le varie situazioni la carta di territorio sport che vi dicevo prima si chiamava sportiva erano alcuni punti molto semplici e banali tra virgolette passatemi il termine banale però è stato il primo grande lavoro portato avanti che nel 2010 è diventato col progetto Olimpia la carta europea dei diritti nello sport prendendo in esame esperienze anche di altri paesi attenzione non ci siamo solo noi lo sport rimane ancora un terreno di grande lavoro anche a livello europeo la presenza delle donne negli organismi dirigenti sono state forzature lo so bene che il tema delle quote non sempre ci piace ma è stato portato anche da parte del Comitato Olimpico internazionale l'obiettivo di avere il 30% all'interno di quegli organismi dirigenti ce lo hanno imposto appunto facciamo cose anche per 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 quello affronta alcuni ambiti la pratica dello sport la leadership educazione sport la ricerca molto spesso come dire abbiamo sempre avuto uno sport pensato sugli uomini sul corpo degli uomini che non è uguale il tema degli spettatori dei media mi faceva piacere la questione dei termini se vi ricordate a proposito i giornali i titoli e quant'altro le cicciottelle appunto la medaglia d'argento ma c'ha un lato di da medaglia le adoro poi possiamo andare avanti eccetera eccetera come dire la pellegrini è bellissima non c'ha niente quindi è l'aspetto fisico se sei bella se sei carina eccetera non quanto ho solo i risultati questo è un tema a proposito di cose che ci diceva Natascia stamattina è tratta realizzata anche come attraverso un progetto con carta fumetti ve la lascio perché ad esempio lì appunto le tavole sono diventate dei fumetti le mitiche quattro cicciottelle che è una delle tavole al fine come dire la cosa importante era quel gesto atletico non importa il tuo fisico lì è come dire la concentrazione come tiri e come appunto sei concentrata in quell'attimo e quella è l'importanza non il tuo aspetto fisico per sottolineare una cosa affronta però anche altre tematiche tutto il tema dell'orientamento sessuale lotta all'omofobia lotta alla prostituzione i grandi eventi sportivi molto spesso sono un momento di prostituzione l'analisi fatta nei campionati di calcio di Germania che cosa vedeva com'era costruito quell'impianto sportivo e attorno cosa c'era il premio in certi casi nel successo mi pare in Egitto se non mi ricordo male che appunto c'era la scelta anche delle delle donne e quant'altro ma c'è una prostituzione maschile femminile legate a questa c'è una cosa veramente quindi non guardare questi aspetti vuol dire non essere attenti e capire che cosa si muove attorno sulle tematiche LGBT che cosa facciamo qui alcuni esempi allora si va ovviamente da campagna di sensibilizzazione io metto sempre questa qui anche degli scarpini perché secondo me è bellissima omosessuali e transessuali sono due scarpine che cosa cambia e questo è una cosa che appunto deve sensibilizzare è un lavoro da fare così come questa sono alcune foto immagini della mostra contro le regole che gli lesbiche nello sport è nata da un progetto europeo è una cosa che appunto dobbiamo capire come far vedere di più la cosa è questa forse anche di renderla un manifesto che si attaccano un film un documentario qualcosa cioè il nostro capire come comunicare è fare arrivare determinate cose e anche vedere insieme e soprattutto portarla nei luoghi dello sport non può stare all'interno di questa scusate in questa sala ma dentro un impianto e questo può sicuramente parlare altra cosa anche in momenti come sono state in quel caso le olimpiadi di soci è anche dire determinate cose perché se siamo impegnati per i diritti dello sport di tutti e di tutte bisogna dirlo è il momento di dire che parte si sta io la penso in maniera molto molto chiaro però non serve di tornei quello che dicevamo prima ma anche momenti di incontro di informazione e quant'altro momenti appunto che abbiamo visto anche insieme come potere sensibilizzare maggiormente e soprattutto prendere l'impegno che alcune tematiche alcuni aspetti vanno all'interno dei nostri percorsi formativi quindi cerchiamo di poter e anche di vedere come come dicevo anche prima quella squadra quell'esperienza va all'interno dei nostri campionati la UISP ha 1.300.000 soci siamo strutturati in tutta Italia con numeri diversi come diceva prima stamattina il presidente regionale qui siamo 250.000 270.000 però abbiamo realtà anche come dire al sud possiamo lavorare insieme e vedere appunto visto che in alcuni casi problemi ci sono e facciamo fatica vedere quali possono essere delle azioni da mettere in campo questi convegni questo lavoro che facciamo insieme a Napoli da questo percorso appunto sui diritti delle persone LGBT nello sport è nata anche una pubblicazione che deve essere appunto anche come dire momento di maggiore divulgazione confronto e così via perché c'è anche da studiare ma anche da lasciare traccia non c'era nulla che parlasse di sport e tematiche LGBT credo che sia anche come dire importante e utile formazione abbiamo avviato un lavoro sia come dire con un modulo formativo specifico una settimana fa eravamo a Firenze però appunto abbiamo cercato anche di vedere quali possono essere percorsi da condividere l'esperienza di oggi ho capito che interessa potrebbe essere anche utile portarla da altre parti però ad esempio tutto il lavoro che facciamo con i giornalisti cioè il mondo sportivo ha degli agganci di questo tipo quindi non restare scusatemi chiusi all'interno delle associazioni LGBT ma vedere quali possono essere degli agganci se io parlo con i giornalisti sportivi perché abbiamo fatto un convegno mi pare un mese fa il presidente a Milano e c'erano 160 giornalisti hanno parlato Gianmura Valerio Piccioni cioè i nomi che nel nome dello sportivo sono molto molto importanti sarebbe interessante anche vedere come poter fare determinati lavori sapete che appunto come diceva anche stamattina Daniele mi pare Daniele sì no non mi ricordo il percorso alias è nato da una sollecitazione da un confronto in questo caso con i Bags e il gruppo trans di Bologna gruppo di ragazzi che ci dice scusate noi siamo persone transessuali e anche qui a proposito dello stereotipo noi pensiamo sempre le persone transessuali come scusatemi quelli che troviamo e che si prostituiscono scusate non è così abbiamo tantissime persone attorno a noi che sono persone trans che appunto ci chiedono di avere un momento sportivo di avere attività in quel caso era Milena giocava a pallavolo ma non riusciva più a giocare perché ovviamente nel passaggio da in questo caso M2F non è riuscita a continuare a giocare da questa esperienza è nato anche come di una nostra interrogazione il nostro lavoro capire cosa poter fare chiedono di avere visibilità di avere una risposta ed è questo che appunto ci diciamo quindi il fatto di dire ufficialmente crea un percorso aglio si faceva anche prima il tesseramento poteva essere io ti scrivo sei Milena sei Milena non sei più Francesco però il fatto di sancirlo di avere un'assicurazione che lo accetti di vedere la parte appunto di comunicazione è ufficiale quindi vuol dire c'è una scelta ci metto la faccia e appunto riconosco questo tipo di non è sempre facile attenzione anche al nostro interno qualcuno ci scrive e dice ma scusa ma adesso dove devo giocare è un uomo o una donna cioè invece anche delle cose diciamo stamattina è importante appunto il percorso e l'arrivo della transizione quindi questo è un altro aspetto quindi questo questo è un lavoro l'altra cosa che mi preme sottolineare è che c'è un lavoro sul territorio molto molto diffuso proprio in questi giorni ad esempio faccio l'esempio di Torino è in esposizione contro le regole gay e resbiche nello sport c'è un lavoro che sta facendo all'interno delle associazioni del Torino Pride ma anche come dire in questo caso un percorso di formazione è vero che Torino è un esempio di eccellenza la rete Redi tutto ciò che sta facendo in termini formativi hanno avviato dopo il nostro corso dell'anno scorso anche un corso rivolto ai gestori degli impianti sportivi tutto il tema del linguaggio e quant'altro e questo è un'esperienza che io credo molto importante c'è un'eccellenza che dobbiamo capire come raggiungere l'altro giorno era a Bologna e con la sessora Zaccaria stiamo vedendo appunto sempre all'interno della rete Redi come prendere quell'esperienza per l'impiantistica sportiva e portarla perché se il comune fa un lavoro rivolto ai gestori chi gestisce appunto i impianti eccetera le attenzioni per gli spazi capire appunto il linguaggio se una persona ti chiede una determinata attenzione cosa facciamo e quindi questo appunto a proposito di buone pratiche da questo percorso la WISP di Torino sta sperimentando quello che abbiamo chiamato WISP friendly allora i percorsi formativi per gli educatori e per gli insegnanti per le società sportive per appunto chi gestisce alla fine dà una sorta anche in questo caso di logo è un modo è una sperimentazione tra l'altro è uno degli impegni che come politica di genere avevamo appunto proposto vediamo come funziona e come poterlo in un qualche modo portare avanti cioè dobbiamo andare oltre il torneo la sensibilizzazione del torneo è importante ma dobbiamo capire come andare perché io devo cambiare le parole di quell'istruttore di quel gestore di chi ti apre quella porta questo è ovviamente il lavoro facile? no che come dire anche al nostro interno ci siano dei problemi? sì il fatto che io esco con delle campagne come questa diceva sui social qualche risposta qualcuno che all'interno dei nostri percorsi di formazione ci dice qualche cosa? sì qualcuno che ci dice non si può parlare di sesso di transessuale ma che è questa roba lo sport è un'altra cosa lo sport è parte integrante siamo come dire anzi proprio questa roba del primo del secondo del più bravo del più forte ci porta anche ad estremi proprio mascolini di grandi risultati e così via i prossimi appuntamenti appunto mi fa piacere si sta lavorando nelle Marche si sta lavorando a Firenze poi vedremo anche con i ragazzi della Revolution e anche questo film che è bellissimo usatelo il calciatore invisibile è un'esperienza secondo me molto bella tra l'altro come dire si sentono anche le voci di chi sta ai bordi dei campi e dobbiamo capire come lavorare con i genitori allora facciamo una cosa a proposito delle cose che possiamo fare vediamo come possiamo lavorare con i genitori attraverso lo sport questo secondo poi io credo piedi per terra piedi per terra che significa non penso alle cose in migra galattina ma penso a qualche esempio concreto di vedere insieme quali possono essere appunto delle robe su cui lavorare e vedere come poterle esportare quindi questo credo che sia una cosa davvero utile e interessante le reti con cui ci confrontiamo e collaboriamo appunto perché non possiamo farcela da soli abbiamo bisogno di capire di studiare di sapere queste sono alcune cose grazie anche appunto al lavoro penso la rete Lenford per Consualias ci ha dato una mano ci ha insegnato alcune cose ma penso appunto anche il lavoro con RCDA che si è avviato molti anni fa appunto perché credo che dall'incontro di dire ok cosa possiamo fare per e appunto per non stare da soli a ragionare ecco altre informazioni le trovate sul nostro sito e questo e questo e questo forse per darvi un pochettino un esempio delle cose delle buone pratiche che stiamo mettendo in alto e sicuramente altre se ne possono realizzare Grazie mille buonasera a tutti e io con l'occasione anche per portare i saluti del rettore Pietro Cataldi che anche lui è molto sensibile appunto quando si parla di queste tematiche vi propongo un tema su cui sto lavorando e in questa sede poi illustrerò i risultati alcuni risultati una parte appunto è una ricerca che stiamo conducendo tuttora presso l'Università per Stranieri di Siena il titolo del progetto è Multisport e l'idea del progetto è proprio quella di andare ad indagare sui processi di mediazione cioè intanto fare una ricognizione della differenza delle varie differenze linguistico-culturale nei contesti sportivi e di conseguenza analisare naturalmente gli scenari di mediazione allora ma io questo è un po' la sono per ora gli informanti del progetto abbiamo coinvolto sono stati coinvolti 25 calciatori di serie A no 30 di serie A 30 complessivamente 5 squadre di serie A 25 di una squadra composta estremamente da richiedenti asilo e 107 studenti del liceo sportivo di Siena però in questa sede focalizzerò l'attenzione sui richiedenti asilo poi vedrete affronteremo il tema dei profili linguistici e dei percorsi scolastici differenziati l'apprendimento veloce e anche attraverso le lezioni breve perché questo è un po' è un conto avere apprendenti tradizionali e un altro invece avere apprendenti sportivi che hanno esigenze linguistiche professionali molto diverse quindi ci poniamo quindi appunto la questione dell'apprendimento dell'italiano o delle lingue in generale da parte di chi pratica qualche attività sportiva e l'intervento si divide in due parti in questa prima parte inserò alcuni temi di tipo teorico un po' applicativo rispetto a questo progetto mentre invece nella seconda parte vi farò vedere un breve clip che illustra un po' i risultati del progetto bene intanto ho detto di focalizzare attenzione su richiedenti asilo noi dobbiamo almeno considerare quattro aspetti quando vediamo il richiedente asilo intanto c'è la sindrome del sopravvissuto che naturalmente è un peso psicologico che appunto questi ragazzi che hanno attraversato il diserto e poi successivamente il mare che si portano appunto dietro perché il sindrome del sopravvissuto vuol dire come mai non sono troppo morto come gli altri e quindi il fatto di aver visto altri conazionati altri fratelli parenti morire e rimanere in vita è comunque un peso psicologico molto importante da non trascurare quindi bisogna tenere in considerazione questo fatto prima ancora dell'aspetto linguistico è vero ci sono le differenze linguistiche ma questo fatto è importante è importante perché mi chiedono spesso io insegno teoria della mediazione mi chiedono spesso qual è la differenza tra il mediatore e il traduttore e l'interprete e la mediazione io dico il traduttore e l'interprete tendenzialmente passano da un codice a un altro un codice linguistico a un altro il mediatore deve poter essere in grado di tradurre anche aspetti non linguistici nel senso che devono essere in grado di tradurre il silenzio perché il silenzio ha senso il silenzio vuol dire qualcosa in alcune comunità rimanere esitti non dire niente vuol dire ad esempio essere maleducato può essere considerato così ma bisogna considerare che questi ragazzi portano dietro un peso psicologico molto forte che si può tradurre naturalmente attraverso il silenzio quindi silenzio vuol dire paura silenzio vuol dire diffidenza e molte altre cose quindi è importante poi c'è il background scolastico alcuni hanno un profilo scolastico molto elevato altri invece purtroppo sono analfabete e noi dobbiamo considerare questo se li vogliamo integrare poi ci sono gli aspetti culturali naturalmente questo è scontato quindi quando parliamo di processi di mediazione linguistico culturale bisogna considerare tutti questi fattori perché fanno parte dei bisogni linguistico culturale di queste persone vediamo poi i bisogni sportivi io ho lavorato con questo gruppo e io vi riporto insomma per motivi di tempo soltanto tre testimonianze uno mi dice naturalmente chiacchierando con loro rispetto al loro rapporto con lo sport e il calcio in particolare il mattedì che era uno dei giorni di allenamento per me è un giorno di festa e poi un altro mi dice il calcio è la mia droga e quindi non riesco a vivere senza senza giocare e sono contento quando sono in campo mi diverto rito e scherzo con i miei compagni e mi sento a casa quindi io vorrei loro naturalmente sono in Italia quindi c'è il bisogno c'è la necessità di di intraprendere un percorso di apprendimento linguistico io non posso non partire dalla droga di questi ragazzi cioè se il calcio è la loro droga allora io voglio partire la droga per introdurre appunto il discorso linguistico io riporto qui una citazione di Nelson Mandela una citazione molto conosciuta molto forte lo spot ha il potere di cambiare il mondo ha il potere di ispirare ha il potere di unire le persone in un modo in cui poche altre cose lo fanno e questo lo vediamo quando c'è una partita quando gioca la nazionale le persone si abbracciano quando segna la nazionale anche se magari in altri contesti ci sono poi le differenze che appunto tra queste persone quindi lo spot è una ha questo un ruolo inspiegabile appunto di poter unire le persone di parlare ai giovani ai giovani in una lingua che loro comprendono quindi questo è importante quindi lo spot come uno strumento quindi per superare ogni forma di barriera cosa dice invece la nostra non dico cosa dice lo Stato italiano per molto tempo voi ovviamente sapete questo è un tema di attualità il tema della cittadinanza dello Iusoli e bisogna dire dopo diversi anni dopo tanti anni alla fine abbiamo una una legge che tutela gli sportivi stranieri cioè i minori stranieri che praticano qualche sport anche se bisogna dirlo non è ancora il massimo cioè è un riconoscimento un parziale nel senso che ci sono poi alcune condizioni quindi per poter vestire la maglia della nazionale in qualche disciplina però è già un passo in avanti rispetto a alcuni anni fa dove i ragazzi stranieri potevano allenarsi giocare delle varie squadre insomma rispetto alle diverse discipline però senza poter gareggiare come i loro compagni italiani bene quindi lo sport è sicuramente come dice Nicola Porro in generale e il calcio in particolare questo sport ha cessato di rappresentare soltanto un gioco ma è diventato un vero proprio processo culturale nel nostro contesto globale allora quindi che cosa intendo fare quindi parto da questi presupposti teorici per poter fare una proposta didattica perché voglio coinvolgere i miei sportivi dal punto di vista linguistico cioè devo fare delle proposte affinché loro possano intanto imparare la lingua del paese in cui vivono ma poi anche creare le condizioni affinché loro si possano sentire liberi di usare anche le loro lingue perché hanno il diritto hanno il dovere linguistico di imparare l'italiano ma hanno anche il diritto linguistico di mantenere le loro lingue e quindi per farlo considerando che qualcuno è analfabeta devo intanto ripensare il modo di organizzare la mia classe quindi la classe non è più soltanto diciamo una struttura entro le mura di un edificio ma la classe può anche essere il campo di carcere la classe può anche essere fuori e quindi il plurilinguismo non è più soltanto il complizzo presenza la possibilità di usare più lingue ma il plurilinguismo diventa anche la capacità di usare più codici e quindi anche il linguaggio non verbale e quindi questo ci consente quindi di includere persone che in un determinato momento del loro processo di integrazione non hanno ancora gli strumenti per parlare d'italiano e bene allora qui alcuni sempre nell'ambito di questa indagine ho chiesto ad alcuni studenti italiani e stranieri come vorrebbero appunto imparare le lingue e come potete vedere 90 appunto dicono noi preferiamo imparare l'italiano le lingue in generale praticando una disciplina sportiva perché naturalmente ora non ho tempo di entrare nel merito ma la motivazione è che studiare le lingue in classe appunto ci sia noia loro appunto vorrebbero studiare le lingue in modo dinamico quindi in modo grande bene quindi io partendo da queste risposte da questi bisogni linguistici ho deciso quindi di impostare un percorso di apprendimento in questo caso dell'italiano ma in realtà è un lavoro che sto facendo e che proporò anche per i ragazzi italiani per quanto riguarda le lingue straniere quindi calcio inglese calcio francese e quant'altro e quindi vantaggi della didattica ludica perché di questo si tratta c'è appunto un miscuglio tra il gioco la motivazione la dimensione multimodale cioè la possibilità di fare riferimento a vari strumenti comunicativi ma anche la dimensione multisensoriale cioè coinvolgere vari sensi perché gli studi naturalmente ci dicono che quando si impara coinvolgendo diversi sensi è chiaro che l'acquisizione appunto viene velocitata bene quindi questa era la presentazione teorica ora passo al video e l'idea come potete vedere attraverso questa strategia è di superare naturalmente la comunicazione didattica monodirezionale cioè quando il docente si prepara a lezione e viene a parlare sparare è chiaro che gli studenti si sentono un po' messi da parte quindi loro devono essere protagonisti e la didattica ludica ci consente proprio di superare questo l'errore come fatto negativo superiamo anche questo perché nessuno nasce padroneggiando una lingua è giusto ed è consentito sbagliare e poi la motivazione come abbiamo già visto che è bassa e poi didattica assolutamente frontale e l'input rispetto oppure anche la propensione al monolinguismo sentiamo molto spesso purtroppo persone che dicono non parlate le vostre lingue a casa pediatri oppure anche qualche insegnante perché se parlate le vostre lingue a casa non imparerete mai l'italiano gli studi dicono che non è vero il cervello è pronto aspetta solo questo almeno fino ad una certa età bene quindi vi vabbè questi sono alcuni esempi che fanno vedere un po' come questi ragazzi usano le loro lingue qui ho preso l'esempio di un ragazzo che poi ora vedrete nel video che nella stessa partita come potete vedere usa varie lingue anche se naturalmente non aveva una patronanza diciamo così completa in tutte queste lingue ma riusciva ad essere in qualche modo efficace appunto nell'economia della gara e quando ho seguito anche questi ragazzi durante un allenamento ho registrato praticamente le varie interazioni in campo e potete vedere queste sono le parole che hanno usato principalmente perché sono ragazzi che vengono da vari paesi dell'Africa centro-occidentale quindi Gambia Senegal Togo e quant'altro e quindi la mia proposta è di che ragazzi fate bene ad usare le vostre lingue ma vi propongo di usare anche l'italiano cioè di dire queste cose anche in italiano perché come potete vedere non so se riuscite a trovare una parola italiana pochissimo cioè abitro lascia qualcosa e quindi l'obiettivo è di bene ma mettete anche l'italiano quando parlate e per questo quindi passiamo alla seconda parte quindi devo venire gentilmente così vi faccio vedere e quindi in questo video volutamente ho messo ho mischiato stranieri e italiani perché lo sport di calcio è uno sport di gruppo quindi è giusto fare in modo che possano c'è uno quando ci sono gruppi uno c'è uno un po' più forte uno meno forte e quindi c'è l'apprendimento cooperativo e quindi volutamente quindi ho inserito vari gruppo perché le squadre sono così le squadre sono fatte di giocatori bravi un po' meno bravi e così via voglio di giocare a pallone e lo fanno nella maniera più normale possibile più naturale possibile perché non esiste un calcio etero o un calcio gay non esiste un calciatore omosessuale o un calciatore eterosessuale quando si va in campo sono tutti calciatori la differenza però di questi ragazzi che poi si sono riuniti in queste squadre che partono da Torino quindi Torino Milano Genova Bologna e poi vengono giù Firenze Roma e si fermano a Napoli sotto Napoli non abbiamo ancora per il momento conoscenze di squadre di squadre omosessuali e questi ragazzi semplicemente giocano a calcio ma non è un ghettizzarsi come diceva prima quel signore no? e quindi dice ci si mette da noi a giocare a pallone perché? per loro giocare a pallone e fare tornei omosessuali significa sentirsi liberi cioè il sentirsi liberi significa fare gol e andare a baciare il proprio compagno che magari è a bordo campo o che è in campo con loro questo significa giochiamo anche noi e questo da qui è nato il mio libro leggendo il tuo libro effettivamente parli di un mondo dove come dire l'omosessualità sembra il calcio gay il calcio a livello lgbt diciamo è un mondo fantastico no? almeno sembra sembra un mondo meraviglioso dove funziona tutto dove siamo tutti amici questo mi fa quasi sperare farebbe quasi sperare che andando a livelli più alti ci fossero delle aperture iniziassero a esserci delle aperture qui citi anche Damiano Tommasi a un certo punto dove che insomma sembra quasi afferma che il calcio il mondo del calcio forse è pronto per aprirsi ai coming out no questa è la tua è l'impressione che hai avuto anche te o è quello che hai avuto no io ho fatto uscito Damiano Tommasi al quale Damiano Tommasi è arrivato il libro e Damiano Tommasi a me non mi ha mai risposto io so che il libro gli è arrivato Damiano Tommasi e quindi però Damiano Tommasi non mi ha mai risposto quindi quello che significa apertura del calcio a livello professionistico ancora siamo molto molto distanti prova ne è che io avevo chiesto dei contributi perché io facendo appunto la giornalista sportiva di calciatori anche ad Arezzo ne sono passati diversi e quindi avevo chiesto dei contributi ai calciatori agli allenatori ex allenatori ex calciatori e tra questi qui l'unico contributo che è arrivato è stato quello di Thomas Locatelli perché tutti gli altri mi hanno detto no grazie ma noi con questo argomento non ci vogliamo confondere quindi questo proprio vi dà la dimensione di come ancora siamo molto distanti dal che il mondo professionistico quindi io dico il mondo della serie A della serie B ma anche della serie C sia veramente distante e sia c'è una un qualcosa che c'è un muro ancora da abbattere e è veramente difficile abbattere questo muro e ancora non abbiamo ben chiaro se sia un muro che si abbatte dentro uno sfogliatoio oppure sia il muro che deve essere abbattuto con i tifosi perché sono loro la cosa che più spaventa il calciatore che deve fare che vorrebbe fare non deve fare perché nessuno è obbligato a fare ma il calciatore che vorrebbe fare coming out è frenato anche molte volte dai tifosi stessi perché lo stesso Thomas Locatelli dice se un grande campione facesse coming out poi la domenica dopo deve tirare il rigore e sbaglia il rigore allora perché lo sbaglia il tifoso che cosa dice lo ha sbagliato perché è gay e quindi ha sbagliato il rigore per questo motivo cioè ancora siamo dentro un circuito dentro una cosa dal quale è difficile venirne fuori quindi il calciatore prima di tutto si sente un po' i ragazzi che hanno raccontato le loro storie ovviamente raccontano di storie c'è anche qui la testimonianza di un calciatore che ha giocato in Serie A e lui senza nome sì e lui praticamente ancora oggi si chiede un calciatore che ha giocato in Serie A e al quale non è stato rinnovato il contratto e lui ancora oggi si chiede il perché non gli è stato rinnovato il contratto e se quel contratto non gli è stato rinnovato perché avevano scoperto che era gay quindi dice io giocavo dentro questo spogliatoio i ragazzi giocano dentro gli spogliatoi di etero e dicono che la sera prima magari sono andati fuori con la fidanzata quando invece sono andati fuori con il fidanzato perché fanno questo perché hanno paura del giudizio degli altri cioè quando uno dice c'è la paura del diverso io chiedo sempre ma chi è normale cioè che cos'è il diverso che cos'è diverso e soprattutto ma chi è normale oggi è questa la cosa io continuo all'inizio quando ho cominciato a scrivere questo libro chiamavo i ragazzi e così parlando con loro gli dicevo ma si riconosce un gay da un etero quando giocano a pallone all'inizio anche qui è vero Paolo con loro ci siamo qualcuno però poi ovviamente ci siamo messi a ridere perché è una cosa incredibile fare ma come si riconosce un gay da un etero in mezzo al campo ma via io l'ho visto giocare poi questi ragazzi tornei eccetera vi posso assicurare che picchiano menano come un etero e fra gli incontri che hai fatto durante questa tua esperienza c'è stato anche l'incontro con il Revolution Soccer di Firenze di cui abbiamo oggi Paolo come è nata quando è nata la squadra di Revolution e come mai è nata la squadra la storia della parte sua è la storia sì ovviamente io non so più perché a parte gli stampelli che è il presidente cioè l'organizzatore di questa squadra però è un'idea che ha detto Paolo e così via che è venuta a due o tre che ci conoscevamo e che abbiamo messo degli annunci su queste chat gay tipo che c'era Mirk insomma delle chat perché ci andavamo in modo poter trovare dei calciatori gay che potessero giocare tra di noi e infatti qualcuno si è trovato qualche volta abbiamo giocato 4 contro 3 perché all'inizio è anche difficile trovare persone disponibili a giocare perché a chi aveva problemi di cui fate essere gay chi aveva problemi di cui fate non saper giocare cioè tutto è un po' più problematico noi fra il il se il faceto abbiamo pensato a una scuola gay proprio perché ci è sembrato che il calcio fosse il vero nodo macista della società in generale italiana in particolare cioè lo sport di cui in Italia si parla continuamente a cui tutti vengono in contatto anche a chi non lo segue perché se ne parla in televisione nei partiti lo sport praticato è un capitato importante infatti ed è il portatore di questo di forti istanze fasciste di genere perché perché rispecchia quello che è la società la società italiana è una società molto macista infatti prima dicevi cioè vai a fare la calza magari ti dicessero così cioè io mi ricordo quando ero bambino c'era di un gatto di donna a volte se l'hai andato bene gli dicevano hai posto il fischietto fatti mettere una per la anche recentemente se andava bene oppure vai a farti trombare e non c'era ragazzini cioè io mi lo ricordo bene a 8, 9, 10 anni succedeva questo no invece qui sono più lavori femminili cioè qui c'è più l'offesa per il lavoro femminile dallo straccio anche dai lo straccio no ma infatti ora tu dicevi giustamente sono ruoli non si lascia lo può fare no basta fare così infatti non si infortuna non lo può fare però insomma è proprio la loro organizzazione e quel cosa comporta quello lì cioè fare la calza e girare il sugo è perché in Italia la loro donne punto e basta cioè nel senso no ma io il sugo lo so fare io lo so fare benissimo però insomma indipendente da questo è una cosa individuata fra le cose prettamente femminili ecco proprio femminili cioè le donne fanno quello si prendono il rossetto fanno cioè è un mondo che i uomini non possono toccare perché loro sono maschi di maschio eccetera eccetera e loro invece pensano le donne in teoria ma questo è un retaggio finché non si mescolano finché non si abbattono questi stereotipi di genere si va un po' con la e il fatto di prendere il calcio e di metterci i buchi cioè i gay a a giocare che è una cosa che per tanti fanno ma come si può si può fare ci è sembrato che fosse in sé una cosa un'istanza abbastanza interessante infatti per le persone più sensibili la signora Luzzi oppure su di noi hanno fatto addirittura un documentario per descrivere questa situazione con interviste a Prandelli a Costa furta che al calore volta si dichiarano essendo più illuminati che tanti altri calciatori che non c'è problema siamo tutti uguali questo è se si va a prendere i simboli che hanno un'apertura mentale un po' più aperta si trovano anche nel calcio però il calcio è un fenomeno ancora fortemente legato alla società che è una società macista e di genere ed è una cosa che il calcio interiorizza e come dice pubblicizza fa da casa la risonanza cioè nel senso quando si parla di calcio si parla di non uno sport per signorine che è una frase che è sempre dita quando sono pure il calcio femminile è una realtà in Italia dal punto di vista dei risultati superiori a quello maschile cioè adesso ci sono mondiali cui l'Italia parteciperà e l'Italia è anche mondiale maschile non ha partecipato quindi se si guarda i risultati anche i risultati anche qui è un po' problemato però questi sono i motivi per cui si gioca si gioca a calcetto anche perché è un'attività sociale cioè nel senso che aggrega delle persone che come andare in discoteca gay in un bar gay cioè nel senso è aggregativo perché specialmente tra ragazzi molto giovani che si scoprono gay giocare a calcio cioè giocare una cosa maschile gli sembra di non fare una cosa così gay e quindi è un approccio che possono sostenere e attraverso la conoscenza con altre persone che gioano a calcetto e che hanno delle esperienze di valutativo però con cui confrontarsi è un luogo dove ci si può confrontare e socialmente anche divertire cioè i medici a calcetto che si parlava prima sono posti in cui si gioca artisticamente però sono posti dove si va a cena tutti insieme si va in disco tutti insieme cioè esiste anche un aspetto sociale un aspetto sociale che mette in relazione le esperienze di tutti e fa una cosa che è tipica dei gay di confronto quindi non è che quando si scopre gay c'è la cosa in cui ora c'è internet però insomma anche questo è un po' forgiante diciamo così non è che c'è cioè sei nero e quindi hai una come si dice sai cosa fare sai a chi rivolgerti alla tua famiglia ai tuoi quando ti scopri gay non ti puoi rivolgere alla tua famiglia alla scuola a nessuno perché chissà come si come si come si come che risposta è magari buone è sempre di più perché il mondo se Dio vuole nonostante tutto progredisce però non sei sicuro che ti può succedere però hai bisogno di sviluppare la tua identità perché l'identità è una cosa che ti ha bisogno di far sviluppare hai bisogno di far vedere hai bisogno che ti appartenga e quindi è inutile dire cioè in senso da una parte da un'altra questa cosa va tirata fuori va tirata fuori e va tirata fuori in maniera sociale e va tirata fuori cioè è facile giocare in una squadra gay pittier calciatore da un punto di vista come dire sociale cioè tu qual è la tua allora da un punto di vista sociale sì è più semplice perché comunque quando uno gioca in squadre FGC ma anche giovanili insomma ora lasciando perdere perché per quanto riguarda è anche importante fare una distinzione fra Wisp e quella FGC perché in realtà le problematiche derivano quasi tutte da FGC oggi in una squadra giovanile è un problema se non sei accettato perché comunque già da bambino devi abituarti a nascondere certe realtà quindi sì poi quando scopri che esistono le realtà potete in realtà oltre a poter giocare allo sport che ti piace davvero puoi anche sentire te stesso quando sei negli spogliatoi quando vai a cena quando ti ritrovi nel pregare sì è fondamentale cioè tutta la vivi in maniera molto ma forse anche più agonistica condividi veramente non hai neanche la paura di poter essere scoperto perché poi c'è anche quell'aspetto lì quando sei circondato di persone che per te rappresentano un potenziale pericolo anche perché quando non hai fatto una menata né con la famiglia ma diceva Paolo non hai dei punti di riferimento la paura che ti possa scoprire anche un compagno di squadra è grossa è forte quindi questo non ti aiuta neanche a vivere l'agonismo al di là del campo e quando tu giovi in una squadra dove sono tutti come te beh sì questo te la fa vivere in pieno quindi è molto più segno io volevo fare una domanda tanto bisogna chiudere perché i tempi sono stretti l'ultima domanda Francesca rispetto al libro che ho letto è molto interessante volevo dire se tu stimolante il fatto del calcio ma secondo te più stimolante cioè hai cercato il calcio perché come diceva lui la risposta è quella che è l'ultimo l'ultimo diciamo l'ultimo tassello per arrivare se tu avessi scelto un'altra disciplina un altro sport avessi magari saresti stata meno stimolata a ricercare questi stereotipi non nel calcio ma in un'altra disciplina pallavolo o un altro sport no io ho scelto il calcio proprio perché ripeto un po' partendo dalla mia esperienza personale e un po' perché veramente il calcio è proprio il mondo maschile maschista per eccellenza se tu guarda le pubblicità le pubblicità che ci sono nel calcio sono pubblicità che inneggiano la virilità maschile quindi non c'è il calcio è nato per gli uomini è inutile dire uno dice in queste cose però è anche vero bisogna anche fare il ragionamento opposto cioè che siamo noi donne così come i gay che si sono avvicinati poi al calcio cioè che praticamente hanno sono cercati di entrare nel mondo che è un mondo nato solamente per gli uomini quindi è anche difficile cercare di di aprire delle porte dove che all'inizio erano sopprettamente maschili però è anche vero che se uno invece che aprire le porte deve buttare giù i muri è ancora più difficile il cammino è veramente tanto tanto difficile questo calcio compreso gli arbitri sì compreso gli arbitri perché qui c'è anche la storia di un arbitro di un arbitro che aveva cominciato nell'AIA e praticamente anche lui quello che racconta lui secondo quello che racconta lui questo arbitro gli erano state fatte delle foto perché andava ad arbitrare dei tornei omosessuali perché erano semplicemente dei suoi amici gli erano state fatte delle foto e le avevano mandate agli organi federali e da qui secondo lui lui poi ha deciso di andarsene e adesso è un arbitro WISP e lui dice io sono molto più felice molto più libera adesso che alleno sotto la cosa della WISP proprio perché secondo lui anche lui era stato mandato via o meglio dire insomma lui ha preso la decisione di andare via proprio perché era un arbitro perché era gay avevano scoperto che era gay quindi qui c'è un po' dentro questo libro è stato un po' raccontato questo che è il mondo del calcio dal giocatore ovviamente poi l'arbitro c'è la storia di Marina per esempio dentro il libro che a me mi ha colpito molto che oggi che oggi allena Marina oggi allena la squadra dove lei giocava una volta quando era un uomo quando era un ragazzo e la sua storia a me mi ha colpito molto specialmente dice c'è stato un punto lei racconta mi ha raccontato del suo cambiamento adesso lei è una donna a tutti gli effetti e dice per me il momento più incredibile è stato quando io mi sono rimessa la mia tuta che avevo quando ero un uomo e la tuta mi andava stretta perché adesso avevo il seno quindi c'è è stato un cambiamento è stata una cosa e lei è stata rivoluta come allenatrice adesso allena adesso sono in terza categoria della squadra dove una volta allenava da uomo grazie mille grazie a tutti io penso che Emanuela posso dire una cosa sì io ho questa percezione nel calcio che tutte le volte si sottovaluta la bombina perché non ci sono i dati statistici cioè non ci sono tanti è vero non ci sono tanti insulti omofobici proprio perché è più serio perché non ci sono ben dichiarati cioè di più delle volte gli insulti che avvengono anche negli altri sport cosa deve essere invece per gli altri che le esplicative passa sempre ok no è vero perché quello che succede l'insulto omosessuale non passa perché magari passa di più l'insulto del ragazzo di colore piuttosto che quello che ha tradito la maglia passando un'altra la squadra e più delle volte alcuni dicono che tu dammi i dati statistici dove mi fai vedere che veramente è un problema sociale e lì c'è un problema cioè secondo me non c'è più questo problema che c'è questo muro da rompere per il semplice motivo che non c'è neancora un giocatore che ha fatto il camminato perché nel momento in cui lo fai ovviamente ogni domenica preferiscono smettere esatto e c'è anche il doppio problema secondo me è legato ai dati che era il discorso che facevamo anche oggi a parte la ricerca della UISP fatta con l'università di Napoli se uno vuole vedere le università sportive non ci sono delle tesi non c'è una nomenclatura universitaria cioè non ci sono dei documenti statistici dove tu hai dei dati quindi puoi iniziare a lavorare da quel lato lì secondo me è un problema c'è la negazione comunque nel calcio c'è la negazione che nel calcio i gay non esistono è successo a me è successo a me guarda a me è successa una cosa io sono andata alla presentazione di un libro di un giornalista aveva fatto 13 storie su calciatori importanti e all'ultimo ha detto dice io volevo fare la quattordicesima storia che era quella di un calciatore mi piaceva raccontare la storia di un calciatore omosessuale e ha detto e dice però non l'ho trovato quando io sono andata a portargli la quattordicesima storia lui a me mi ha detto ah ma loro esistono cioè come esistono certo perché nel calcio ancora nel calcio professionistico ancora si nega che ci siano giocatori omosessuali è una cosa incredibile non c'entrano di statistiche per negare delle assurdità esatto è quella la cosa sulla base di fatto è dire che non esistono giocatori omosessuali da nessuna parte è un'assurdità non c'è bisogno di numeri assurditi cioè nel stesso non è solo il calcio solo che il calcio passa da maniera ma nella moto mondiale solo una volta tutti i motociclisti in passato tra cui Valentino Rossi aveva detto che c'era un motociclista gay che non era dichiarato si era dichiarato a loro e tutti lo hanno fatto ovviamente blocco nei confronti dei giornalisti ma sia il moto mondiale che la formula 1 che il calcio non esistono no non esistono perché perché appunto li devine perché non sono dichiarati comunque c'è un altro aspetto che forse è ancora più importante di quello sociale che non si sottovaluta nello sport professionistico ma che a quei livelli è più importante che sono gli sponsor quello è cioè vedete se è un calciato professionista con degli sponsor che ora non lo so cosa succederebbe a livelli altissimi magari se nel 3 o 4 reggerebbero l'urto però tutti gli altri ragazzi se diamo a dare un genere che lo dopo gli salta tutti i contratti e quindi guarda io il discorso che facciamo stamattina non lo so perché abbiamo ad esempio adesso delle gonne e le gonne se ti tratta è vero giovane ma quindi vuol dire che è tutta la carriera che attualmente è una delle giocattie le gonne le gonne le gonne le gonne potrebbe essere un esempio assolutamente dall'altra parte molte volte alle società sportive faccio gli esempi di voi andate a vedere ad esempio Milano Pride Roma Pride le aziende che sponsorizzano e che danno soldi cioè c'è un mondo diverso dal concetto della sponsorizzazione della pubblicità un po' perché c'è proprio una sensazione diversa ma manca proprio anche la cultura da quel lato lì cioè hanno delle paure che in realtà secondo me poi nella realtà non esistono magari esistono ma andrebbero condannate anche la politica formale legata quando si parla di queste cose sarebbe importante anche intervenire da un punto di vista legislativo secondo me quindi non soltanto sociale però voglio la spiegare il calciatore gay non esiste la calciatrice lesbica esiste è una cosa incredibile è questo è accettato è questa la cosa cioè è una cosa però per più a me la cosa che mi ha colpito e lo dico in varie occasioni è che giocatore gay dichiaratamente gay di una squadra delle nozze che alla fine dice appunto giochiamo noi froci giochiamo ma giochiamo da maschi siamo maschi non siamo come quelle quattro lesbiche che giocano così cioè quindi ah sì vabbè scusami però devo dire scusate l'altro ha proprio di stereotipi scusami no ma questo è un stereotipo cioè è come quando Materazzi ha il figlio di cuttana Zidane in campo è una cosa normale anche quando siamo ragazzini insultarsi per cui appunto il problema nasce da ancora prima mi aspettavo una tensione in più ma non nasce dal fatto di essere io lesbiche è proprio un problema alla base delle scuole calcio di chi allena degli educatori no lo stesso come dire abbiamo bisogno di lavorare anche lo fatto di dire che mi dispiace maschietti è chiaro che gli sponsor di mangiare scusami maschietti non è vero che ci sia questo contatto e le donne rimangono come dire appunto diciamo all'arbitro cosa diciamo che siamo figli di troia cosa diciamo come offesa molto spesso è la donna la prima ad essere colpita purtroppo rimane questo lo spavolgo che c'erano prima c'è la questione c'è un'idea di mascolità rispetto alla quale nemmeno gli uomini che escono ad applicare cioè veramente fare insomma a Bologna si rende conto che non è proprio così insomma la realtà molto molto aperta quella di Bologna ragionando cioè lasciando stare i casi che fanno eccezione ragionando la mia di massima e questo secondo me è un intent che sentono anche gli uomini cioè c'è un'idea per formare il maschile e la mascolinità molto precisa in una cultura come la nostra e rispetto a questa idea tutti siamo in qualche modo come dire costretti ad andare in idee lo sono anche i uomini dei secondo me a questo modello in certi contesti più che in altri non so se vi posso spiegare cioè è chiaro che il contesto della vita di tutti i giorni dove c'è dei tuoi zone di comfort di comfort rifiuti quel tipo di modello e non è una gabbia per te anzi lo puoi tradire quel modello in qualche modo andare in un'altra direzione però ci sono altri contesti in cui appunto questa cosa cale io mi è capitato comunque c'è un distinguo cioè io faccio sport da uomo anche se sono che in una modalità che è quella che ci si aspetta da me è molto diversa dal modo in cui lo fanno le donne lo stesso sport anche se lesbiche cioè questa cosa io la trovo coerenza con un sistema complessivo che vede una disparità quello è chiaro ci sono disparità tra i geni ma in te se non è il gioco ma è lo stesso quindi qual è il tipo di approccio in differenza in un rapporto con una scuola lesbia per virgolette una scuola gay no per esempio il ragionamento sulla capacità sulla competenza sulla performabilità no e comunque è sempre quello no c'è una superiorità che si trova ad agire a crescine no comunque sei una donna anche se sei una malattica o capace a giocare al calcio ma quando vivo però c'è una scuola maschista maschile questo ma stile la storia di appunto di dichiarazioni di giornalisti che dicono non si può vedere una donna che è appunto l'assistente arbitro avete sentito tutti piuttosto che poi noi arrivai che ci dice che se ti parla di strategia una donna gli torni esatto esatto un telecronista è addirittura una bestia di grande ma tipo tu sei ma non non parli di quello ma che sia il suo esatto no 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 un telecronista che ha l'era che non so che c'è ma perché il problema è sociale non è tanto sportivo sì Paolo voleva una cosa Paolo anche perché tempi si allungati chiudo 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 perché gli uomini giocheranno magari con l'uomo quando di giocare perché è un gioco da uomini non da signorine così come come le donne sono quelle che devono fare altre cose se non gli va per niente perché però lì sono da secoli e lì ma quando uscire da lì vuol dire anche prendere la scienza poter giocare poter usufruire di tutte le cose che usufruiscono come al processo che io sono abbastanza vecchio per ricordarmi il calcio femminile degli albori che era proprio considerato ma neanche sport delle anni capate di adesso c'è una sensibilità diversa da pochi anni è non sufficiente ovviamente si iniziano degli stati pieni anche nel calcio stati come la l'avversario c'è l'organizzabilità del sole è una cosa impensabile nel 1984 prima di tutto ma anche in Fulila c'è anche molto abbastanza c'era un altro intervento Paolo al volo per cui prima di lasciare il presidente non sperimentare quanto diceva la manuela noi per esempio abbiamo avuto sono 35 anni e questo problema ci ha avendo anche il misto c'è anche per i giovani donne e uomini sempre vanno negli spogliatori che seguono e fanno le processi neanche ma non c'è questo problema cioè credo sia anche una nostra forma che se no quella di comunque perché Fabrizio prima ti raccontava un altro che i problemi avevano avuto a Firenze c'era una squadra di ragazzi che ha giocato per degli anni e ora che hanno smesso gli anni passano a tutti ma c'è chi parte all'allenatore eccetera eccetera per cui il problema se in caso è che appunto abbiamo forse più forme mentali noi che vogliamo fare di più a tutti gli altri primati ma voglio dire ci sono anche poi altre situazioni che si possa risolvere per come dire allenare oppure per aiutare questa situazione e i movimenti tutti insieme perché ci sono degli alternativi in visto di una di queste sì no però prima appunto diceva che va da 30 a 50 sì no no ci vedo però appunto prima il signore diceva si tende a minimizzare ma anche dica così è minimizzare il problema perché è vero che esista in realtà bellissime sicuramente però se no si fa del loro in pace prima dicendo di Bologna ma che esistano le realtà che funzionano sicuramente ma sono però che c'è una volontà sì è chiaro che ci sia una volontà e che esistano già che funzionano va bene no ma forse l'hanno preso come esempio ma per partire da prima perché il problema è proprio di edulazione cioè proprio alla base ma a quel lavoro ho fatto un lavoro di integra ma sì ma sì ma 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 se non si comincia a farlo già dalle ore di emozione fisica a scuola vai da fuori vai da fuori siete voi avete mezz'ora di tempo per raccogliere un po' questa giornata e dire però anche come un po' ci vediamo gli altri dati cosa facciamo quindi anche di essere molto concreti proposte eccetera mi pare che non le poi siano arrivate con le sollecitazioni parto io Luciano io prima di diciamo di entrare un po' nel appunto nel concreto credo che a parte diciamo chiaramente l'associarsi ai ringraziamenti Archigay Wisp ringrazio anche tantissimo relatori e formatori che chiaramente hanno arricchito la giornata l'ospitalità del CONI tutti i relatori io la dico così credo che abbiamo ci siamo dati un'ulteriore occasione di conoscenze di approfondimento che su soprattutto temi di questo tipo non dico che non guasta mai che sarebbe un luogo comune credo che sia una necessità e noi su questo dobbiamo crescere costantemente parlo parlo della Wisp ed è una cosa che grazie anche al contributo grazie a Manolo per la sua presenza come invitata permanente in qualità di Presidente del Consiglio Nazionale in direzione nazionale noi ne abbiamo fatto diciamo un punto qualificante di quello che è il tema fra le tante cose di cui la Wisp si occupa tema dei diritti in generale quindi grazie per tutto questo secondo tema siccome qui adesso ci sono i presidenti diciamo delle due associazioni mi piaceva fare una sottolineatura per poi entrare nel merito che credo sia anche una sottolineatura diciamo di contesto di che cosa possiamo fare del perché lo facciamo la sottolineatura di contesto secondo me va fatta in questo senso cioè non è che noi siamo ci svegli alla mattina e come Wisp c'è il tema LGBT trattiamo il tema LGBT perché magari è bello interessante c'è una questione etica a me piace sottolineare che queste due organizzazioni almeno sicuramente la Wisp c'è un'idea di società il punto è che a me piace sottolineare in occasioni del genere questo è un seminario un approfondimento formativo è un confronto fatto da organizzazioni che credo si possa dire visto che siamo dentro la federazione Arce anche su una serie di esperienze c'è un confronto rispetto ad una condivisione di idea di società come la vuoi vedere questa società soprattutto oggi è stato ripreso anche da da chi ha portato i saluti diciamo stamattina dai relatori eccetera è una società inclusiva o una società di deriva diciamo del rancore della discriminazione del razzismo bla 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 noi siamo perché è una società nonostante gli attacchi soprattutto sul tema dei diritti come si diceva quindi noi dopo 70 anni dal 1948 ad oggi essendo nata la WISP nel settembre del 1948 come voi sapete quindi come a me piace dire a braccetto con la Costituzione italiana e noi voglio dire siamo coloro che e questa è l'altra sottolineatura che appunto mi piace fare a proposito di visione di mondo e noi siamo un pezzo come anche Arcigay di eredità non solo dei valori messi all'interno della Costituzione italiana ma noi siamo un pezzo di articolato della Costituzione italiana comma 2 articolo 3 della Costituzione la Repubblica rimuove le disuguaglianze e via dicendo la Repubblica quindi società civile istituzioni e corpi intermedi quindi organizzazioni sociali associazioni altro articolo 18 della Costituzione la libera associazione e che sono tutte diciamo elementi articolati che permettono di ragionare e di capire il ruolo che noi dobbiamo assumere rispetto a quindi noi siamo sostanzialmente ancorati in quella in quell'idea e in una visione in una visione di società questo diciamo mi piaceva appunto anche sottolinearlo e noi nel settantesimo abbiamo voluto caratterizzare anche la presenza della UISP nel rilancio in un contesto storico difficilissimo che non è soltanto lì diciamo c'è stata una recrudescenza contestuale congiunturale il congresso famiglie cui si parlava c'è un contesto congiunturale c'è un governo c'è un Europa però è da qualche tempo che il tema dei diritti nonostante anche di recente il comparto fatemela dire così dei diritti civili avesse anche un attimino avanzato dal punto di vista legislativo nello stesso tempo oggi c'è un contraccolpo e la necessità di dover tornare indietro la UISP perché promuove la pratica sportiva e attraverso la pratica sportiva vuole legittimare e lanciare il messaggio che è lì è un pezzo di percorso attraverso cui ci si emancipa uomini donne gay transessuali e persone direi io e persone la UISP è uno strumento una storia facce uomini e donne che hanno fatto e vogliono continuare a fare percorsi di emancipazione essere uno strumento facilitatore di conquiste costanti di civiltà quindi di diritti in società civile come la fai questa cosa? noi siamo un'organizzazione di sport e vogliamo sempre di più caratterizzarci come un'organizzazione di sport e per fare questo a proposito della tavola rotonda che si faceva io sono perfettamente d'accordo con l'idea abbiamo dei punti di eccellenza siamo organizzazioni all'interno dello stivale italico quindi la cosa se si ferma a Napoli a Napoli si fermano tantissime cose purtroppo di questo paese e quindi con la consapevolezza anche un elemento pratico mi verrebbe da dire Luciano mappatura anche come dire di quelle che sono le realtà che noi stiamo toccando le punte più avanzate questo libro attraverso il coinvolgimento delle università di Napoli esperienze di associazioni di ASD che ci sono sul territorio reti e quando si dice reti oggi e chiudo diciamo la prima parte che volevo quando oggi si dice reti c'è anche un altro elemento di concretezza che io voglio mettere stiamo vivendo tutti come associazionismo come mondo del terzo settore di questo paese il diciamo momento che è legato alla riforma del terzo settore italiano che permette alle organizzazioni anzi oggi utilizziamo a proposito di linguaggio il termine giusto agli enti di terzo settore quindi non solo organizzazioni sociali ma agli enti di terzo settore di poter agire per avere un riconoscimento così come sta facendo la WISP di associazione di promozione sociale noi già ce l'avevamo con la 383 quindi stiamo facendo un lavoro sullo statuto per avere conferma di riconoscimento di associazione di promozione sociale oltre che di ente di promozione sportiva nel CONI e quindi abbiamo già predisposto il nostro statuto ne stiamo discutendo e l'articolo 55 e 56 del codice del terzo settore decreto legislativo 117 del 2017 parla di coprogrammazione e di coprogettazione i soggetti gli enti di terzo settore che verranno riconosciuti dal registro unico nazionale che ancora non c'è perché non c'è il decreto che l'ha istituito e beh di fronte a questo hanno un rapporto avranno un rapporto privilegiato nel momento in cui avranno un riconoscimento non so adesso il percorso Luciano Di Arcidei rispetto a questa cosa diciamo non immagino voglio dire che si stia andando verso quella direzione è evidente che lì si apre un altro elemento di concretezza io credo che il tema sia oggi fare tesoro e capire il patrimonio che fino ad oggi siamo riusciti a conquistare sulle tematiche LGBT le buone pratiche che abbiamo messo in campo qual è rispetto a quella mappatura l'idea nell'incrocio tra saperi conoscenze scienza perché abbiamo bisogno di questo a cominciare dal sottoscritto per essere molto chiari qui non è fuori nessuno rispetto a quello che è l'elemento della sfida se vuoi essere credibile se vuoi essere davvero il soggetto facilitatore per la conquista di diritti per l'affermazione dei diritti questo diventa un altro degli elementi di costruire anche forme proprio di alleanze pratiche per dire si apre un pezzo di progettazione sociale nel momento in cui noi lì saremo riconosciuti e allora su questo il tema non è forse chiamo la WISP o forse chiamo Arcigay perché c'è un progetto che da qualche parte si apre ma magari condividere capire come si possano condividere un vero e proprio sistema di alleanze che interviene nel rapporto sussidiario con enti locali regioni ministeri istituzioni e quant'altro ultimissima io credo che sia anche interessante lo diceva responsabile sport di Arcigay perdonami non so se parlate il tema diciamo del riconoscimento normativo verticale facevi riferimento del coni e robe eccetera io credo che su questo spesso e volentieri parlo della WISP quindi non so Arcigay ma parlo della WISP spesso e volentieri c'è una riforma la WISP discute noi stiamo discute chiaramente dice la propria come tutte le organizzazioni noi da qualche tempo stiamo facendo un ragionamento un po' di una modalità in cui ci si attrezza anche in termini preventivi cioè diciamo promuoviamo noi un progetto di legge attraverso poi parlamentari piuttosto che diciamo organizzazioni questo è un altro diciamo secondo me degli elementi in cui si interviene sulle norme di federazioni norme diciamo anche degli statuti degli enti perché no che possono migliorare noi abbiamo trasferito e sto zitto davvero nella nostra ipotesi di statuto l'articolo 5 del codice del terzo settore che prevede le attività di interesse generale e le abbiamo diciamo no diciamo dal punto di vista appunto di diritti interventi sociali e quant'altro ecco su questo diciamo un altro credo terreno per cui si potrà diciamo lavorare insieme in termini di concretezza grazie riprendo e rinsaldo la mia gratitudine iniziale e i miei complimenti per l'evento che è stato progettato in maniera eccellente è stato anche agito e vissuto con grande partecipazione da parte di tutti e tutte e sento anche io di condividere il grande senso della urgenza storica e della responsabilità storica per il momento che viviamo da un punto di vista generazionale da un punto di vista culturale e sociopolitico sento poco il senso della fase nel senso che non è possibile che sia successo solo negli ultimi 12 mesi che ci siamo scoperti e scoperte usiamo le parole razzisti sì ci siamo scoperti omofobi ci siamo scoperti persone che sono conflittuali verso tutte le identità sessuali ci siamo scoperti abilisti ci siamo scoperti sessisti macisti no evidentemente ci siamo raccontati e raccontate un paese che credeva di aver fatto pace con usiamo le parole col significato storico col fascismo ci siamo raccontati e raccontate un paese che credeva di aver fatto pace con i fantasmi di tutte quelle gabbie stereotipiche di tutte quelle gabbie culturali che classificano l'umanità in persone di serie A persone di serie B e poi tutta una serie di classi al di sotto delle quali addirittura non ci sono quasi i nomi per chiamare le identità noi abbiamo una precisa responsabilità storica in questa fase una precisa emergenza che è quella di non poter più stare rinchiusi nelle nostre stanze a coltivarci il nostro giardino di cose bellissime come quelle che fa Archie Gay di cose altrettanto belle meravigliose come quelle che fanno un WISP di quelle che fanno tutti i corpi sociali intermedi è arrivato il momento in cui rispetto a un episodio come può essere ciò che è successo a Verona piuttosto che una interrogazione parlamentare piuttosto che una risoluzione qualsiasi nell'ambito dei diritti del lavoro nell'ambito della gestione del futuro della condizione della scuola e della sanità qualsiasi o nell'ambito della sanità non possiamo più stare al chiuso delle nostre stanze abbiamo bisogno di incontrarci abbiamo bisogno di condividere abbiamo bisogno di rispondere alla chiamata della storia perché non è soltanto sotto attacco tutta la questione dei diritti è sotto attacco un modello di mondo un modello di società che poi è il modello di società e di mondo per i vostri figli e le vostre figlie perché a me in Italia non consentono ancora di adottare ciò che è sotto attacco e il tipo di società con la quale avremo a che fare nei prossimi anni è un mondo che avevamo immaginato abbiamo immaginato un mondo che si fosse completamente emancipato rispetto alla discriminazione alla marginalizzazione alla violenza e invece tutto ciò non è successo c'è ancora molta strada da fare è evidente che il modo per intersecare i nostri percorsi è innanzitutto la formazione l'istruzione l'educazione e la contaminazione tra noi abbiamo bisogno di contaminarci nei contenuti abbiamo bisogno di contaminarci nelle prassi perché ciò che è emerso in maniera molto chiara sin dal primissimo intervento e sono contento per ragioni anche di percorso personale e di ottica culturale entro cui guardo la questione le questioni di marginalizzazione e discriminazione che sono che hanno una componente cognitiva che parte dall'ignoranza io non so chi sei mi sembri un marziano e quindi non gestisco le informazioni che mi arrivano dalla tua identità e mi potrebbero mandare in tilt e causare atteggiamenti discriminanti al di là dell'aspetto cognitivo hanno una componente emotiva una componente emozionale una componente delle narrazioni umane che noi costruiamo sulle differenze che sono consustanziali alla componente cognitiva cioè non ci si può limitare a fare un libretto di istruzioni per l'uso quando si parla di contrasto alle discriminazioni non ci si può limitare a un ciclo di conferenze a un ragionamento abbiamo bisogno di incontrarci abbiamo bisogno di condividere tanto i contenuti quanto i processi tanto l'aspetto cognitivo quanto l'aspetto emotivo della discriminazione della marginalizzazione e di tutto ciò che poi apre quel mondo che addirittura riesce a contraddire il dato più evidente di realtà che è la statistica umana cioè prima è stata citata la federazione italiana gioco calcio uno un milione e quattrocentomila tesserati dato del 2016 2017 di cui 78% calciatori professionisti quanti ne conoscete dichiarati omosessuali c'è qualcosa che non va il dato dell'organizzazione mondiale della sanità dice che mediamente statistiche ribasso il 10% statistiche rialzo il 20% della popolazione mondiale vive una condizione che rientra in una minoranza sessuale c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non torna se addirittura una statistica evidente del mondo del calcio professionista vive una contraddizione con la scienza è evidente che abbiamo bisogno di favorire i momenti di incontro i momenti di concertazione i momenti in cui raccontarci e dirci come possiamo intrecciare il nostro percorso perché non ne va soltanto del che è comunque fondamentale del nostro individuale benessere di persone e del godimento pieno dei nostri diritti civili e di cittadinanza poter vivere il mondo dello sport della socialità e dell'incontro ma ne va anche esattamente dell'idea di società che abbiamo e del tipo di mondo che consegneremo alle prossime generazioni in questo senso è importante tornare in piazza insieme grazie può fare una sottolineatura sulla cosa diceva Luciano per dire quanto ecco come ci siamo svegliati o risvegliati diciamo all'alba degli ultimi fatti noi siamo adesso non so altre però noi abbiamo vissuta questa fase cioè nel nostro statuto prima del 2013 era scomparsa e noi l'avevamo avuta diciamo per lungo tempo per lunghi anni in un articolo del nostro statuto associazione antifascista perché eravamo tra quelle organizzazioni che evidentemente aveva pensato immaginato che all'interno di una democrazia matura tu non avessi bisogno di sottolineare perché l'avevi già comunque diciamo l'antifascismo conquistato nel 2013 l'abbiamo rimesso quindi come si diceva appunto prima il tema non è di oggi no? non è di oggi perché se sei un'associazione appunto sul territorio radicata sul territorio ti rendi conto a proposito di quello che diceva anche la dottoressa Modeo no? cioè a due anni e mezzo già la cosa è fatta ti entra già in casa e allora c'è qualche campanellino diciamo d'allarme io ho mio figlio di 20 anni che mi dice che nel suo gruppo rispetto ai temi culturali delle discriminazioni razzismo roba e quant'altro è abbastanza minoranza io gli aggiungo becera minoranza perché è quasi diciamo isolato e lo vedo diciamo le difficoltà a tener botta rispetto ad alcune cose quindi noi abbiamo anche davvero una grande funzione di tornare assolutamente noi da qualche tempo durante le celebrazioni del settantesimo mi si chiedeva cosa deve fare la UISP adesso deve stare in piazza che noi anche questa roba qua abbiamo immaginato essere una grande organizzazione radicata le società sportive o i soci che vogliono praticare sport vengono a prescindere perché sei una grande organizzazione riconosciuta oggi questa cosa qua è messa comunque diciamo in dubbio in difficoltà perché grandi organizzazioni altrettanto piccole sono comunque cresciute sono cresciute nel modo in cui noi tra l'altro le critichiamo esistono anche operazioni questo lo voglio dire perché non so se avrete avuto modo di vedere un nostro comunicato di questi giorni di queste ore alcuni enti di promozione sportiva UISP CSI PGS USACLI quindi diciamo mondo laico progressista diciamo così un pezzo di mondo cattolico dell'associazionismo sportivo di questo paese ha preso posizione rispetto ad un'iniziativa di altri nove enti di promozione sportiva sul tema della trasparenza dell'etica dei dati e della correttezza di come si intercettano risorse pubbliche non dichiarando poi effettivamente quelli che sono i reali numeri eccetera ma lì c'è una chiara anche operazione politica rispetto a quello che è no? al di là quello che si diceva sempre dell'autonomia diciamo dello sport rispetto a della politica anche se io su questo sono diciamo molto tranquillo nel sottolineare che nel momento in cui tu sei un'organizzazione che agisce immaginando una visione di mondo che è quella che abbiamo detto se io che è Luciano tu agisci la politica e io su questa cosa qua voglio dire nel senso che spesso e volentieri come accade appunto anche nei percorsi formativi quando cominci a dire no sei un'associazione antifascista no perché non ho fermato c'è una discriminazione anzi aggiungerei questo tema è tra i tanti articoli della Costituzione sostanziale che non si è ancora realizzato dal punto di vista delle conquiste uno di questi appunto è quello che si diceva anche prima nel trattamento economico del professionismo diciamo uomo-donna all'interno dello sport così come anche a parità di lavoro pari retribuzione come anche qui l'articolo 37 della Costituzione diciamo indica rispetto a quello che sono i diritti appunto e questo mi ha fatto venire in mente diciamo questo intervento che noi abbiamo fatto qualche anno fa dicendo no non è così questa non è una democrazia matura anzi comincia ad esserci qualche rischio quindi è bene che la UISP risottolinei rimettendola nello statuto che c'è la necessità e anche qui al di là delle speculazioni fascismo-fascismo ma è quella cultura quella cultura le spesse volentieri anche gli atteggiamenti di sottovalutazione che hanno determinato fasi storiche su cui noi vogliamo metterci non solo in difesa ma in un sistema di alleanze cominciare a dire lo sport che ha una visione di mondo sta da quella parte lì e vuole stare lì ed è una parte inclusiva una parte accogliente una parte solidale una parte appunto di civiltà tra l'altro grazie dello stimolo noi abbiamo insisto sulla responsabilità storica perché immagino che qui siamo tutti volontari e volontari attivisti e attiviste fondamentalmente persone appassionate della causa altrimenti il sabato pomeriggio staremmo giustamente con i nostri affetti a prendere l'unico giorno di riposo perché tanto poi lunedì mattina si è in mezza immagino mediamente suoni la sveglia a tutti e tutte noi abbiamo una responsabilità perché siamo i quadri dirigenti di organizzazioni che hanno una funzione pedagogica nella società e in cui i comportamenti le parole che si usano sono degli esempi concreti cioè la nostra prassi associativa e la prassi associativa delle nostre associazioni è uno strumento pedagogico i linguaggi che utilizziamo le possibilità che diamo alle persone che si relazionano con noi la possibilità la dicibilità delle identità all'interno delle nostre prassi sono fondamentali perché creano dei mondi e creano delle rappresentazioni se prendete per esempio il caso della storia della pedagogia delle differenze la storia della pedagogia delle differenze è emblematica di quanto effettivamente un approccio comunicativo pedagogico determini un'antropologia culturale prima degli anni sessanta e novecento non esiste una pedagogia delle differenze ma perché non esiste perché dal punto di vista del sistema culturale di riferimento non devo pormi il problema di chi non rientra in un paradigma che è un paradigma maggioritario cioè non c'è ragione non c'è ragione di fare una pedagogia delle differenze perché l'umanità dovrebbe essere orientata verso la rappresentazione di comportamenti scelte valori ideali delle maggioranze stop questione finita la pedagogia delle differenze entra grazie all'emancipazione femminile e femminista nella storia degli studi attraverso il racconto la narrazione socialmente accettabile della tolleranza e quindi entro un orizzonte di tolleranza quale sia il tuo orientamento sessuale quando schiaccia a rete non mi importa però poi andremo insieme negli spogliatoi e negli spogliatoi come funziona la tolleranza se io non ho messo mano a quel costrutto che mi fa leggere di te come persona omosessuale soltanto la tua identità sessuale non la tua identità di persona e come persona transessuale mi ti lega completamente soltanto alla sessualità anche la parola transessuale questa nevrosi linguistica l'abbiamo detto questa mattina è puramente italiana perché soltanto in Italia abbiamo una geminazione semantica transgender transessuale perché abbiamo legato le identità sessuali a quella preistorica visione della sessualità che si riduce a chi mette cosa a chi dove cioè che hai nelle mutande e che usano i fai eventualmente anche la narrazione dell'identità sessuale come soltanto legata alle pratiche sessuale o alla conformità fisica poi produce quel sistema per cui per fare un'autentica educazione delle differenze bisogna superare l'orizzonte di tolleranza e bisogna cominciare e questo lo abbiamo imparato dal femminismo e dalla emancipazione femminile che dalla conferenza mondiale delle donne di Pecchino nel 2005 salda la sua strategia nella decostruzione sociale degli stereotipi del patriarcato la salda alla strategia dei movimenti LGBT abbiamo imparato che non è sufficiente l'orizzonte di tolleranza ma che bisogna mettere in atto politiche proattive dell'inclusione cioè consapevole di quel gap di quella distanza ai blocchi di partenza che c'è tra generi tra identità tra persone tra componenti forti e componenti percepite deboli della società consapevoli di quello io ho la responsabilità di mettere in campo degli atteggiamenti proattivi ed oggi la pedagogia delle differenze assume anche un altro valore la possibilità di prevenire la violenza sociale la possibilità di intervenire come fattore educativo per intervenire prima che si verifichi la crisi perché nel momento in cui si è verificata la crisi una persona è stata esclusa da un contesto della socialità sportiva per identità sessuale ormai il danno è fatto probabilmente quella persona si è persa un pezzo di mondo e quel pezzo di mondo si è persa quella persona e noi sappiamo che maggiori sono le interazioni tra persone tra individui intelligenze e mondi emotivi esattamente come le sinapsi di un grande cervello maggiore è la possibilità che l'umanità intera sposti avanti il suo orizzonte di felicità semplicemente è questo grazie a tutti grazie a tutti esatto grazie a tutti c'è davvero una bellissima esperienza